Bene, buongiorno a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Signora, scusi, può dare la parola al segretario? Sì, buongiorno. Abbiamo il numero legale. Grazie. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nominio scrutatori. Consigliere Marcello Passoni. Consigliere e scrutatore. Michele Quaia. Isena Peresson. Dunque, risulta assente il Consigliere Lopipero Calogero e anche il Consigliere Cabibbo, per malattia entrambi. Arriveranno in ritardo i consiglieri Francesca Cardin, il Consigliere Franco Dalmas e il Consigliere Francesco Ribetti. Comunico che, senza l'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri anche in formato digitale e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico che è stata data risposta all'interrogazione scritta numero 15 2015 del 5 marzo 2015, presentata dal Consigliere Francesco Giannelli, avente per oggetto nuova viabilità invariante per via nuova di Corva, strada regionale 251. Anche il Consigliere Manzon arriverà in ritardo. Grazie. Bene, comunico al Consiglio le decisioni prese in conferenza dei Presidenti. Scusate. Allora, si inizierà con la presentazione unica di tutti gli argomenti all'ordine del giorno da parte dell'assessore e al bilancio Renzo Mazzer, con integrazione da parte dell'assessore Conficone e dell'assessore Moro. A seguire, esame e discussione di tutte le deliberazioni. La discussione sarà unica. Si procederà invece con separate votazioni, ovviamente per ogni deliberazione, e anche per quanto riguarda la dichiarazione di voto. Vi ricordo che la conferenza dei Presidenti e dei gruppi consigliari ha deliberato di non raddoppiare il tempo per gli interventi. Pertanto il tempo degli interventi per il primo intervento rimane 15 minuti, per il secondo intervento di 5 minuti. E' stato poi prevista una pausa di 10 minuti verso l'ora 19. Ovviamente si farà questa pausa di 10 minuti. Invito i consiglieri, lo dirò anche dopo, di rispettare i 10 minuti, così da vedere di riuscire a portare a termine i lavori nella giornata. E poi è stato previsto anche che verso l'ora 22 si faccia una verifica sullo stato dei lavori. Questo per decidere se proseguire o se rinviare a domani, come già vi è stato comunicato. Bene, allora. Sì, un attimo che deve partire il sistema. Grazie. 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 Grazie Presidente. Allora, anche io mi adeguo a quello che si è detto in Commissione Capigruppo, nel senso che la presentazione delle delibere che riguardano in particolare i tributi cercherà di essere il più sintetica possibile per dare più spazio possibile poi al successivo dibattito. Partiamo con la delibera numero 4, quella che è l'approvazione delle regole per la disciplina dell'imposta unica comunale che è di fatto il regolamento che disciplina tutti i tributi di cui disponiamo come amministrazione comunale. In particolare sono Tasi, Tari e Imu. Abbiamo fatto alcune correzioni anche ai refusi del passato che con l'occasione approfittiamo per mettere a posto. In particolare sono l'articolo 4.b, aree fabbricabili divenute inedificabili. Qui vi era una vecchia norma che era prevista in ICI che in Imu non è più prevista. Quindi il potere regolamentare di andare indietro con la ridefinizione del tributo sull'Imu sui terreni non più edificabili non appartiene più al regolamento perché la legislazione lo impedisce e quindi di fatto noi andiamo a modificare l'imposizione non appena questo terreno da edificabile diventi inedificabile. Quindi non c'è più l'arretrato da recuperare per i precedenti cinque anni. Un'altra modifica che viene fatta è un richiamo all'articolo 10.d, al punto 5 lettera b, c'è da comunicare entro i termini previsti dall'articolo 31, da comunicare entro i termini previsti all'articolo 25 barra di comma 4. Questa è solo una modifica nel regolamento attuale, quindi un refuso che era rimasto anche qui. L'altra parte riguarda gli occupanti delle utenze domestiche, in particolare voi sapete c'è la questione di chi non risiede, che risulta iscritto all'anagrafe, ma non risiede da più di sei mesi per motivi o di studio o di lavoro. Nell'intento anche qua di sburocratizzare come stiamo facendo l'ufficio tributi, nel senso che cerchiamo di mandare a casa tutte le notifiche possibili per evitare che le persone debbano venire all'ufficio tributi, lo facciamo anche per questa apposita opportunità che diamo soltanto con una casella di posta elettronica adatta e istituita nel nostro sito, che permette agli universitari o chi lavora all'estero di trasferire direttamente via mail le comunicazioni e la documentazione che serve, in particolare i contratti d'affitti che loro hanno in un'altra città o addirittura all'estero, con le dichiarazioni della loro permanenza per lavoro. Stiamo accertando anche di incrementare, soprattutto per quelli che sono all'estero, la semplice comunicazione di iscrizione all'aere, che di fatto fa venire meno tutti questi aggravi burocratici. Modifichiamo anche l'articolo 25 barra bis. In particolare ne parlerà poi l'assessore Conficoni, quando parlerà del piano finanziario dei tributi, perché daremo delle speciali agevolazioni per chi conferisce, soprattutto per i supermercati e gli ipermercati, che conferiscono alimenti in fase di scadenza alle onlus. Dopo ne parlerà l'assessore Conficoni, quindi io non mi dilungo. Un'altra agevolazione riguarda gli erogatori alla spina per detersivi, bevande e alimenti. Anche in questo caso, dove c'è un supermercato che ha questo spazio, dove si utilizzano contenitori riciclabili, abbiamo ritenuto di dare un'agevolazione, quindi non assoggettarli alla superficie della tassa rifiuti, proprio per incentivare questo tipo di comportamento virtuoso. L'articolo 28D viene modificato in alcune parti, nel punto 2, dove in precedenza c'era scritto come le colf che dimorano presso la famiglia, poi viene aggiunto e altri residenti nell'abitazione con un nucleo familiare distinto. Abbiamo visto che ci sono delle casistiche di più nuclei familiari nello stesso interno, nello stesso numero civico. Ecco, noi riteniamo che questo numero di componenti determini anche il quorum per la produzione di rifiuti. E quindi si tratta proprio di sistemare anche il regolamento a questa esigenza. L'articolo principale, comunque la novità vera, diciamo, dal punto di vista del regolamento, è l'articolo 29D, dove ci sono le contenute e presentazioni della dichiarazione. Qui noi abbiamo fatto un'articolazione un po' innovativa, tanto più che ci sono più comuni che adesso stanno cercando di chiederci il testo di questo articolo per adeguarsi. Per legge ogni tributo deve essere accompagnato da una documentazione cartacea con una firma del dichiarante. Quindi per assoggettare il tributo noi avevamo bisogno di questa dichiarazione. Noi, per agevolare l'utente e per automatizzare il servizio, per fare in maniera che abbiamo meno gente che viene all'ufficio tributi, ma soprattutto per fare in modo che comunicazioni che vengono fatte o all'anagrafe o alla scia non vengano poi dover essere ripetute anche all'ufficio tributi, abbiamo articolato una modalità che consente di spedire a casa la nostra informazione che noi recuperiamo dal servizio dello sportello unico e dall'anagrafe. Senza che l'utente venga all'ufficio tributi, comunichiamo a casa con una raccomandata che ci risulta che è cambiata la sua situazione o la sua ragione sociale o c'è una modifica. Gli diciamo come a noi risulta la nuova posizione e se entro 30 giorni non abbiamo nessuna notizia sappiamo che possiamo emettere la tassazione, la tarifazione perché di fatto l'utente è d'accordo con noi. Se invece entro 30 giorni viene a chiederci e a precisarci qualche altra modifica che lui ritiene ci sia stata e della quale non siamo a conoscenza, l'utente è libero di farlo. Cosa succederà? Che tutti i cambiamenti di anagrafe e tutti i cambiamenti che registriamo allo sportello unico di fatto non devono essere ripetuti anche all'ufficio tributi. Quindi semplificazione burocratica sia per i dipendenti sia per gli utenti è molta più comodità lo stesso per l'utente. Credo che siamo uno dei primi comuni che fa un regolamento di questo tipo e quindi siamo contenti di essere anche degli sperimentatori. E questo è la delibera numero 4. Adesso andiamo a delibera numero 5, imposta municipale propria dell'anno 2015, alicute e modalità di applicazione. Voi sapete che in fase di presentazione del bilancio noi avevamo sostenuto che per quel che riguarda i tributi non ci sarebbe stata alcuna variazione salvo una diminuzione sulla tariffa sui rifiuti, sulla tassa sui rifiuti. Naturalmente però abbiamo spostato quello che è l'importo di tassa che si chiamava Tasi non sulle prime abitazioni ma sulle seconde abitazioni e sugli altri edifici l'abbiamo unificata alla imposta municipale unica. Quindi IMU e Tasi su seconde abitazioni e su altri edifici non saranno più pagati con un doppio calcolo e un doppio F24 ma con un singolo F24 e una sola modalità di calcolo. Questo per semplificare anche qua la vita dei contribuenti. Quindi noi non abbiamo fatto che sommare l'1,25 al 7,6 per quel che riguarda le seconde abitazioni e gli altri edifici e l'1,25 al 4,6 per quel che riguarda le abitazioni secondarie diciamo non principali ma date in comodato gratuito a un genitore o un figlio. Quindi di fatto la somma è uguale alle due aliquote precedenti viene un'unità aliquota ma la somma è la stessa. Questo ovviamente va recepito anche con una deliberazione che ne testimonia questo cambiamento che è la delibera numero 5. Ovviamente anche per quel che riguarda la Tasi abbiamo dovuto precisare nella delibera che riguarda la Tasi che non ci sarà più la Tasi sulle seconde abitazioni e sugli altri edifici. Quindi la Tasi all'1,25 riguarda solo ed esclusivamente le prime case, la prima abitazione. C'è poi la deliberazione sul piano economico finanziario sui rifiuti. Lascio la parola qua a Nicola Conficoni, lo prego di essere breve perché è l'impegno che abbiamo preso. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. A me il compito di illustrare il piano finanziario della tariffa dei rifiuti e la relazione di accompagnamento che è un documento che descrive il livello di servizio offerto, gli obiettivi di gestione e che mette anche in luce quelli che sono gli indicatori economici ed ambientali che misurano l'efficacia e l'efficienza del sistema di raccolta smaltimento dei rifiuti oltre che del decoro urbano. Per quel che riguarda gli indicatori ambientali, la raccolta differenziata lo scorso anno è cresciuta arrivando a superare l'82%, quindi un dato assolutamente positivo che ci dovrebbe confermare al vertice tra i comuni capogli di province italiane per quel che riguarda la percentuale di raccolta differenziata. Per quel che riguarda la produzione di rifiuti complessive pro capite, c'è stato un aumento di circa il 5% rispetto al 2014 a causa di un evento eccezionale quale la donata degli alpini, al quale secondo lo studio che ha condotto GEA sono da attribuire 337 tonnellate di rifiuti prodotte. A questo bisogna sommare l'aumento della quantità di verde avviata a recupero dovuta alle condizioni meteo eccezionali. Voi sapete lo scorso anno è stato un anno in cui c'è stata una piovosità record. Noi contiamo quindi quest'anno di ridurre la quantità di rifiuti avviata a recupero e a smaltimento sia per il venir meno di queste condizioni eccezionali sia per una serie di progetti che l'amministrazione comunale è in animo di riproporre ed implementare. Tra questi alcuni citati dal collega che mi ha preceduto, le iniziative per contrastare lo spreco di cibo, una delle contraddizioni diciamo più stridenti del nostro tempo. Abbiamo un sacco di persone che soffrono la fame ma anche persone che hanno problemi di salute perché mangiano in eccesso e gettiamo via del cibo prima che questo venga consumato. È proprio per incoraggiare dei progetti che già oggi vengono portati avanti nel nostro territorio in modo meritorio da associazioni o da attività economiche. Ricordo il Banco Alimentare col progetto City Cibo ma anche l'Ipercop col progetto Brutti ma Buoni che intendiamo diciamo concedere un'agevolazione a queste realtà che devolvono il cibo al circuito della beneficenza e della solidarietà. Da citare anche la norma che appunto per incentivare la diffusione dei detersivi dei prodotti alla spina toglie dalle superfici soggette a tassazione quelle dedicate all'installazione degli erogatori propedeutici. È già avvenuta l'installazione delle casette dell'acqua. Intendiamo rilanciare il progetto dei pannolini lavabili. Si è concluso in questi giorni il progetto Rigiochiamo la raccolta, il recupero dei giocatori usati nelle scuole. Testimonianza che prestiamo anche un'attenzione per l'educazione ambientale. Intendiamo riproporre sempre sul versante della riduzione dei rifiuti anche il progetto EcoFest. Anche qui vorremmo cercare di fare un ragionamento con gli organizzatori finalizzato ad incentivare la riduzione dello spreco di cibo. L'altro obiettivo è il consolidamento e il miglioramento della raccolta differenziata. Contiamo di avviare a recupero alcune frazioni particolari, meno significative che oggi sono state non considerate. Le scarpe da running, la plastica dura, i pneumatici e anche di proseguire il progetto sempre in collaborazione con la scuola di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Cambierà la raccolta delle attività mercatali per essere omogeneizzata quella che già è stata modificata nel resto del centro città. Quindi raccolta carta e plastica monomateriale non più assieme in modo da poter risparmiare sul costo di smaltimento di questi rifiuti. Abbiamo già discusso in questo Consiglio Comunale del progetto di condivisione degli ecocentri con i comuni con termini, degli obiettivi di questo progetto e intendiamo anche riqualificare e ampliare l'ecopiazzola di Via Nuova di Corva. Sul fronte della sensibilizzazione proprio questa settimana in collaborazione con il Comieco si svolgerà anche un'iniziativa in piazza 20 settembre a testimonianza che c'è anche un riconoscimento che ci viene dall'esterno per questa attività che facciamo. Sul versante del decoro urbano GEA ha assunto un terzo ispettore ambientale perché accanto all'azione di educazione intendiamo anche intensificare i controlli per quel che riguarda il contenimento dei costi di gestione oltre all'iniziativa che coinvolgerà le attività mercatali intendiamo sperimentare una raccolta quindicinale del secco nella zona nord della città omogenizzandola a quello che già avviene nel contermine comune di Rovere di Impiano ed abbiamo in previsione questo importante anche dal punto di vista della sicurezza ambientale finalmente diciamo di avviare i lavori di chiusura della discarica alla gara in fase di affidamento. È un appalto integrato per cui ci sarà il progetto esecutivo e dopo l'avvio dei lavori. Per quel che riguarda il piano finanziario che pareggia diciamo mettendo in tariffa un importo di 7 milioni e 13 mila euro. Questo piano finanziario è composto così diciamo ci sono un elenco di spese che la cui somma quota 8 milioni 130 mila euro da finanziare. Queste sono costituiti dei costi GEA per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il servizio di spazzamento e per i costi di post gestione della discarica che superano i 400 mila euro. Questi costi GEA sono circa 6 milioni e 900 mila euro. L'anno scorso erano 7 milioni e 100 mila euro. Nel 2010 7 milioni e 400 mila euro quindi sono in costante diminuzione. Poi ci sono i costi del personale del comune anche questi in diminuzione da 337 a 312 mila euro e la quota degli insoluti che sommata alle rate di ammortamento del mutuo della discarica. Quest'anno sfiorano i 900 mila euro contro i 717 mila euro dell'anno scorso. A queste vanno sottratti le multe che fanno gli ispettori ambientali, l'avanzo di gestione, le partite retrate, i contributi che ci dà il Ministero dell'Istruzione dell'Università per le scuole e i contributi CONAI anch'essi in crescita. Quest'anno 258 mila euro contro i 248 dell'anno scorso ma con una previsione di contributi generati dalla raccolta differenziata praticata quest'anno che sfonderanno i 335 mila euro. Ne beneficeremo da un punto di vista economico col piano finanziario del prossimo anno perché per essere sicuri li applichiamo a consuntivo. Quindi alla fine quello che dobbiamo chiedere ai cittadini per pareggiare i conti e andare a copertura totale sono appunto come ho detto prima 7 milioni e 13 mila euro, significa il 3% in meno per le utenze domestiche e il 6% in meno per le utenze non domestiche applicando un fondo di solidarietà di 200 mila euro alle utenze non domestiche particolarmente svantaggiate dall'introduzione della Tares, queste avranno un sostanziale pareggio della tariffa rispetto all'anno scorso che si è fortemente ridotta del 40% rispetto all'anno precedente. Grazie. Poi in parte l'ha spiegata anche l'assessore Conficoni, la questione dell'approvazione delle tariffe del libero numero 8 per l'anno 2015. Il riassunto è quello che voi trovate nella presentazione al bilancio a pagina 13 e a pagina 14 e come diceva è il 3,7% in meno sulle utenze domestiche e c'è una media del 6% per quel che riguarda le utenze non domestiche. Infine per quel che riguarda la delibera numero 9 è la conferma di un contributo di solidarietà per quelle attività, bar, pizzeria, ristoranti, fiorerie, ortofrutta che hanno avuto con la prima applicazione della Tares un aumento importante rispetto alle altre categorie. Lì vogliamo mantenere quello che è un contributo di solidarietà. L'anno scorso ci abbiamo messo 250 mila euro di solidarietà generale quindi di fiscalità generale, quest'anno ci sono sufficienti 200 mila euro per mantenere inalterato il contributo rispetto all'anno precedente come si evince anche dalla tabella a pagina 14 anche perché un'altra parte del contributo è derivato dalla diminuzione del costo per tutti in generale. Bene, io credo che abbiamo concluso le presentazioni fino alla delibera numero 9, adesso c'è la numero 10, piano delle allenazioni. Assessore Moro, prego. Grazie. Io cercherò di essere molto veloce. Allora abbiamo un piano delle allenazioni e valorizzazioni che comporta una valorizzazione di un'area presente in Largo Cervignano ceduta dall'Ater allora IACP al Comune di Pordenone che oggi viene regolarizzata di pubblico registro immobiliare e poi ci sono sette cessioni del diritto di, cioè si passa dal diritto di superficie alla proprietà piena dei richiedenti nella zona PEP di Valle Noncello. Sono sette proprietari di abitazioni che hanno realizzato questa abitazione ancora ai tempi con la Zanussi Farsure e che oggi hanno solo il diritto di superficie. Hanno richiesto di poter avere la piena proprietà è stato fatto il conteggio e la valorizzazione, il totale fa Cuba 52.439 euro e procederemo è una loro richiesta già del 2013. Poi per quanto riguarda la parte delle acquisizioni sono una serie di acquisizioni a costo sostanzialmente zero e un tratto stradale che è la via di Vittorio l'intera via verrà acquisita a titolo gratuito da parte del Comune di Pordenone poi ci sono un tratto di strada in via consorziale, zona industriale nord, anche questa ceduta del Comune di Pordenone a titolo gratuito, una rimodulazione dei parcheggi in zona policlinico praticamente il Comune di Pordenone acquisirà una porzione, il 50% del parcheggio retrostante del policlinico San Giorgio e poi una serie, sono quattro acquisizioni, anzi tre acquisizioni di tratti stradali residuali, sempre a titolo gratuito, sono già in buona sostanza di uso pubblico e verranno semplicemente acquisiti a titolo gratuito e un tratto di collettore fognario che collegava l'ex distributore ESO di Viale Grigoletti alla fognatura pubblica del Comune di Pordenone, verrà acquisito alla proprietà del Comune di Pordenone perché oggi era di proprietà della ESO per permettere l'allacciamento del condominio che si trova a fianco dell'ex distributore ESO che tra l'altro è in Comune di Porcia e agevoleremo l'allacciamento della fognatura pubblica del Comune di Pordenone. L'acquisizione sostanzialmente serve a questo, non c'è altro, tutte le acquisizioni sono a titolo gratuito, cioè importo zero. Completiamo tutta l'illustrazione anche con la presentazione degli emendamenti che sono stati anche annunciati in sede di Commissione Consigliare. In particolare credo che siano anche stati trasmessi a tutti i consiglieri, sbaglio? In Commissione sono stati presentati, poi? Come? Non avevate il cartaccio in Commissione ma non vi è stato trasversato via mail? Vabbè, ve lo diamo subito una copia. Tanto sono quattro punti di modifiche molto parziali, in particolare in entrata per il centro di costo Casa Serena, maggior introito da rette per un importo di 38.000 euro, che sono derivate anche dall'utilizzo di spazi nel centro per anziani di Torre, quindi un'entrata maggiore, non preventivabile all'inizio, che viene utilizzata in particolare per ripristinare quel progetto che avevamo sulla carta d'argento. Voi sapete che c'era un progetto sulla carta d'argento che aveva anche un contributo della Fondazione CRU. Senza questo contributo noi intendiamo ripristinare questo progetto, in particolare filtrandolo un attimino attraverso quello che è l'ISEE dei richiedenti, nel senso non lo diamo per tutti indistintamente, lo diamo con una gradualità che dipende anche dal reddito di ciascuno. Però intendiamo confermare sia il progetto che riguarda la ginnastica per gli anziani, sia il progetto che riguarda il cinema per gli anziani. Alla delibera naturalmente del bilancio, sì, la delibera ultima è quella del bilancio. Poi c'è uno storno di fondi per il centro di costo tutela ambientale, 2.500 euro dalla tutela ambientale e dalle aree verde, parchi e altri 2.500 euro che ci permettono di finanziare delle risorse per voucheristi che attraverso la loro opera diminuiscono quelli che sono i costi della manutenzione dei parchi. Quindi storniamo 2.500 euro da un capitolo, 2.500 euro dall'altro capitolo, finanziamo per i voucheristi 5.000 euro a favore della manutenzione, la gestione dei parchi che viene fatta appunto con voucheristi. Rettifiche contabili per due capitoli, per 6.000 euro trasferimenti e prestazioni di servizi del centro di costo nidi e infanzia e per 3.000 euro da interventi e prestazioni di servizi a trasferimenti. Qui modifichiamo soltanto da trasferimenti a prestazioni di servizi i 6.000 euro e i 3.000 euro da prestazioni di servizi a trasferimenti. Mentre per quel che riguarda il punto 4, quello che è più importante che abbiamo illustrato, c'è stato proposto dalla nostra tesoreria di comprare delle obbligazioni. In sé e per sé le obbligazioni hanno un rendimento molto basso, quindi un comune oggi è poco incentivato a fare obbligazioni. Ma noi avendo anche una cassa abbastanza elevata e avendo vincolato questo prestito obbligazionario al servizio di imprese pordenonesi, in particolare per quelle che richiedono contributi per il PISUS, abbiamo ritenuto che questa sia una forma di investimento che non dà risultanze di cassa importanti per il comune, ma un ritorno importante per le imprese, nel senso che gli consente di avere dei contributi da parte della nostra tesoreria e della nostra banca, che gli consente di avere dei contributi per cofinanziare la loro parte di PISUS con un tasso più vantaggioso dei normali tassi e il restante per finanziamenti con caratteristiche specifiche a favore delle imprese. Credo che questa è una cosa che dovevamo precisare in bilancio perché altrimenti avremmo dovuto fare una variazione successivamente. La precisazione della convenzione con la tesoreria avverrà in un secondo momento che stanno presentandoci delle convenzioni che siano tutelanti per coloro che avranno disponibilità di questo prestito obbligazionario che è il comune su cui il comune intende di vostri a favore del suo territorio. C'è anche un'altra che riguarda il triennale, ma sono delle correzioni generiche che sono solo richiamate. È cambiata di fatto un po' la tabella, ci sono delle variazioni sul triennale solo per degli errori materiali e dei aggiustamenti, ma l'abbiamo richiamato in una specifica proposta di emendamento per precisarle con correttezza. Credo che abbiamo illustrato tutto, adesso siamo a disposizione per le domande su queste delibere. Ci sono richieste di chiarimenti da parte di qualche consigliere? No, nessuno chiede. Bene, allora. Consigliere Passoni, prego. All'assessore, al bilancio, al vicesindaco. Volevo chiedere, visto che sono delle modifiche sul regolamento, se col nuovo si tiene conto della differenza che c'è tra colui che si autodenuncia in caso di problematiche relativamente alle tassazioni varie, compreso la Tari, e invece in caso di accertamento del Comune. Cioè, se prevediamo una distinzione. l'altra domanda, chiedo scusa, ma è giusto che anche perché ci sia chiarezza, nell'accorpare la tasia all'IMU, che è assolutamente una cosa giusta e buona, se in quel contesto comunque viene considerato la, diciamo, la riduzione per quanto riguarda il comodato. E penso che... Vabbè, questo è nelle domande, nelle domande, ok. Consiglio Martino, prego. Sì, grazie. Volevo chiedere all'assessore Conficoni, per quanto riguarda la Tari, forse mi è sfuggito qualcosa nel regolamento. Allora, la Tari è calcolata a due componenti, diciamo, una fissa e una variabile. Per quanto riguarda la parte variabile relativamente alle case a disposizione, il numero di componenti, cioè la parte relativa appunto al numero di componenti, visto che la famiglia non è iscritta in anagrafe, come viene calcolata? Cioè, la parte fissa che è relativa alla superficie occupata. Mentre, per quanto riguarda appunto la base variabile, ecco, volevo sapere come viene calcolata, perché mi è sfuggito, probabilmente non ho visto nel regolamento. Grazie. Allora, per quel che riguarda l'autodenuncia, noi di prassi, normalmente, lasciamo sempre un anno di tempo perché ci sia il bonario ravvedimento per quel che riguarda tutti i tributi. Cioè, l'accertamento comincia sempre un anno dopo. Quindi, un anno di tempo l'utente può avere una possibilità di ravvedimento bonario senza sanzioni. D'accordo? Per quel che riguarda l'autodenuncia. Tasi IMU. Se lei vede c'è uno specifico articolo sulla delibera dell'IMU che riguarda proprio i comodati e c'è la tariffa con il comodato gratuito. Quindi rimangono inalterate le modalità con le quali noi consideriamo il comodato gratuito e anche la documentazione che si allega per ottenerne il beneficio. La tariffa è quella dello scorso anno 4,6 più quella della Tasi 1,25 rispetto al 7,6 più 1,25 per la tariffa piena. Quindi vengono confermate. Rispondo anche al consigliere Gregorio Martino per quel che riguarda le abitazioni a disposizione. Quindi, che non hanno in anagrafe nessun residente, viene considerato un residente, qualora ci siano le utenze aperte. Nel senso, se uno ha la luce e il gas che funzionano, noi consideriamo un, sulla tariffa variabile, un residente. Grazie, Assessore. Consiglio Dalmas. Chiarimenti? Prego. Mi spieghi un po' meglio, Assessore, mi riallaccio alle domande che hanno fatto. Sul comodato però c'era un indirizzo che era stato dato anche precedentemente da questo consiglio, la sua giunta l'aveva un po' accolto. Di fatto non è così, perché siamo 5,85 sul comodato, c'è la tariffa ordinaria, come lei ha spiegato adesso, e quindi il concetto che tra l'altro ha previsto anche nella legge di stabilità, se non sbaglio, il legislatore nazionale, la possibilità di esenzione in questa fase, perché come ho dato non da reddito da padre a figlio, no? Quindi siamo dentro il concetto dell'Imo a prima casa. Quindi voi sostanzialmente partite dal 4,76 più 1,25 per l'Imo. Prima è più tasi. E poi vorrei dirle che prima lei in sede di illustrazione ha detto che non c'è la tasi sulle seconde case. Ma non c'è la tasi sulle seconde case mi faccia capire bene. Dove c'è l'Imo c'è anche una tasi accorpata, il 1,25. Poi ecco la domanda. La conferma sempre per le case in locazione. La norma nazionale dice dal 10 al 30% per quanto riguarda appunto le locazioni, per il conduttore. Mi conferma che la scelta della vostra amministrazione è quella di tenerla al 10%? No. O dal 10 al 30%. Quindi mi dica perché? Mi sono perso un po' nei meandri di questa cosa. Cioè probabilmente il proprietario della seconda casa paga anche la tasi per il conduttore integralmente. Quindi questa è una scelta di indirizzo politico. Noi abbiamo lasciato inalterato la modalità con il quale il comodato gratuito consente di ottenere una tariffa agevolata per l'Imo. Quindi le regole sono rimaste quelle dello scorso anno. L'anno scorso una persona che aveva il comodato gratuito invece di contribuire per il 7,6 contribuiva per il 4,6 proprio perché godeva di questa agevolazione. Oggi però l'anno scorso oltre che pagare il 4,6 pagava anche l'1,25. Quindi pagava 4,6 più 1,25. sì, sì. Quindi l'entrata per il comune e il pagamento per l'utente è uguale a quella dello scorso anno. Sì, sì. Come l'anno precedente, nelle stesse modalità e con lo stesso importo dell'anno precedente. No, è anche l'anno scorso c'era. L'anno scorso doveva fare due versamenti, quest'anno ne fa uno e lo fa per lo stesso importo. È giusto. Sì, sì, sì. D'accordo. Noi abbiamo pensato che la sburocratizzazione, il fatto di mandare a casa anche il calcolo sia favorevole all'utente e che quindi questo semplifichi la vita anche sua. Cioè invece di pagare due volte paga una sola. Però ho una nostra opinione, una nostra scelta. Prego. Consigliere Piccinato, prego. Grazie, Presidente. Un chiarimento. All'interno della previsione del bilancio c'è anche il costo delle elezioni comunali che si svolgeranno il prossimo anno. È incluso anche il costo elettorale delle circoscrizioni che in teoria dovremmo abolire. Domanda dal punto di vista elettorale. Grazie. No, Consigliere, questo è il bilancio 2015. Le elezioni sono nel 2016. No, no, non esiste una previsione triennale. Esiste una previsione triennale per spese vincolate, spese vincolate, ma ci sono le spese vincolate che vengono previste triennalmente. Noi prevediamo, il bilancio di previsione è quello del 2015 e ovviamente non ha i costi amministrativi dell'ente per il 2016. Poi sono solo gli investimenti, i contratti, quelli firmati, quelli che vengono riportati come fondi che devono essere tutelati per gli anni successivi. Consigliere, lo perfido non lo vedo, pertanto si è prenotato per... No, non lo vedo, non è in aula. Scusi, Presidente, per chiarimenti. Ho capito, scusi. No, per chiarimenti, giusto? Sì, sì, chiarimenti. Dunque, per quanto riguarda il bilancio, è stata fatta un'interrogazione tempo fa in merito a rimborsi dei buoni pasto per il personale docente e personale ATA, in cui l'amministrazione diceva che non era più possibile, con i nuovi principi dell'indicontazione del bilancio, stanziare un importo superiore per quanto riguarda il rimborso dei buoni pasto, un importo superiore rispetto a quanto il Comune in realtà riceve da parte del Ministero, ovvero se un pasto costa 5 euro e il Ministero ci rimborsa 2,50 euro, siccome non è competenza del Comune, questo rimborso non è competenza dello Stato, nella precedente interrogazione è stato dichiarato che l'amministrazione non era più in grado di mettere un importo appunto che non fosse quello proveniente dal Ministero. Per quanto riguarda questo bilancio, questi principi o quanto dichiarato in interrogazione viene confermato o ci sono delle variazioni? Grazie Consigliere. Prego, Assessore Rubino. Grazie per la domanda. Come avevo già anticipato al Consigliere Loperfido, stiamo cercando di agire a livello regionale e a livello di insieme di comuni, di capologhi di provincia, per cercare di risolvere definitivamente questo problema. Nel frattempo abbiamo fatto tutta una serie di ricerche a livello giuridico e abbiamo trovato diverse sentenze che effettivamente ci danno ragione, nel senso che il personale dello Stato non è necessariamente a carico degli enti pubblici. Stiamo preparando una lettera che stiamo inviando a tutti i comuni e alla Regione, la quale la Regione stessa aveva già riconosciuto il fatto che non siamo tenuti a fornire questo pasto e chiediamo in maniera molto forte, sia da soli, sia attraverso l'Anci, di non ottenere più un rimborso semplicemente, ma di ottenere la totale copertura. Qualora il Ministero ci rispondesse in maniera negativa, siamo pronti anche ad adiravigli legali. La copertura c'è eventualmente. Scusi, allora, io ho fatto ragioneria, poi mi sono fermato perché non mi piace la materia, ma non è che mi può dire che la competenza c'è, il Comune non ha competenza, quindi quei soldi il Comune non li può tirare fuori. Sulla base di cosa tirate fuori dei soldi? Eh no, questo è il discorso. Ma da dove si tirano fuori quei soldi? Se non è di competenza del Comune, il Comune non può tirare fuori dei soldi, perché voi tirate fuori dei soldi per una cosa della quale non avete competenza, rischiate di fare danno erariale, che è quello che dice la sentenza del Tribunale di Brescia. La competenza a bilancio, quella voce non dovrebbe esistere, e voi tirate fuori dei soldi senza avere la competenza di farlo, perché è la competenza dello Stato. Il Ministero rimborsa il 50%, quindi voi tirate fuori dei soldi e poi non si sa chi li rimborserà. E sulla base di cosa tirate fuori questi soldi in più? Non avendo la competenza. Mi fa piacere se la chiami? Cioè, quando si tratta di discorsi, si tratta di dati precisi, di competenza, si parla di bilancio, l'entrata è uscita. Va bene. Bene, nessun'altra richiesta di... Aspetta il microfono, se non ti sento. Di chiarimenti. Bene, signori. Pertanto, allora, discussione unica, abbiamo detto presentazione unica, allora, dichiaro aperta la discussione per le proposte. Adesso le richiamo perché vengono messe a verbale. Proposta numero 4 del 2015, approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale. Proposta numero 5 del 2015, imposta municipale propria anno 2015, aliquote e modalità di applicazione. Proposta numero 6 del 2015, tributo sui servizi indivisibili, tasi, determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2015. Proposta numero 7 del 2015, tari 2015, approvazione e relazione di accompagnamento e piano economico-finanziario relativi ai costi gestione dei rifiuti per l'anno 2015. Proposta numero 8 del 2015, approvazione di tariffe tari per l'anno 2015. Proposta numero 9 del 2015, conferma correttivi per il calcolo dei tariffe tari per le categorie economiche 22, 23, 24 e 27. Proposta numero 10 del 2015, piano delle allenazioni e valorizzazioni immobiliari e piano delle acquisizioni immobiliari per l'anno 2015. Approvazione. Proposta numero 11 del 2015, approvazione del bilancio di previsione annuale 2015 e pluriannale 2015-2017, della relazione previsionale programmatica 2015-2017, del programma dei lavori pubblici annuale 2015 e trennale 2015-2017, così come emendati dagli emendamenti, poc'anzi illustrati dall'assessore Mazza. Bene, dichiaro aperta la discussione. I rituali pochi minuti su place. Signor Vivito, iscrivetevi perché non è che posso rimanere in supplasmi. Iscrivetevi, se no devo chiudere la discussione, quantomeno il primo intervento. Grazie. Grazie. Grazie, consigliere Pedicini. Prego. Mi posso cancellare? Adesso lascio. Non avevo intenzione di fare il primo intervento. Non vuoi farlo tu? Non vuoi farlo tu? Vai, lo fa lui. Lo fa il consigliere Giannelli? No, 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 non rinuncia, no. No, 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 può cedere. Prego, consigliere Giannelli. Comincio io. Comincio io i giochi. Signor Sindaco, assessori. Allora, leggo pagina 3 del documento Gli obiettivi strategici. Approvazione piano regolatore comunale. C'entra poco col bilancio. Però è un piano regolatore che non dà nessun tipo di impulso. È un piano regolatore fatto molto bene, calato su un'idea che avete di città, che è un'idea di città che non avrà più impulso, che non avrà più speranza. Quindi, di questi obiettivi, il primo, non ne possiamo nemmeno tener conto. Fermo restando che, come ripeto, condivido anche lo spirito col quale è stato fatto di partecipazione e alcune scelte, diciamo, di base. Ma non ha previsto quello che invece noi vogliamo. Un'idea di città. Non c'è. Nel nuovo piano regolatore è un piano che, guarda caso, assomiglia molto al vostro bilancio. Ora, essendo stato fatto da professionisti di grandissima qualità. Mobilità. Pieno della mobilità sostenibile. Il futuro della nostra città non sono le piste ciclabili. La gente in Italia non si sposta come in Olanda o in Germania o in Svezia. Noi amiamo le macchine. Dovete darci i parcheggi dove metterle. Ma non potete togliercene una cosa saggia e fare in modo che si possano usare le macchine per passare, non fermarsi, raggiungere i parcheggi pubblici e poi muoversi a piedi. Però quello di aver impostato come obiettivo la ciclabilità e di aver fatto anche un enorme lavoro sul piano su questo non è un obiettivo dell'apporto e non è dei prossimi cento anni. Perché noi non siamo fatti così. Andatevi a vedere chi va in bicicletta ed è una minoranza. Se voi andate in Germania, se voi andate in Olanda, in altri posti, amano di più la bicicletta. Noi abbiamo la macchina. Basta che la macchina non ci impedisca di vivere bene. E cioè che il mondo delle macchine sia pensato con i parcheggi per i residenti, per chi lavora e per i visitors. Terzo obiettivo, ambiente, piano energetico. È già una consapevolezza. Se c'è una cosa e guardate che ve lo dico come ha detto ai lavori, che la gente conosce è quella di cercare di risparmiare l'ambiente, fare delle case compatibili con il risparmio energetico. quindi è un obiettivo per modo di dire. E non è uno di quegli obiettivi che lui dice noi dobbiamo convincere la nostra gente a fare così. Siamo già convinti. Del PISUS, l'unica cosa importante del PISUS come obiettivo era la banda larga e avete speso 500.000 euro. Una vergogna. Sì, vado a prendersi voi spendete 510.000 euro. Vado a prendersi le pagine pagina 46 e pagina pagina 44 154.750 pagina 46 359.250 messa in sicurezza dalle esondazioni. E' patetica sta storia perché abbiamo fatto la nuova riverasca quota 18 e poi vi preoccupate della quota 18.50 peraltro forse irripetibile e avete fatto anche l'argine a quota 18 per cui se arrivano inondazioni avete una parte di città protetta e la parte centrale sotto acqua. Il problema non è questo perché inondazioni come quella del 66 non arriveranno più. Il problema è che non avete messo soldi sulle fognature dove si no ma le opere idrauliche fatte a monte ecco voi non avete messo soldi invece sulle fognature siamo in una situazione di emergenza da terzo mondo servono lo sapete bene 200 milioni di euro per portarci a livelli dei paesi civili e qui invece voi non avete speso niente. La riorganizzazione delle ASP Casa Serena eccetera voi sapete che in regione è tutto bloccato per cui sono obiettivi per modo di dire ambito urbano e unione territoriale li avete già presi in testa perché anche da casa vostra vi hanno dato botto in testa perché quello che proponevate non ve lo faranno mai fare quindi anche questo è un obiettivo per modo di dire ultimazione dei lavori comando provinciale carabinieri bene sono felice questo è un bello obiettivo interventi di chiusura riqualificazione ambientale discarica di Valle Noncello siamo ancora in una situazione conflittuale col comune di Cordenos e voi vi riferite ancora a questa situazione di Valle Noncello quando in realtà quello sì dovremmo pensare a una nostra grande nuova discarica quella invece non c'è altra grande discarica o discarica come dite voi discarica discarica come si dice a Pordenone e voi volete proprio che io muoro voi volete che io muoro perché parlate di via Milità rotatori e di via Montereale Viale Venezia Largo San Giovanni Piazza Duca d'Aosta sapete molto bene che le rotatorie che avete citato qua non sono strategiche sono rotatorie diciamo per facilitare un certo tipo di messa in funzione ma la vera strategia nella viabilità è riferita solo a Viale Venezia che è l'elemento che drena e organizza il grosso del traffico che proviene da nord il drenaggio e la organizza quindi finché via a Venezia non avrà tutte le rotatorie sugli incroci noi saremo sempre incasinati bevo un po' d'acqua e si crea il suspense nel senso detto questo io mi rendo conto amici e colleghi io mi rendo conto che siamo un periodo straordinariamente difficile ci sono situazioni di emergenza noi siamo ancora una città ricca noi non abbiamo i barboni che dormono in stazione non abbiamo la delinquenza e va a abitare in periferia perché costa meno ma anche perché ha delle residenze più diciamo meno intensive allora tutta la grande area dell'ospedale e tutta la grande area delle caserme se liberate da quella struttura oggi potrebbero essere impostate con un real estate pacato che potrebbe vendere delle proprietà a prezzo basso immerse nel verde cioè la periferia in città questo non possiamo più farlo però è una scelta dell'altro anno amén abbiamo grandi opportunità come via Riverasca Assessore ce la stiamo facendo scappare abbiamo continuato a dire che poteva essere cambiato ring abbiamo continuato a dire che poteva esserci costruito sopra e voi non ci avete pensato non c'è un piano dei parcheggi per i privati negli anni 50 e 60 quando abbiamo quando i nostri padri hanno costruito questa città non hanno fatto parcheggi hanno fatto grandi condomini senza parcheggi ma si è vero c'erano meno macchine però c'era già l'idea che Agnelli non faceva carrozze per i treni e quindi i governi facevano quello che volevano Agnelli cioè macchine strade noi dobbiamo dare i parcheggi a tutti i condomini quindi un piano strategico per i parcheggi privati quelli pubblici li avete fatti li abbiamo fatti ce ne sono la sufficienza ma i visitors arrivano e se ne vanno in realtà ogni famiglia ha già due macchine e dove le mettete per strada voi non avete capito che dovevano essere investiti dei soldi oppure col piano regolatore 14 minuti ah ok quindi questi obiettivi non ve li siete dati il nuovo mercato al coperto continuate ancora a girare attorno a un problema e noi abbiamo in piazza 20 settembre piazza della muta un mercato che quando piove la gente non può frequentare avete la man la parte vecchia costa anche poco compratela e andiamoci a fare il mercato al coperto insomma l'ultimo bilancio caro sindaco è una mera contabilità per una piccola città noi invece sogniamo una città grande non una città piccola una città una città che cresca e torni a diventare quella di una volta se continuate a fare questi bilanci da ragionieri farete un bilancio un bilancio grigio spento e che i cittadini non vi potranno mai approvare e noi che siamo quei cittadini non ve lo approviamo di sicuro grazie consigliere Giannelli consigliere Pedicini prego sì quindi grazie della parola presidente allora diciamo che questo bilancio che voi presentate si potrebbe riassumere in due dati dal mio punto di vista ed è anche nella prima slide che ci avete dato i consiglieri alla prima riunione dove si evince in modo molto chiaro questo poi come cappello a quello che andiamo a dire dove c'è una diminuzione di entrate derivanti da trasferimenti dello Stato Regione eccetera per 3 milioni e 283 mila euro mi correga l'assessore se sbaglio e quindi porta al vostro bilancio un disavanzo diciamo così che poi viene coperto di 3 milioni 343 mila euro quindi sostanzialmente questo bilancio si presenta a noi consiglieri dicendo questi 3 milioni e 283 mila euro sono quelli che non ci danno questo bilancio mancano 3 milioni 343 il bilancio è più o meno sempre lo stesso come abbiamo optato a questo non certamente aumentando e l'avete detto chiaramente le imposte anche perché avete un aumento delle imposte sempre all'interno delle imposte tasse e avete c'è un aumento c'è stato un aumento delle imposte tasse non in termini come posso dire percentuali ma assoluti di entrate sto parlando e quindi dite abbiamo tagliato dove potevamo tagliare questi 3 milioni 283 mila euro 3 milioni 343 mila euro per arrivare al pareggio di bilancio che è l'obbligo che ha ogni amministrazione perché se non fate il pareggio di bilancio chiudete bottega poi ci presentate anche delle slide dove ci fate vedere in termini assoluti sì in termini le spese e poi ce le fate vedere anche deflazionate sapete che l'inflazione non esiste anzi siamo in deflazione non in inflazione quindi vederle deflazionate non riesco proprio a capire con quali parametri visto che l'inflazione è a zero anzi è invertita bene detto questo cosa voglio dire voglio dire semplicemente che da una analisi di questo bilancio mi accorgo che è più o meno il bilancio dell'anno scorso la novità è che ci sono meno trasferimenti e quindi abbiamo dovuto come amministrazione far fronte a questi minori trasferimenti la novità del bilancio è tutta qua allora mi voglio così un po' rilacciare quanto avevo già detto in commissione quando sono stato convocato come capigruppo per illustrare questo bilancio effettivamente è un po' quanto ha detto anche chi mi ha preceduto perché il problema è si poteva fare qualcosa di diverso potevamo immaginare o sperare in un quadro in un progetto diverso sì però bisogna anche dire come si vuole immaginare questo quadro diverso perché dire semplicemente che io immagino una cosa diversa tutti possiamo immaginare qualcosa però poi se non concretamente non riusciamo a farlo rimane una pura immaginazione invece io penso che margini di manovra su questo nostro bilancio ce ne erano e ce ne sono ancora tantissimi certo questo è un bilancio che gli uffici lo portano a pareggio lo possono fare benissimo se la politica questo bilancio non ci fosse stata con tutto rispetto ovviamente per l'amministrazione i ragionieri del comune gli uffici cosa l'avrebbero fatto ugualmente non è che non lo chiudevano il bilancio gli dice chiudetemi il bilancio loro lo chiudono ma la politica la forza della politica sta nel fatto di fare le scelte sta nel decidere se effettivamente si vuole prendere una strada piuttosto che un'altra e bisogna avere anche il coraggio di cambiare per cambiare potevamo pensare di rivedere non solo le spese ma anche le entrate e vorrei partire dalle entrate perché effettivamente la prima domanda che uno si pone è a un'amministrazione comunale può pensare in modo come posso dire imprenditoriale è un'amministratore di questa città e dire faccio fruttare quello che mi è stato dato dai miei concittadini e magari do anche la possibilità di avere maggiori entrate che non vogliono dire semplicemente tasse perché anche Gigi Carate era bravo è un po' come quando il governo Monti si è presentato ai cittadini aumenta la cisa sulla benzina taglia le pensioni e fa e vabbè grazie avevamo bisogno di entrate erano capaci tutti non serviva essere dei professori della Bocconi per arrivare lì e poi tartassare i cittadini e fargli esprimere più soldi la bravura potrebbe essere quella della politica perché io penso che la politica sia anche quando vuole sa essere anche più brava dei bocconiani la politica è una nobile bravo non bisogna fare i tecnici bisogna fare i politici e i politici possono fare molto di più dei tecnici poi i tecnici devono coadjuvare il politico ma la politica è quella che sa trovare le strade nuove la politica è quella che sa immaginare anche strade nuove e le sa percorrere e quindi bisognerebbe cercare di aumentare le entrate c'è la possibilità di aumentare le entrate per un'amministrazione comunale sì sicuramente abbiamo assistito anche a un dibattito tempo fa delle partecipate noi abbiamo una serie di ne abbiamo riparlato anche più volte lo ricito per l'ennesima volta abbiamo un'entrata delle farmacie comunali che è risibile perché da un utile di 165 mila euro a farmacia mediamente mi sono fatto il conticino nessuna farmacia di Pordenone lungo il corso ha un bilancio se andate a vedere la denuncia dei redditi un utile di 165 mila euro che poi dice ma piuttosto che perdita buona è anche 165 mila euro però in realtà andate a chiedere alle varie farmacie di Pordenone cosa denunciano nella denuncia dei redditi e cosa mettono di utile e cosa pagano di tasse va bene credetemi se un farmacista di tutto il gruppo guadagna 165 mila euro sulla sua farmacia si comincia a preoccupare perché l'utile non viene dalla vendita dei farmaci semplicemente come viene da noi ma viene da tutto quello che ne è guardate oggi sembrano quasi dei supermercati le farmacie piuttosto sì ho capito ma o siamo in grado di stare sul mercato oppure questo nessuno ce lo vieta non è mica non andiamo oppure la diamo in gestione oppure la vendiamo oppure troviamo altre forme se non lo facciamo noi è quello che fanno gli altri perché non ho capito non fanno mica niente non vanno mica a rubare i soldi di tasca alla gente ma vedete che hanno tutto un altro modo di gestire le loro farmacie presentano bilanci da milioni di euro superano il milione di euro se andate a vedere bene morale della favola la nostra sono un po' così abbiamo l'ho già detto in commissione lo ripeto noi spendiamo un milione e cento per i musei le entrate dei musei sono i tre musei che due poi sostanzialmente il museo di storia naturale è il museo di Chieri perché il museo di torre non ci comporta neanche una gran spesa perché è dato in gestione l'associazione di torre per le visite eccetera quindi è una spesa ridotta ma un milione e cento ci costano semplicemente tenerli aperti allora ho già detto l'ho detto in commissione l'ho detto altre volte perché non li mettiamo in gara perché non li diamo in gestione stabiliamo che noi a chi si presenta e a chi ha voglia di gestire i nostri due musei garantiamo 700 mila euro di fissi ogni anno a copertura a parziale copertura e poi se la gestiscono questi benedetti musei useranno forme nuove una cooperativa a forme nuove di gestione e noi potremmo già in quel modo lì avere un risparmio di circa 700 mila euro che potremmo utilizzare per i servizi sociali e per intervenire su questo comune cosa se lo vogliamo non è una cosa impossibile da fare perché non nessuno ci obbliga a continuare a tenerli come sono oggi con le entrate che sono veramente ridicole quindi nessuno toglie il museo lo gestiamo in modo diverso e possiamo farlo tranquillamente abbiamo una delle grandi spese di questo nostro comune per ben 7 milioni di euro sono la GEA sono i servizi di raccolta rifiuti allora su tutto quello che noi andiamo a ragionare dobbiamo chiederci come mai questa spesa sia aumentata negli anni non è diminuita è aumentata no non è diminuita perché se io vado a vedere il quadro degli anni passati si attestava prima 5 poi 5 e mezzo poi 6 6 e mezzo adesso siamo a 7 milioni per dirla ormai sono comincio ad essere troppo vecchio di questo consiglio comunale per ricordarmi anche quindi si spendiamo di più oggi di quanto spendevamo una volta allora io capisco che questo è un servizio che per quanto viene speso tanto viene messo a carico dei cittadini e quindi di conseguenza l'obbligo di legge viene trasferito direttamente nelle tasche dei cittadini ma se siamo un comune virtuoso se ci diamo da fare sulla raccolta differenziata allora dobbiamo cominciare anche a dire con chiarezza ai nostri concittadini prima dobbiamo fare una politica che riduca i rifiuti all'interno del nostro comune perché questo tipo di politica io ancora non l'ho vista la riduzione dei consumi di rifiuti della produzione di rifiuti è un fatto importante ma poi giusto per chierirci le idee non è che una volta quando tutto andava al compostaggio di Aviano non si faceva la differenziata perché tutti pensano che una volta la differenziata non veniva fatta si pagava per farla perché per tutto ciò che andava tale e quale al compostaggio di Aviano ci pensava poi il compostaggio di Aviano a dividere i rifiuti e quindi poi i sovalli li andava a portare in discarica ma il problema è quindi solo che bisognava pagare abbiamo portato il servizio di suddivisione dei vari rifiuti ai cittadini e il problema non è cambiato su questo anche qui una seria politica primo per ridurre la quantità dei rifiuti della nostra amministrazione che dovremmo pensare ai rifiuti uguali a zero perché non è una cosa impossibile e non è una bestemmia e qui noi non ci stiamo pensando mettiamo le guardie che controllano se vanno a buttare nel cassonetto una cosa diversa da quell'altra però tutta questa politica invece della riduzione dei rifiuti noi non la facciamo ed è una spesa consistente perché abbiamo ben 7 milioni oltre 7 milioni di spesa direttamente ma vorrei dire di più abbiamo questo comune spende molto per la cultura è stato detto non spende tantissimo per la cultura bisogna dire la sincera verità spendiamo più per lo sport che per la cultura in proporzione l'attività sportiva in questo nostro comune vede gli impianti sportivi a 1 milione e 600 1 milione e 7 quasi e la cultura non arriva a questa cifra sicuramente né come attività né come spazi dati per la cultura però in realtà perché ci sono molte associazioni molti che si danno da fare molto volontariato altra nota dolente sono la casa la casa di riposo la casa serena dove in Cile per il bilancio per 8 milioni e 100 circa 8 milioni 999 mila euro anche su questo l'unione fra le due case di riposo l'Uberto I il primo bene ma a che condizioni i conti non tornano perché noi non riusciamo neanche a coprire qui abbiamo questo è il costo totale quello che ho dato io ovviamente poi ci sono i trasferimenti le rete e tutto quanto il resto ma non riusciamo neanche a pareggiare l'obiettivo dovrebbe essere quello di andare a pareggio ma non facendolo gravare sulle famiglie oggi per un anziano si paga quanto neanche a tenerlo al grande hotel se lo mandiamo per la stessa cifra mensile l'anziano al moderno spende meno di quello che spendono a casa serena perché andate a guardare le cifre fra i trasferimenti della regione azienda sanitaria e quello che mettono i singoli le famiglie voi vedete cosa è la spesa diretta di ognuno allora visto che il tempo è poco siamo già a 12 minuti i conti li conoscete molto bene sapete i numeri sapete tutto abbiamo bisogno abbiamo bisogno come amministrazione comunale ma abbiamo bisogno come politica di fare uno sforzo perché in un momento di crisi come questa in un momento di riduzione dei trasferimenti in un momento che le risorse non sono più quelle di prima io capisco che cambiare politica e cambiare completamente anche la nostra mentalità diventa difficile io speravo che fosse questo il bilancio del cambiamento questo poteva essere il bilancio che si presentava in modo nuovo diverso che andava a rivedere tutta una serie di posizioni è stato citato prima Renzi effettivamente è difficile cambiare cambiare le abitudini cambiare prima di tutto lo capisco è difficile cambiare anche all'interno dell'amministrazione perché gli uffici stessi fanno fatica a cambiare perché chi è abituato a portare avanti sempre le cose in un certo modo e le fa anche bene se qualcuno gli arriva che bisogna rivoluzionare cambiare completamente tutto comincia a creare un problema un fastidio non si capisce appena dove vuole andare a parare non si possono più garantire determinati modus vivendi di prima e così via però questo andava fatto perché la politica deve fare questo allora noi siamo all'opposizione è facile ci mettiamo qui a criticare eccetera quando ci è capitato di essere in maggioranza abbiamo provato a cambiare e abbiamo provato anche a fare qualcosa di nuovo ma è un peccato perché l'amministrazione comunale dà delle grandi possibilità questa amministrazione io l'ho detto non è un problema di colore politico a volte sì incidono anche delle ideologie tra virgolette nella gestione delle cose perché mi accorgo che su alcune questioni una formazione culturale o tra virgolette ideologica incide in modo diverso rispetto a un'altra si vede le cose in un modo piuttosto che in un altro si privilegia una cosa piuttosto che un'altra e questo anche la sua importanza però ormai non è più tempo neanche di questo oggi dobbiamo federlo in modo molto laico oggi dobbiamo pensare in modo molto laico che possiamo pensare di essere degli imprenditori della cosa pubblica dobbiamo pensare di essere dei mecenati nei confronti della cultura e del nostro territorio dobbiamo pensare di essere dei mecenati illuminati dove sanno usare bene le loro risorse e le proprie risorse diventano un moltiplicatore di risorse e quindi cercare di non dare come è stato fatto in passato finanziamenti a pioggia o semplicemente per comparanza o per amicizia ma cercare di privilegiare determinati progetti piuttosto che un altro non mi riferisco alla vostra amministrazione sto parlando di anni passati allora voglio dire tutto questo deve cambiare un sistema allora questo bilancio assessore signor sindaco non cambia questo bilancio è uguale è uguale a quello dell'anno scorso dell'anno prima e dell'anno prima ancora è un bilancio che è un fatto di numeri non è fatto di politica non è fatto di idee non è fatto di progetti non è fatto di possibilità di cambiamento grande di questo mi dispiace perché avremmo voluto contribuire dare una mano in questo quando siamo stati convocati ci siamo venuti abbiamo cercato di partecipare a questo incontro ma era semplicemente prendere atto di una situazione già fatta è stato presentato quello che c'era non è stato detto siamo in fase di formazione dove possiamo effettivamente cambiare oppure cambiare costa fatica cambiare è un rischio mi fermo cambiare sicuramente può scontentare anche qualcuno ma fare politica e fare amministrazione bisogna anche poi fare in modo tale che ci sia il bene comune che passa a volte anche attraverso rompendo delle rendite di posizione che per anni si sono consolidate ecco allora alla luce di tutto questo io ascolterò con attenzione anche gli interventi dei miei colleghi ma questo rito del bilancio dove ci diciamo si chiude da parte mia con un rammarico che dopo tanti anni che sono all'interno di questo consiglio comunale ancora una volta non sono partecipe di un evento nuovo di un cambiamento sono ancora una volta partecipe di un rito che ormai da troppi anni si ripete sempre uguale e di questo me ne dispiace grazie consigliere con il pedicini consigliere Rossetto prego grazie a tutti grazie a tutti per fare tre pezzi veramente forti farò il mio farò il mio in un momento così un po' dedicato all'amministrazione animale in quanto un momento difficile in quanto fatto con poco risorse però voglio fare alcuni 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 anche perché anche perché il bilancio di previsione è un momento politico importante per la vita amministrativa della città poi anche perché mi sono sentito di farlo anche per me anche perché per me è un'ultima della mia carriera ecco il certo ministro e quindi vabbè parto subito dicendo che mi viene spontaneo dichiarare che l'amministrazione ha fatto bene a mettere in discussione ora il bilancio perché c'era all'inizio questo due tipo di valutazione senza aspettare le lungaggini della completezza dei trasferimenti dei domani infatti mi sembra che proprio la regione in questa settimana trascorsa abbia che sia consultata e ci sia qualcosa a dare ancora di questo è importante in questa maniera dicevo si elimina l'aggravio burocratico di lavorare in dodicesimo e quindi dare delle certezze a tutte quelle incertezze che si verrebbero a creare durante l'intero esercizio quindi si danno delle certezze alla programmazione e avvio subito degli interventi previsti leggendo la relazione programmatica e scorrendo le slide si nota che il primo obiettivo dell'amministrazione che era quello di non aggravare l'imposizione fiscale sui cittadini è stata rispettata infatti infatti le tariffe sono state confermate a livello del 2014 sui servizi sociali sui servizi scolastici vedimenza relazioni scolastiche nidi infanzia eccetera a dire la verità sono aumentate di poco le tariffe di casa serena causa l'omogenizzazione con la casa di riposo Umberto I sono convinto però che molto presto la riorganizzazione della spunica tra le due case di riposo porterà a dei risparmi quindi qui non la penso come l'amico per il signo qualcosa ci distingue ancora anche se ho molto apprezzato il suo intervento i tributi i tributi sono rimasti invariati anche questi rispetto al 2014 le aliquote tasi sulle abitazioni principali sono rimasti invariate all'1,25 per mille pure l'Imu sulla seconda abitazione o sulle abitazioni concessi come dato di uso gratuito ai parenti fino al primo grado sono rimasti invariati è rimasta pure invariata ormai da dieci anni l'addizionale IRPEF allo 0,2 per mille e questo ci distingue da molte città capoluoghi che l'hanno veramente aumentata e anche di molto in questi ultimi anni invece quindi importante quindi che la tasi e l'Imu sono rimasti invariati quindi questo è veramente importante anche se sono state sommate assieme in un unico bollettino in questa maniera si dovrebbero diminuire un po' gli evasori perché c'è una maggiore costituzione ecco invece la Tari fatta sui rifiuti continua il suo trend di riduzione anche quest'anno infatti è stata ridotta del 3% sulle utenze domestiche e del 5% sulle non domestiche ricordo che l'aumento massimo è stato nel 2013 quando il legislatore aveva imposto il pareggio di bilancio però non con la fiscalità generale quindi questo naturalmente ha portato un incremento notario l'anno scorso c'era stata una diminuzione continuata anche quest'anno quindi è un trend veramente positivo e dobbiamo dare questo merito senz'altro all'amministrazione abbiamo visto poi che per quanto riguarda i rifiuti c'è stato un aumento sulla differenziata siamo arrivati all'80% e quindi anche questo è un merito che va dato sia all'amministrazione che la sta proponendo però anche i cittadini che in qualche maniera collaborano speriamo che questo trend diminuisca ancora di più per il prossimo l'abbattimento quindi della pressione fiscale rimanendo invariati tariffe e tributi e diminuendo la tassa sui rifiuti è stata fatta e quindi questo va dato merito a questa amministrazione importante poi la riduzione delle spese sul personale tramite la riduzione dei dipendenti e questo vado a esplicitarlo meglio meno l'11 e 33% anche se con minori dipendenti è stata possibile la razionalizzazione dei servizi riorganizzando i settori quali i settori del territorio della cultura gli asili nido dell'istruzione eccetera dobbiamo dire quindi che questi accorpamenti fatti sono stati propedeutici alla riduzione del personale senza avere dei contracolpi sui servizi e questo va dato merito sia all'amministrazione che aveva proposto questi accorpamenti però merito anche il personale che in qualche maniera ha collaborato proprio in maniera attiva e fattiva pur con qualche problema altra voce importante veramente sto andando così veloce perché il tempo passa altra voce importante che permetterà sul futuro più investimenti è di avere ridotto negli ultimi cinque anni il debito pubblico dell'ente questo permetterà di avere nel 2016 un milione e duecento euro e nel 2017 due milioni e centosessanta mila euro in più quali minori interessi sulle rate di mutui di ammortamento e quindi più soldi che verranno dipiti a maggiori investimenti o a diminuzione di tributi quindi a vantaggio anche della nuova amministrazione che andrà ad insediarsi anche perché penso che per questa amministrazione questo sia l'ultimo bilancio di previsione perché non penso che si riesca a fare un bilancio prima di aprile maggio del prossimo anno che si andrà a votare quindi si lascerà ecco anche questa testimonianza quindi ripeto la prossima amministrazione avrà più soldi da investire dovuti soprattutto alla diminuzione del patto di stabilità e a questo ammortamento di mutui dobbiamo dire che il patto di stabilità e rate sui mutui sono stati veramente voci pesanti nel bilancio che hanno ridotto come dicevo qualcuno sì la fantasia e la creatività di questa amministrazione però soldi in realtà ce n'erano molto pochi per poter attuale tutto quello che l'amministrazione aveva in programma anzi proprio in questi ultimi anni hanno dovuto fare veramente i salti mortali per chiudere il bilancio di parità ecco volevo proprio una citazione particolare l'ufficio tributi che con la sua organizzazione permette il controllo della situazione con una banca dati aggiornata aggiornata con il catastro con l'ufficio registro con l'anagrafe poi anche qualche altro ufficio permettendo così in un futuro prossimo una minore evasione fiscale questo mi pare che sia un lavoro veramente veramente importante sono quasi alla fine per cui niente mi sembra veramente un determinare con dei ringraziamenti quindi all'assessore il bilancio a tutto lo suo staff poi naturalmente anche a tutti gli assessori quindi anche a loro personale quindi a tutti direi che facendo dei sacrifici per la riduzione delle spese infatti mi ricordo i primi incontri fatti c'era veramente un po' così di battibecco ecco fra i vari assessori soprattutto con l'assessore il bilancio perché nessuno voleva in qualche maniera ridurre le proprie capacità di spesa invece poi sono di incontri 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 ecco si è arrivati a questo e quindi un plauso veramente a loro quindi mantenendo però anche con questo rigore e quindi questo va dato merito a tutto il personale mantenendo l'efficienza dei servizi e riducendo anche se di poco la pressione fiscale però sono convinto che questo sarà ulteriormente aumentato cioè diminuito la pressione fiscale proprio per i soldi che verranno a disposizione nella prossima tornata amministrativa e se poi è vero come è vero quello che sta dicendo Renzi che ci sia che ci sia magari una maggiore lì vabbè ma insomma sai per quanto mi riguarda non ci sono dubbi per quanto mi riguarda non ci sono dubbi però sento poi dalle voci così anche vedo che voci ce ne sono parecchie anche se contraddittori insomma sulla buona fede di Renzi da parte mia vi assicuro che non ce n'è anzi forse prima però permettetemi in questo momento un ringraziamento e anche una citazione a tutte quelle persone che pur lavorando nell'anonimato con la loro passione con la loro abnegazione con la loro bravura e capacità nel comparto del volontariato e proprio a questi che li cito perché sono veramente tanti e se non ci fossero loro veramente ci sarebbero parecchi più problemi da parte dell'amministrazione da parte dell'amministrazione quindi parlo del volontariato dell'associazionismo sociale culturale sportivo eccetera e veramente lavorando questi lavorano veramente volontari ma proprio con lo spirito di donarsi con lo spirito di darsi perché sono convinto che è più ci si è più contenti quando si ha la capacità di donare agli altri qualcosa che noi abbiamo e quindi dicevo e lo ripeto questo permette l'amministrazione comunale pur con pochi fondi di ben operare sul territorio quindi veramente un applauso incommiabile al mondo del volontariato ecco signor sindaco e assessore ecco di questa ultima voce teniamone conto anche nella futura riorganizzazione delle circoscrizioni dovremo trattarlo fra poco perché se non lo trattiamo si andrà a votare il prossimo anno ancora per le circoscrizioni è stato votato una mozione e quindi io spero che l'amministrazione si ne faccia carico l'amministrazione e anche il sindaco quindi per portare avanti questo problema quindi il volontariato è veramente una voce molto ma molto molto importante teniamone conto grazie grazie consigliere Rossetto consigliere Dalmas prego buongiorno buonasera come è il giorno ma evidentemente io non sono d'accordo con chi mi ha preceduto ma potrei anche esserlo potrei anche esserlo non sono d'accordo perché sono prevenuto nei suoi confronti come sono prevenuto rispetto alla questa maggioranza ma è un dato solo di occupazione di dislocazione c'è un fatto è un abito come dire di prassi non è una giusta ginnastica mentale perché se vi fossero argomenti che ci portano a così ecco sulla buona strada della convinzione della bontà di tutto ciò che viene detto è fatto sicuramente noi non avremo difficoltà ad appoggiare le iniziative della maggioranza che governa questo comune che governa anche la regione che governa il paese che è sempre la stessa purtroppo non è così e il mio capogruppo amico non so se che capivo architetto Giamelli lo ha detto chiaramente mettendoci anche un po' di visione della città che un po' non guasta anzi credo sia necessaria perché non c'è stata signor Sindaco questo è credo il suo ultimo bilancio di previsione perlomeno di questa consigliatura poi se ritornerà lì il prossimo anno ne farà altri un bilancio di previsione dove effettivamente potete esibire dei dati positivi l'aumento dell'autonomia finanziaria la diminuzione della rigidità della spesa addirittura financo una sorta di dimezzamento dell'indebitamento dell'amministrazione previsto per il 2016 sedio e quindi sono indicatori assolutamente positivi il collegio dei revisori li ha riportati però nel riportarli in modo anzi li attesta sostanzialmente li certifica no? certifica questo dato c'è un organo terzo che certifica la bontà del quadro generale del bilancio però nel dire questo dice anche sì va bene insomma però si potrebbe pensare a un qualcosa di più nella riduzione delle tasse ovvero negli investimenti ovvero insomma immaginare qualcosa l'altro non so se sia possibile francamente non lo so vi do atto che il mondo dal 2011 è cambiato dico il mondo dal punto di vista delle realtà amministrative locali è cambiato perché il combinato disposto dei governi Monti del governo Letta e del governo attuale hanno fatto sì che i comuni fossero oggi più di ieri dei formidabili strumenti per recuperare denari da versare allo Stato e solo la partita sulla fiscalità degli immobili segna in Italia un 70 miliardi credo tra 2.000 stime di confedilizia ufficiali rese in questi giorni commentate anche da più giornali circa 70 miliardi dal 2011 al 2014 una crescita di 15-16 miliardi l'anno prelevati attraverso le varie manovre ex-ici i mutasi tari e tutto il resto e evidentemente anche noi non potevamo essere al di fuori al di fuori di questa partita al di fuori di questi obblighi lo siamo stati siamo stati investiti in pieno in questa vicenda siamo stati investiti in pieno tant'è che teniamo l'aliquoto in modo diciamo ragionevole do atto che questa amministrazione non ha usato prima e poi una come dire si è lasciata andare nel recuperare attraverso questa imposizione fiscale tributaria titolo primo delle entrate con alicote esagerate questo è vero vi avevamo però indicato alcuni obiettivi che forse potevano essere pensati per ridurre ulteriormente la pressione fiscale tributaria laddove il comune lo può fare io credo che con un milione di euro un milione e mezzo insomma disponibili avremmo potuto aumentare le detrazioni avremmo potuto allargare il range delle fasce e delle persone che in qualche modo oggi ha bisogno di un aiuto se non è diretto almeno di una minore imposizione noi siamo una città particolare che ha mille residenti in meno rispetto all'ultimo censimento 3.000 alloggi sfitti invenduti diminuiscono i residenti ma aumentano le famiglie e famiglie sono composte più delle volte da anziani da persone singole o comunque diciamo da oltre a 75 anni che stanno aumentando perché la vita media aumenta dirò al mio amico Giannelli perché dovrà immaginare la città per gli anziani e allora non abbiamo non ci siamo impegnati tanto su questo perché non abbiamo un monitoraggio concreto di queste cose la provincia di Polona così bisogna dare atto che un ente che è stato attraverso un magheggio istituzionale messo in piedi dalla formidabile presidente Seracchiani eliminata solo nella realtà di Polona per il resto delle province d'Italia non esiste ha fatto uno studio molto curato sul fabbisogno abitativo e sulla città di Polona voi ne avete dato atto qualcuno della maggioranza ne ha dato atto adesso non ricordo esattamente anche in questi giorni però poco avete capito cioè poco avete come dire tradotto in pratica di queste cose serviva un focus su questo perché a questo vi è richiesto perché sulla tasse e sulla fiscalità degli immobili si misurava e si misura il grado di qualità della buona amministrazione per cui non serve a nulla dire che abbiamo ridotto la rigidità della spesa perché ci sono 30 persone in meno di 10 anni che lavorano al personale o abbiamo aumentato l'autonomia finanziaria quando questa forbice non si è tradotta in un volano non dico per l'economia e che sarebbe impensabile non si è tradotta nemmeno in un atto di uso un termine che però appartiene alle mie radici culturali di giustizia sociale che in realtà avete sottovalutato voi che siete un'amministrazione di sinistra o di centro-sinistra ancora io non ho capito a quale partito partenga il sindaco ma lo scopriremo troppo credo partito democratico non so cioè un partito che governa la città e governa la regione Fiori Venezia Giulia e che vede in questo bilancio meno 3 milioni e mezzo di euro grossomodo nell'ambito dei trasferimenti titolo secondo delle entrate dei trasferimenti dalla regione apriti cielo se ci fosse stata una maggioranza diversa che cosa sarebbe stato lì mi rifiuto di crederlo non avete spiegato come applicerete l'ISEE da gennaio 2015 anche lì è una nuova tassa patrimoniale l'avete capito o non l'avete capito perché i coefficienti non saranno quelli della ex ICI ma saranno quelli dell'IMU cioè quelli del 160% in più introdotti dal governo Monti e anche lì ci spiegherete chi avrà diritto chi non avrà diritto quale sarà l'ampiezza degli aventi diritto di coloro i quali rientreranno in questo nuovo ISEE corretto di tutte le prestazioni sociali prima citavo il caso di Casa Serena scusate la ripetizione ma dovremo capire che cosa chi resterà dentro questi nuovi parametri il mio capogruppo ha ricordato nell'inizio del suo intervento gli obiettivi strategici che voi vi siete che avete dichiarato in questo bilancio di previsione il piano regolatore generale non so cosa vi sia da regolare nel momento in cui l'urbanistica mi pare sia morta non ci deve essere consumo di suolo che cosa urbanizziamo cioè scusatemi la provocazione che cosa abbiamo da urbanizzare no e chi ha e chi non ha non potrà mai più accedere blocheremo l'edilizia per i prossimi anni tutti contenti prescrizioni ovunque non faremo più niente quello che diceva Giannelli prima un garage per ogni condominio non ci sarà forse ci sarà se cambierà forse l'amministrazione e abbiamo avuto un'economia costruita su questo signor sindaco io non attribuisco a lei le cause del declino della città di Pordenone perché questa c'è un declino che non è non c'è facciamo conto che non ci sia c'è una caratteristica tipicamente pordenonese che abbiamo solo noi che nel resto della regione non hanno perché non vivono in questo modo il complesso qualcuno dice di cenerentola il complesso qualcuno dice di essere sempre dietro agli altri ricordo che queste amministrazioni pagavano studi per stabilire quanto in meno quanto lontana fosse Trieste cioè titolo secondo delle entrate titolo secondo cioè trasferimenti dalla regione di Florenza Giulia poi improvvisamente non si è saputo più nulla se ci fosse il buon casetta non so cosa avrebbe da dire qui oggi su questo bilancio no non lo so ma questa è propaganda mi scusi propaganda spicciola e noi abbiamo questa situazione perché siamo sempre lì vorremmo essere una città capoluogo di qualcosa e non lo siamo perché quelli che ci stanno intorno non ci riconoscono vorremmo essere dentro il sistema di Florenza Giulia e non lo siamo vorremmo andare con il Veneto ma non riusciamo ad andarci perché anche quella è una partita che evidentemente nessuno intende giocare realmente abbiamo un problema identitario l'abbiamo sempre avuto cioè e quindi c'è una sorta di di così carattere contraddittorio ecco mettiamolo così di questa nostra questa nostra realtà comunale che diventa provincia solo nel 68 perché c'erano forti forti imprenditori sappiamo com'è andata non le sto chiedere se nel 2017 ci sarà ancora l'Elettrolux qui non è se se ne va non è colpa sua è colpa di tutti è colpa della regione Fulmezia Giulia è colpa anche nostra che abbiamo governato è colpa di coloro i quali sono stati la classe dirigente di questa città e di questa provincia che l'hanno immaginata secondo una dimensione che era la loro dimensione non poteva essere una città che dà un futuro oggi siamo in difficoltà perché i giovani cosa riusciamo a dire cosa proviamo l'ha detto lei chiaramente oggi se vogliamo creare un divertimento il giornale citava la movida non si può fare perché se no i residenti si arrabbiano non sappiamo se abbiamo un'università o non ce l'abbiamo non l'ho mai capito ci sono stato anche lì dentro sono intervenuto più volte per salvare quando poteva farlo i costi del mantenimento di questa università il messaggio che davamo era un messaggio culturalmente sbagliato perché puntavamo su cose che non sempre potevano non avrebbero potuto garantirci un futuro noi abbiamo sempre bisogno siamo eccolo lì siamo abbiamo sempre bisogno di mimetizzarci e così ci confrontiamo caro signor sindaco abbiamo sempre bisogno di assomigliare agli altri e questa è stata la caratteristica di Pordenone che cosa ha generato non ha saputo valutare far crescere espandere quello che era nel suo DNA più intimo perché nemmeno oggi lo sappiamo perché chiunque grazie ad internet che doveva essere secondo il suo programma signor sindaco di governo una cosa che avrebbe cambiato il volto il segno di questa città non è stato così non lo si è visto se uno vuole aprire un'impresa o un qualsiasi centro centro commerciale qualsiasi negozio per il centro deve stare giornate intere deve venire di persona deve fare ancora le cose di persona deve chiedere tutte le autorizzazioni necessarie questa rivoluzione nella digitalizzazione nell'informatica in una sorta di silicon valley che io mi sarei io ci ho creduto anche in un certo punto finisco ci ho anche creduto tutto questo è andato perso è andato perso perché la sua amministrazione ha dovuto governare non lo straordinario ma un'evoluzione legislativa che le imponeva di fare i conti con la realtà questi conti li avete fatti li avete fatti in modo appena sufficiente ma non avete non avete nel contempo individuato una linea attraverso la quale sviluppare uscire dall'ordinario dall'ordinarietà alla quale vi ha condannato chi vi ha preceduto perché quel modello di città che avevano in testa è fallito è fallito miseramente e quindi lei oggi dovrebbe con forza prendere le distanze da quel modello e sapere indicare se volesse veramente il sindaco che pensa al futuro e avere anche argomenti attraverso i quali riproporse la città ne ha titolo ne ha titolo per farlo dovrebbe però prendere le distanze da quel modello che indicare ho finito grazie grazie consigliere franchin grazie signor presidente il mio sarà un intervento estremamente breve è solo di sottolineatura di un dato che non mi sembra stato messo sufficientemente in luce e cioè questo è il primo bilancio che me lo ricordo io che applica la legge secondo il principio dell'armonizzazione contabile quindi l'armonizzazione del bilancio a parte il termine che secondo me è piuttosto evocativo ma io lo trovo di fondamentale importanza di fondamentale importanza che questo comune che in questa sala consigliare si è discusso in questi anni e cioè come si fa a mettere in relazione amministrazioni diverse se non c'è la chiarezza di come si fa un bilancio e quindi a me sembra che questo passaggio sia un passaggio fondamentale mi sembra che il discorso fatto in questi anni su il ruolo del consiglio comunale rispetto all'amministrazione il ruolo del consiglio della città di riferimento rispetto al territorio e il ruolo rispetto dell'amministrazione di tutti i cittadini questa legge l'ha assolutamente interpretata e bene ha fatto questa amministrazione a presentare un bilancio di previsione nei tempi addirittura precedenti la previsione e secondo la nuova legge legge che parte nel 2009 e che rende possibile un'altra cosa che come liste civiche abbiamo sempre sostenuto che è il fratellismo fiscale e cioè la possibilità che ci sia una capacità di legge del territorio e di progettare insieme in base alle risorse quindi a me sembrava così necessario sottolineare l'importanza di questo concetto e cioè che il primo bilancio che io ricordo io per quello che sinceramente non capisco tutto come si fa a leggere un bilancio per me è difficilissimo però leggendolo quello che ce l'avete dato insomma mi rendo conto del grande sforzo che è stato fatto che è uno sforzo che oltre a far capire chiaramente quanto c'è di contabilità economica e patrimoniale fa capire chiaramente quanti sono i dediti per quell'anno le entrate per quell'anno e per l'anno successivo e per gli anni avvenuti per il triennio di programmazione che allora tutto questo secondo me ha un'importanza fondamentale nel momento in cui discutiamo di uti e di fusione dei comuni cioè come si fa a parlare di fusione dei comuni se non c'è all'inizio un concetto base su come i comuni hanno costruito il loro bilancio cioè è una condizione preliminare insomma ci deve essere una lettura uguale per tutti seconda cosa gli enti pubblici si muovono attraverso atti e gli atti hanno significato ma se gli atti sono scritti in maniera diversa comune per comune o addirittura andando un po' più in là come comuni italiani verso comuni europei visto che il nostro futuro sarà una rete di comuni che si confrontano non a livello locale ma a livello internazionale almeno europeo penso perché i fondi passano attraverso quella cassa e quindi i bilanci devono essere eletti a Damburgo come a Catania penso e quindi a me sembra che questo dato e cioè la capacità che ha avuto questo comune come gli altri sono per legge quindi non penso che ci fosse l'alternativa ma in tempi così brevi di essere all'altezza di ridire un bilancio secondo questi principi ci mette in una dimensione diciamo di uscita da una valutazione campagnistica del territorio insomma ci mettiamo in una dimensione internazionale cioè secondo me europea tutto questo ha comportato perché ci è possibile tutto questo deve essere stato un grande lavoro con gli uffici quindi un forte modernamento della parte amministrativa cioè tutto questo secondo me va fortemente sottolineato al di là di tutte le cose delle analisi sul bilancio lo diremo tutti io stasera i sogni sono di altri anni insomma questo invece è un passo determinante per costituire il futuro e quindi per costituire quello che noi vogliamo l'unione dei comuni la fusione dei comuni e per fare questo bisogna che ci sia un passaggio sulla capacità di leggere quello che il comune ha di debito e di rendita di entrate quindi io sono per sottolineare e ringraziare l'amministrazione per questo passaggio che secondo me ci ha reso in qualche modo più abitanti a meno dell'Europa grazie grazie consigliere parfido prego grazie presidente ovviamente non è che si andrà a fare un'analisi dettaglio per dettaglio di ogni centro di costo perché insomma per questo ci sono uffici che sanno fare con dovizia di particolare competenza ed egregiamente il loro mestiere e quindi di sicuro il bilancio da quel punto di vista non ha nulla da eccepire certo è che dal punto di vista politico il bilancio è sicuramente negativo perché i conti sono una cosa ma poi io mi chiedo se voi oltre a togliere dal sito internet del candidato sindaco pedrotti dal sito del partito democratico quelle che erano i vostri punti programmatici forse per evitare di far vedere che non avete realizzato neanche uno mi chiedo se ogni tanto andate a vedere le vostre linee programmatiche che avete approvato e ci ho messo un po' per cercarle per fortuna le trovate nel sito del comune e allora forse lì sarebbe da fare un bilancio e molto probabilmente la maggior parte degli assessorati dovrebbe essere rimandato a settembre perché non ho trovato nemmeno uno se non l'assessorato del capardo con ficoni che c'è la testa dura non c'è trovato nemmeno una delle cose che avete promesso di fare che avete realizzato e allora se il bilancio serve per capire come stanziare le risorse di una città in modo tale da realizzare gli obiettivi che vi siete prefissati beh vi dico subito che non avete realizzato neanche uno ma neanche uno dei più semplici neanche la realizzazione della banda larga dove sembrava essere tutto facile perché era una semplice convenzione tra pubblico e privato non avete realizzato neanche questo allora il bilancio è negativo e se andiamo a vedere punto per punto veramente vi fate del male e mi chiedo come possiate ancora continuare a dire che questa amministrazione ha fatto tutto quello che era possibile per cercare di realizzare qualcosa allora a prescindere dal fatto che dice il collega Franchin che per carità è il primo bilancio realizzato secondo determinati nuovi principi però c'è anche il principio di competenza però c'è anche il principio di competenza appena dimostrato che quel principio non viene riaspettato perché il comune va a prendere dei soldi senza avere la competenza di farlo mi chiedo perché alcuni comuni non lo facciano per evitare il danno erariale mentre il comune di Pordovano può permettersi di andare a prendere quei soldi senza avere la competenza e andare a destinare in un certo capitolo di spesa e mi riferisco di nuovo ai buoni pasto allora qua su principi contabili ho i miei dubbi ma ovviamente c'è gente che è più studiata di me e quindi fate pure come credete allora oltre a questo poi quando si fanno le interrogazioni al consigliere di opposizione si dice qualcosa e fate l'esatto opposto mi chiedo quello il rispetto volete vedere con fronte dei consiglieri comunali di opposizione perché se l'assessore dice quel soldi io in quanto assessore non posso più stanziarli perché il principio contabile non lo prevede mi chiedo come poi facciate il contrario come sia possibile che questa amministrazione dica una cosa verbale in consiglio comunale e poi faccia l'esatto opposto e quindi signor presidente del consiglio mi chiede quale sia la tutela si riferiva a quella del consiglio stavo parlando con il presidente del consiglio mi chiedo presidente del consiglio quale sia la tutela dei consiglieri comunali quando la maggioranza e la giunta si permette di dire una cosa in sede di risposta e interrogazione e poi invece fare l'esatto opposto questa non è una cosa che è a tutela del consiglio comunale e dei cittadini poi andando a vedere appunto eh no ma scusi no no ma infatti rimane verbale che un assessore dichiara una cosa e poi nel bilancio viene fatta tutt'altra cosa sì ovviamente noi dobbiamo essere tutelati perché se poi una allora andiamo a vedere questo vostro bilancio che non sono i numeri questa amministrazione doveva essere l'amministrazione che governava dopo i dieci anni della giunta precedente che aveva governato Pordenone e al punto primo di questa giunta al punto prima al punto prima c'era il lavoro come elemento fondante della comunità mi chiedo cosa sia stato fatto per il lavoro dal 2011 ad oggi mi chiedo quale delle singole iniziative ha detto proposto di realizzare ovvero una burocrazia più sostenibile una creazione di sistema che facilita l'insediamento delle nuove imprese la creazione dell'eccellenza nei segmenti dove ci sono competenze coinvolgendo università e mondo industriale mi chiedo quali siano stati gli aiuti che il comune di Pordenone e la giunta Pedrotti ha dato all'imprenditoria giovanile o quale sia stata l'iniziativa fatta a favore del microcredito del co-working e lì era proprio una monata realizzare mi scusi la parola o la figura del tutor per l'avviamento delle imprese per i giovani imprenditori o per esempio facilitare una serie di iniziative che favorissero l'insediamento delle nuove attività artigianali in centro di Pordenone non da ultimo sempre favorire il lavoro e la ripopolazione del centro cittadino c'era anche l'intenzione da parte della sua amministrazione signor sindaco di riportare l'attività nel centro cittadino l'attività commerciale nel centro cittadino ora mi chiedo se almeno una di queste cose è stata fatta perché se almeno una di queste cose è stata fatta invece di avere un voto zero magari le diamo uno per non parlare poi appunto delle esperienze del wireless tralasciamo google a Pordenone che ormai sappiamo che non è fattibile però testuali parelli dicevano per una città come Pordenone che deve attirare l'imprenditoria moderna l'imprenditoria tecnologica l'imprenditoria dei nuovi settori elemento essenziale è portare la città a livello di competitività indispensabile installando la banda larga in tutta la città con appunto una progettazione e una collaborazione tra enti privati soggetti privati e soggetti pubblici io che abito nella parte nord della città so che devo usare la mia cavetta internet per collegarmi probabilmente chi non fa l'otto buono della città può soffrire del sistema wireless però mi sembra che sia un po' un sistema impari nei confronti di tutti i cittadini ai quali aveva promesso questa cosa e soprattutto non è di certo il modo per attirare le persone le aziende a venire a Pordenone come voleva fare lei altro punto altro punto città accogliente sicura allora lungi dal sottoscritto e dal partito che rappresento quello di fare una campagna che vada a toccare i recenti argomenti come argomento di battaglia politica però mi chiedo mi chiedo se Pordenone che ha vissuto due episodi molto gravi che ci hanno portato alla ribalta nazionale lo stupro di quella ragazza da parte di quel delinquente che è uscito dalla carcere di Pordenone e questo doppio omicidio nei pressi della fiera mi chiedo se Pordenone dotato di telecamera e giocattolo possa essere sì scusi mi chiedo se Pordenone possa essere considerata una città accogliente e sicura visto che tra l'altro poverini queste due persone che sono morte sono anche venute da fuori e quindi nel senso accogliente e poi hanno visto hanno fatto la brutta fine che hanno fatto non sto facendo nessuna sto facendo soltanto una descrizione una descrizione di quello che è successo mi chiedo se in base a quanto è venuto in base a quanto è venuto Pordenone dotato di telecamera e giocattolo possa considerarsi città accogliente sicuro argomento delicato la cultura quando era periodo di vacche grasse chi sedeva qua da queste da queste parti dell'opposizione diceva attenzione dobbiamo produrre un sistema culturale in grado di produrre ricchezza produrre ricchezza per la città va benissimo ricchezza di carattere sicuramente dal punto di vista dell'istruzione ricchezza anche dal punto di vista del ritorno economico va benissimo dobbiamo farlo però in questo momento siete stati voi stessi coloro i quali nel momento in cui le vacche grasse sono finite sono private le vacche magre avete tagliato tutto e quindi il povero assessore Cataruzza si ritrova a dover fare le nozze con i fichi secchi ogni volta tant'è che non siete stati in grado neanche di rendere felici le famiglie pordenonesi semplicemente con il carnevale l'altra sera a Prata c'è stata una serata in cui era pieno di gente e di Prata di Pordenone che è qua 15 km 10 km da noi ha gli stessi problemi di carattere economico penso che non facciano il bilancio con i talleri ma lo facciano anche loro con gli euro con gli stessi principi contabili e perlomeno sono riusciti a organizzare un evento in grado di attirare attenzione da tutta la provincia di Pordenone qua invece non è stato più in grado di tirar fuori una lira per niente mi chiedo quali sia la vostra visione la visione della città perché se ci sono degli eventi che vanno sostenuti che sono di un turno economico devono essere sostenuti sempre perché altrimenti non ci credete neanche voi e sarei diventati la città capoluogo dove non si fanno neanche carri particolarmente io non sono interessato al carnevale però quando i cittadini mi dicono ma com'è che nella città comune capoluogo non si festeggia il carnevale mentre noi altri comuni sono ancora in grado di gestire queste risorse vabbè poi per quanto riguarda sempre la cultura il papiro che aveva scritto il papiro che aveva scritto diceva riqualificazione in chiave culturale di altri spazi ad esempio la casa del mutilato per concludere la riutilizzazione del circuito culturale pordenonese mi sembra che la casa del mutilato sia allo stesso punto in cui lei la trovò quando si insedua come sindaco quindi neanche qua siete stati in grado di realizzare qualcosa poi c'era un punto interessantissimo che sicuramente potrete utilizzarlo quando lei sindaco o lei vice sindaco si candiderà sindaco ovvero realizzazione di un ente civico per insegnare a tradurre musica avete perlomeno iniziato a vedere questa cosa o dopo 4 anni siete ancora al punto di partenza l'avete detto voi dovete realizzarlo e noi l'averemo anche sostenuto perché ci crediamo in queste cose però a questo punto non siete più credibili non avete realizzato neanche una di queste cose che è nel vostro nel vostro programma ambiente e rafforzamento del legame con il fiume che non è la vostra lista civica con il quale il legame comunque mi sembra non è la vostra lista civica con il quale mi sembra che il legame non sia così fermo come all'inizio però è il fiume di Pordenone il noncello dove avete promesso solendamente che finalmente l'avremmo ricondotto e ricollegato la città e reso come parte integrante della vita quotidiana beh come unico effetto c'è stato quello di aver fatto scappare una cooperativa a vivere il fiume che voleva veramente investire dei soldi lì quindi altri risultati non ce ne sono se non le prime lezioni le prime lezioni che sono state fatte oggi insieme all'associazione dei comunauti sul fiume quindi investimenti non siete stati in grado di attirarne quando c'era qualcuno che voleva investire l'avete mandato via a porta in faccia e quindi signor sindaco non riesco a capire come voglia rendere veramente accogliente la città e quindi questi soldi del bilancio 10 euro di qua 200 mila euro di là 250 le tasse sono state abbassate i rifiuti ancora per chi fa in modo virtuoso la raccolta differenziata non siete stati in grado di applicare una tariffa puntuale nonostante siano anni che dite che andrete a fare e poi per chiudere in bellezza la viabilità cittadina che doveva essere una mobilità sostenibile un piano del traffico il piano della mobilità sostenibile il piano regolatore il mobility manager che doveva fare tutti i grandi cambiamenti che avrebbero portato Perdonone ad essere la città della mobilità sostenibile e al momento non c'è niente cioè quindi quattro anni il vostro bilancio non il bilancio economico che è quello che lo fanno in modo egregio gli uffici il vostro bilancio politico è probabilmente da gravemente insufficiente spero che ve ne rendiate conto perché adesso non è che l'opposizione ha preso spunto da elementi presenti in modo sporadico semplicemente sotto le linee programmatiche che voi avete approvato lei sindaco manager doveva essere colui il quale avrebbe portato i grandi cambiamenti in città doveva essere quello che avrebbe fatto diventare Pordenone la città dei grossi investimenti delle nuove aziende dei nuovi settori doveva essere la città che doveva essere rivitalizzata grazie a un piano regolatore sostenibile un piano regolatore che invece ancora non vede neanche una parvenza di partenza e Dulcis in fundo nel 2006 nel 2006 venne approvato da parte della maggioranza di centro-sinistra quindi sempre da parte vostra il progetto per le formature con investimento di 120 milioni punto finale delle vostre linee programmatiche era finalmente iniziare a dare esecuzione a questo progetto neanche questo progetto l'avete iniziato a finanziare probabilmente le uniche fognature che ci sono sono quelle di nuova realizzazione fatte nelle nuove Pordenone non c'è un sistema fognaro signor sindaco ha scritto lei nella linea programmatica ecco neanche questo siete stati in grado di realizzare quindi un bilancio politico veramente gravemente insufficiente grazie consigliere Loperfido consigliere Martino prego no scusate freschi grazie presidente anche se forse non c'era Martino ma c'era la Picin che poi si è spostata comunque no va bene no va bene non ho non ho problemi niente allora iniziamo a fare qualche ragionamento è chiaro che in sede di bilancio ognuno gioca la propria parte nel senso che il momento in cui maggioranza e opposizione si incontrano o si confrontano meglio è su quello che l'amministrazione ha presentato su quello che l'amministrazione intende fare come previsione per l'anno in corso diciamo che il gioco delle parti prevede che la maggioranza difenda l'operato dell'amministrazione e l'opposizione invece cerchi giustamente di fare le pulci a tutto ciò che è pulciabile tra virgolette chiaramente un'innovazione sì lessicale e siccome sono cose che poi la stampa coglie è meglio dire qualcosa che rimane sì esatto che fa impressione siccome se no lasciamo solo questo al consigliere Giannelli qualche spazio ce lo ricaviamo anche noi io ho cercato di leggere attentamente i documenti che ci sono stati trasmessi e sono un malloppo non indifferente io ho cercato di in qualche modo di fare delle delle analisi che potessero essere obiettive per non cadere in quel gioco che da una parte si dice sì dall'altra si dice no per cercare di essere il più obiettivo possibile anche riprendendo alcuni passaggi fatti dal consigliere Loperfido nell'ultimo intervento bene se noi prendiamo in mano i dati che ci sono stati consegnati che sono stati oggetto di presentazione da parte della giunta in particolare dell'assessore Mazzer dell'assessore Conficoni per la parte che lo riguardava e andiamo a confrontarli con quanto è riportato nella relazione previsionale programmatica 2015 2017 potremmo citare tutta una serie di passaggi in cui ciò che era stato scritto a livello di programma è in qualche modo riproposto a livello di fase operativa prendete in mano la pagina 53 dove si parla di biblioteche tanto per usare un esempio si dice e si riportano quali sono i dati di quel contenitore che io continuo a definirlo non solo biblioteca ma un luogo della socialità lo definirei un campus studentesco anche universitario per certi aspetti ma è un luogo nel quale i nostri giovani si incontrano e creano socialità è veramente un fiore all'occhiello di questa città andando avanti a pagina 56 dove si parla di musei mi permetto di dire questo perché noi abbiamo un assessore alla cultura il quale in restituzione di bilancio è riuscito a fare molto anzi direi moltissimo ha solo una pecca che forse parla poco e dovrei parlare mi dispiace che stia conversando con la consigliera Orsola ma perché vorrei che recuperasse questo suo questo suo questo suo gap nel senso che con risetezze di bilancio ripeto che in questi anni sono state marcatamente sottolineate da più parti è riuscito a fare molte cose è riuscito a dare molte iniziative alla città e penso che la galleria Eri Bertoglia con le mostre che si sono succedute negli ultimi tempi sia dimostrazione di ciò che è stato fatto io invito l'assessore magari a rendere pubblici quei dati quelle 15.000 presenze che ci sono state i soldi che sono scostate al comune e quelli che sono invece state le vere spese effettive che sono state sostenute anche da da sponsorizzazioni da privati eccetera perché sono queste le cose che in qualche modo ci contraddistinguono quando si parla di cultura si parla anche di questo si parla di ciò che ruota attorno delle persone che ci lavorano dell'indotto che ci porta dell'immagine che diamo alla città e per cui l'assessore colga questo aspetto e poi se colga anche l'altro che le avevo suggerito è che in parte lei ha messo in atto ma che le predegherei di estendere proprio parlando dei musei alla pagina 56 della relazione che dicevo prima è il cosiddetto progetto cicerone io vi chiederei di ampliare questo progetto perché è un progetto che ci permette di mettere in relazione i giovani con la città se noi abbiamo un punto in cui tutti dobbiamo essere preoccupati che siamo maggioranza o che siamo opposizione è il futuro dei nostri giovani il fatto che i nostri giovani migrano dalla nostra città perché ci sono problemi di tipo occupazionale perché ci sono dei contenitori che non sono in grado di ricevere le loro istanze e qui mi collego il discorso universitario non ultimo il discorso del dipartimento affrontato in questi ultimi giorni e spero che puntare i piedi da parte dell'amministrazione regionale sul fatto che il dipartimento ci deve essere sia un passaggio importante e doveroso e mi auguro che coloro i quali siedono il consiglio regionale che siano di maggioranza o di opposizione lavorino su questo fronte gli atenei di Udine e di Trieste devono rendersi conto che il dipartimento di Pordenone è essenziale è importante è un concepimento di una università policentrica forse il dubbio può essere sul fatto che esistano due atenei in una regione come il Friuli Venezia Giulia io sarei di parere che ci sia un ateneo solo e che questo ateneo lavori in forma policentrica nel senso che si diffondono il territorio per alcune specialità che trovano una loro giusta allocazione abbiamo scienze multimediali abbiamo economia abbiamo avuto ingegneria facciamo un ragionamento mettiamoci attorno a un tavolo lei sindaco so che l'ha fatto ha cercato di portare avanti alcune istanze però queste istanze vanno portate avanti se c'è un gioco di squadra in cui riusciamo ad andare oltre le nostre differenziazioni e andare oltre le nostre differenziazioni significa non pensavo a queste mie parole creassero questa tensione andare oltre le nostre differenziazioni significa anche ragionare un po' più in grande e forse qui cogliere anche alcuni passaggi che faceva il consigliere Povicini o che faceva il consigliere Dalmas io penso che noi dovremmo avere la capacità di pensare in grande però questo non significa che questa amministrazione non è riuscita a farlo dobbiamo contestualizzare i tempi i momenti che stiamo vivendo noi dal 2011 hanno definito l'anno che cambia drasticamente il modo di pensare degli italiani se pensiamo a quel novembre del 2011 orlo del baratro così definito e penso che molte cose siano cambiate per cui anche quando si parla di programmi bisognerebbe essere di paracarri per rimanere fermi i programmi fatti prima del 2011 e poi non essere in grado di riposizionarsi rispetto a una situazione che notevolmente è cambiata e mutata questi sono i ragionamenti che dobbiamo fare siamo in grado di fare tutti insieme un passaggio siamo in grado a pensare a una città del futuro che forse qualche paradigma lo deve cambiare può darsi che siano le torri alla zanelli che cambiano la città non uso come né con spirito ironico né con spirito polemico cioè nel senso di dire può darsi che ci siano delle idee completamente nuove a cui nessuno ha pensato prima che però messi insieme a metterci a confronto ci aiutano a capire che dobbiamo venirne fuori in qualche modo questi sono i ragionamenti che mi appassionano che mi fanno dire ancora la politica ha un senso ha un modo di esistere un modo di fare nel momento in cui riesce a ripensare però allo stesso tempo dobbiamo anche avere i piedi per terra e considerare che un comune va amministrato e va amministrato sulla base di numeri e di conti di entrate e di uscite io penso che gli uffici abbiano fatto assieme all'assessore e assieme ai suoi colleghi di giunta abbiano fatto un lavoro egregio e vanno riconosciuti per quanto hanno fatto i revisori di conti hanno presentato per la prima volta un come era dovere e logico fare un documento composto da 66 pagine i revisori di conti non hanno mai presentato documento di 66 pagine tutti ci limitavamo grossomodo a reggere le conclusioni io sono andato un po' a leggermi queste pagine a guardarmene anche se non era così facile se non una cosa così semplice da analizzare e penso che ci siano dentro tre dati che mi hanno particolarmente colpito a pagina 16 l'indebitamento l'analisi che viene fatta 2010-2013 rivoluzione di 20 milioni di euro le modalità pagina 25 armonizzazione del bilancio la nuova modalità di redigere un bilancio i compiti che spettano la giunta da un lato e che spettano il consiglio dall'altro e qui il consigliere franchina ha toccato in qualche modo questo passaggio e anche qui vengono dettate delle regole per cui uno deve fare una cosa e uno deve fare l'altra e all'interno di questo c'è il controllo poi a pagina 49-50 indebitamento e spese nuove modalità da quella due tabelle si capisce ciò che si sta facendo si capisce a cosa è stata costretta l'amministrazione comunale o le amministrazioni comunali più in genere per fare in modo che i bilanci rispondano a una logica di bilancio è chiaro che da una parte c'è un documento ragionieristico che va rispettato è guai se non lo fosse perché così deve rispondere deve essere fatto in maniera corretta e perfetta per cui ci deve essere una risposta da parte degli uffici da parte della macchina comunale però pensate che questa risposta della macchina comunale ci sia se non c'è un'organizzazione a monte che la sa dirigere che la sa organizzare che gli sa dare giusti input e se all'interno di questa macchina non ci sono delle persone che rispondono a nomi e cognomi che sanno seguire con attenzione quello che è accaduto in questi anni in termini di normative in termini di legislazione in termini di nuovi indirizzi che vengono dati ecco io penso che questo sia stato in qualche modo fatto tutto è perfettibile tutto è migliorabile però certamente non si può dire che questa amministrazione e mi pare sia stato detto da tutti dal punto di vista del bilancio non sia stata attenta a quello che in qualche modo è venuto avanti in questi anni ecco poi se andiamo avanti sempre nel guardare il documento di bilancio una forte attenzione è stata data a quello che è il mondo dell'associazionismo a quelle che sono anche le nuove realtà che stanno sorgendo a quelle che sono le iniziative che possono essere messe in atto sto pensando pagina 79 e così ne cito una a caso il fatto che alla Proloco ad esempio vengano date nuovi spazi della città dove poter operare spazi che fino a qualche tempo fa sono stati oggetto in questo consiglio di ampie diffuse discussioni per la loro criticità penso al discorso di estendere da Piazza Risorgimento a Piazzale Costantini a Via Roveretto a Piazzetta Freschi eccetera uno spazio dove si possa andare ad estendere la presenza del mercato dei mercatini sono tutte iniziative che in qualche modo vanno nel cercare di affrontare una situazione anche di disagio che c'è in città in questi giorni abbiamo letto più di qualche volta che ci sono degli angoli che in qualche modo non sono presidiati che sono degli angoli in qualche modo che presentano delle criticità e sono gli angoli in cui in qualche modo insistono i giovani ecco sui giovani bisognerebbe aprire un grosso dibattito io penso che noi viviamo un momento in cui la situazione dei giovani sia veramente estremamente estremamente critica è difficile ma siamo in una situazione anche nella quale i giovani soccombono a un sistema fatto dei vecchi in genere i giovani erano i promotori di qualcosa che cambiava è venuto a mancare in qualche modo una stanza di compensazione tra quella che era la famiglia da un lato e il lavoro dall'altro in mezzo è mancato un passaggio non esistono più questi spazi in cui ci si confronta in cui le idee del giovane venivano in qualche modo confrontate in qualche modo c'era uno scambio anche forte e anche acceso sono venuti a mancare questi spazi sono regolati questi spazi dalle tecnologie che non sempre sono in qualche modo controllate che non sempre sono in qualche modo indirizzate ecco io penso che il tempo purtroppo è scaduto avrei altre cose da dire ma penso che tutto sommato noi ci troviamo in un momento di passaggio questa amministrazione ha gestito per quanto era gestibile un momento difficile mi rendo conto che il futuro di questa città non passa attraverso un documento di bilancio ma passa attraverso una serie e costruttiva collaborazione e dialogo tra coloro i quali vogliono che questa città veramente cresca grazie grazie consigliere Freschi consigliere Martino prego grazie presidente ecco io mi associo ai ringraziamenti all'assessore Mazzere al sindaco e a tutti gli altri assessori perché ognuno ha fatto la propria parte rinunciando a delle risorse che sicuramente avrebbero dato dei risultati maggiori sull'attività del settore stesso però nonostante questo parliamo di risorse come è stato detto di circa 3 milioni e 300 mila euro in meno nonostante questi risultati si sono ottenuti forse quello che ha pagato più pegno è l'assessore Cattaruzza questa sera ma anche in altra occasione è stato tirato in ballo più volte rispetto all'attività del suo settore rispetto anche al fatto di esternalizzare dei servizi come diceva poco fa anche il consigliere Pedicini io da una relazione che l'assessore così ha fatto risulta che in questo mandato c'è stata una contrazione dei costi di circa 20% e una una contrazione degli investimenti del 40% questo fa capire un po' anche su quali risorse si è operato per quanto riguarda l'anno 2014 forse questo sarà oggetto del bilancio consultivo l'assessore dice che i costi dei musei e degli spazi espositivi sono stati di circa un milione di euro che sono ripartiti in 526 per quanto riguarda i costi delle utenze e tutto quanto serve per gestire appunto un settore e mentre per quanto riguarda il costo personale è la restante parte pari a 452 mila euro da questi dati che io leggevo poco fa emerge che esternalizzare uno o più spazi espositivi è come dice l'assessore anti economico e quindi diventa anche tecnicamente complicato perché ci sono dei costi che sono incomprenibili come quello del personale quindi non so se per seguire la strada appunto di esternalizzare questo servizio sia conveniente credo di no appunto detto questo allora diciamo prima dei risultati ottenuti ecco anche il collega Rossetto ha citato alcuni di questi risultati io mi limiterò solo a fare un ragionamento magari legato a qualche riflessione che poi dirò beh sicuramente c'è stato l'indebitamento dimezzato e questo dovuto anche al patto di stabilità che ha limitato la capacità di investimento consigliere Loperfido diceva puntualmente ha fatto un'analisi rispetto alle linee programmatiche ha messo in evidenza alcune cose che io non condivido anche perché tutto l'operato di questi quattro anni dell'amministrazione è in linea appunto con le linee programmatiche poi le situazioni che si possono essere lette in diverso modo io dico pure che appunto si è operato in un periodo che va dal 2011 in pieno periodo di crisi fino ad oggi con delle risorse che appunto da quel periodo ad oggi sono quasi dimezzate quindi la capacità di investimento è stata ridotta notevolmente questo può essere letto anche in senso positivo in questo momento perché per quanto riguarda la spesa calato il rimborso dei mutui avremo nel prossimo futuro una capacità maggiore appunto con maggiori risorse di investimenti e per i servizi quindi questo è uno dei risultati appunto ottenuti poi per quanto riguarda la spesa corrente io non entro nel merito perché durante la presentazione è già stato detto voglio solo far presente che comunque con queste risorse in meno almeno sono stati salvaguardati i servizi essenziali e mi riferisco a quelli del settore delle politiche sociali un altro risultato ottenuto è quello della pressione fiscale allora diciamo sono state mantenute le aliquote quelle che già avevamo quello del 1,25% della tasse 3,80% per l'IMO prima casa ma per determinate categorie ricordo anche che è stato confermato l'aliquota del 3,80% del 3,80% per mille per quanto riguarda gli anziani e i disabili ricoverati in strutture quindi sono iniziative diciamo a favore delle fasce più debole ricordo ancora che l'addizionale IRPEF pare allo 0,2% è una tra le più basse d'Italia vi ricordo che l'anno scorso circa 40 comuni capoluogo hanno aumentato l'addizionale IRPEF la media nazionale è del 0,5% mi pare che mantenere allo 0,2% che poi quando parliamo di IRPEF va a toccare tutte le fasce di reddito e quindi ne beneficiano tutti i cittadini ecco per quanto riguarda l'Atari anche lì c'è stata una diminuzione anche se di poco però è un segnale ecco a proposito di pressione fiscale volevo chiedere all'amministrazione siccome recentemente si era discusso con la regione circa la possibilità di avere una deroga alla norma che stabilisce appunto che in caso di risorse ulteriori si possa andare ad abbassare la pressione fiscale io non so se adesso in questi giorni se questo è avvenuto e credo che ecco questo l'assessore adesso Mazzari dice che è confermato credo che sia un punto a vantaggio di questa amministrazione che appunto non solo ha mantenuto o ha ridotto ma ha anche da operato per ulteriormente ridurre la pressione fiscale quindi se arriveranno dopo con l'avanzo di bilancio della regione altre risorse queste verranno utilizzate ancora a appunto diminuire la pressione fiscale quindi mi compiaccio anche di questa cosa poi così vorrei fare delle considerazioni brevi delle richieste per quanto riguarda un altro argomento che periodicamente torna così alla ribalta che è quello dei cosiddetti contenitori cioè degli immobili disponibili dell'amministrazione ecco ricordo che in altra occasione anche in quest'aula è stato discusso di questo argomento il PD aveva fatto un'attenta analisi e avanzato delle proposte e devo dire che a queste proposte diciamo ci sono state anche delle risposte significative e non sto così a ripetere penso che ognuno sappia di cosa parliamo e dico questo per brevità così di tempo però ci tengo adesso così a fare appunto una breve riflessione per quanto riguarda la sede dei giudici di pace e il cosiddetto Bronx allora sappiamo tutti che recentemente per disposizione ministeriale sono state soppresse alcune sedi di tribunale anche di giudice di pace nella nostra provincia è stata soppressa la sede di Maniago Spilimbergo e San Vito e in più c'è stato l'accorpamento con Portoguaro adesso diciamo che la sede in via Riverasca è una sede angusta una sede che ha pochi spazi per il pubblico e con personale che ultimamente è stato anche ridotto mi riferisco a quello giudiziario allora questo significa dover intervenire per migliorare questa sede adesso dal bilancio nella parte che riguarda gli investimenti per quanto riguarda il settore giudiziario e penitenziario io vedo che nel 2015 non ci sono risorse allocate anche se poi nella pagina precedente mi riferisco pagina 43 e 44 vedo nel 2015 85.000 euro però poi quella successiva è zero non so perché e poi vedo il differimento di interventi sia per quanto riguarda la sede appunto di l'ex biblioteca piazza della motta e sia per quanto riguarda il tribunale ora è chiaro che queste opere previste nel triennale ma nel 2016 e nel 2017 sarà un'altra amministrazione ma sì poi magari mi darà una risposta ecco io credo che questa partita dell'ex biblioteca bisogna stringere adesso perché se questa sede andrà messa a disposizione per i giudici di pace beh bisogna farla anche in tempi brevi altrimenti bisogna fare altre scelte altre scelte anche perché come vi dicevo prima ci sono diversi contenitori ancora a disposizione quindi io credo vada fatto un ragionamento di nuovo su tutto ciò ecco per riadattare la sede questa sede mi pare servono circa 500 mila euro ora io non trovo corretto che debba essere il comune ad anticipare questi soldi perché stiamo parlando comunque di servizi che deve fornire lo Stato e che comunque non riguardano solo il comune di Pordenone ma riguardano diciamo l'intera provincia e addirittura adesso con il fatto del superamento dei confini provinciali anche quelli di Portoguaro quindi io credo che bisogna fare un ragionamento tra lo Stato la Regione e appunto il comune magari ci fosse già l'Uti si potrebbe già parlare di Uti per fare una scelta definitiva su questo punto qua anche per il tribunale il comune anticipa delle spese sappiamo che è un giro di posta però deve anticiparle per poi riscuotere io non so adesso i tempi poi l'assessore ci dirà i tempi di restituzione da parte dello Stato di questi soldi che comunque stiamo parlando di 880 mila euro comunque l'importo totale è quello almeno dal bilancio emerge per quanto riguarda poi il cosiddetto Bronx il centro direzionale era stato pensato per ospitare gli uffici pubblici una serie di uffici pubblici oggi stiamo assistendo a uno svuotamento continuo dopo il trasferimento della prefettura di un anno e mezzo fa l'accorpamento INPE-DAP-IMPS e in un prossimo futuro anche gli uffici dell'azienda sanitaria quel luogo diventerà un luogo sempre più deserto di questo poi magari ne parleremo anche quando discuteremo di piano regolatore cioè di servizi però io credo che anche lì adesso magari in prospettiva va fatto un ragionamento e secondo me quel luogo per sua natura vista la vicinanza alla stazione al terminale delle Corriere la stazione ferroviaria deve essere un po' lo scolastico cioè in parte già oggi è occupato da scuole ma se ci saranno altri quando lo Stato riorganizzerà i propri uffici a livello territoriale magari con il discorso degli UTS di cui abbiamo parlato recentemente altri spazi si libereranno quindi secondo me bisogna puntare a questo polo scolastico l'ultima cosa finisco riguarda la gestione dei rifiuti non vedo l'assessore con Ficoni magari è dietro ok devo dire che io devo fare per quanto riguarda la gestione appunto dei rifiuti anche complimenti l'assessore perché fra tante difficoltà non ultima quella della raccolta di rifiuti in centro dopo un periodo di cosiddetto sbandamento di disorientamento di parte dei cittadini si è arrivati a una gestione ottimale questo ha comportato anche dei risparmi fin da subito ma anche in prospettiva e credo che e questo viene testimoniato il buon lavoro anche dal fatto che il rapporto lega ambiente pubblicato sullo solo 24 ore colloca Pordenone al quinto posto per quanto riguarda l'ecosistema urbano e al primo posto per quanto riguarda la raccolta differenziata è stato detto che siamo ormai oltre l'80% esattamente l'82 dispari ecco io credo che però per quanto riguarda l'ambiente un punto vada vada affrontato lo so che è difficile per noi adesso per noi perché abbiamo un anno un anno ancora così di attività ma per quanto riguarda la criticità legata alla capacità di depurazione delle acque sappiamo che adesso le fognature che vengono che sono state fatte ultimamente sono di tipo separato però ce ne sono tantissime ancora di tipo misto quindi credo che la Regione e gli altri enti deputati a gestire le acque debbano fare degli investimenti su questo versante perché appunto è un come dire un servizio che va affrontato perché quando parliamo di ambiente significa parlare della salute dei cittadini oggi sono sempre di più le allergie l'inquinamento quindi agire in questo senso io credo che sia appunto un investimento che nel dare servizi ai cittadini porta anche ad un maggiore sviluppo del territorio grazie grazie consiglio Martino consigliere Pasud prego grazie presidente allora colgo l'occasione per rilevare il commento che ho condiviso che ho condiviso e che ha pronunciato poco tempo fa il collega Freschi in cui dice che in questo consenso in questo luogo ognuno gioca la sua parte allora è vero io sono convinto che la politica per troppo tempo ha giocato la sua parte ed è in queste condizioni in grado anche qualche volta di non gestire le cose proprio perché ognuno di noi ha fatto troppo la propria parte allora io sono per un cambiamento radicale della politica perché la politica faccia la parte dei cittadini perché se uno è in opposizione deve avere il coraggio di dire che la maggioranza ha fatto bene se la maggioranza è una maggioranza che non vuole fare solo gioco delle parti ha anche il coraggio di dire e di accogliere eventuali osservazioni e come dire idee dell'opposizione questo non so se è la città ideale ma a fronte di questo commento poi in cui il collega Freschi ma non me ne vogliano era ispirato nel suo commento quindi c'era come dire una sorta di complimenti giustamente perché sta facendo il gioco delle sue parti però in quel momento preciso sentivo il rumore delle sue unghie scivolare sugli specchi perché poi ai complimenti che ha fatto l'amministrazione giustamente per il gioco delle parti di cui si diceva ha rilevato che i giovani in questa città migrano ed è in contraposizione al complimento perché se una città è governata bene i giovani non migrano poi ho detto anche un'altra cosa interessante ma siamo in grado di cambiare assieme e invocato appunto che il cambiamento deve avvenire soltanto se lo facciamo assieme e questo ancora non siamo in grado di farlo allora ho finito con i commenti se no mi sento assessato no 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 tranquillo convengo poi con l'amministrazione che governare una città come Pordenone è particolarmente complicato ogni giorno su una stampa ci sono richieste di spegnere rumori di fare silenzio e di insomma ed è evidente che in un luogo dove si deve fare silenzio che diventa un bernitorio probabilmente i giovani non trovano spazio proprio per non fare il gioco delle parti dico che questa amministrazione ha l'assessore Mazzer ha fatto un buon lavoro sul bilancio i numeri sono stati infatti sono stati come dire analizzati bene eccetera gli uffici hanno fatto la loro parte quindi dall'opposizione dico che il lavoro che ha fatto il comune su questo frangente è un buon lavoro ok si poterlo fare meglio però attenzione perché adesso adesso vengo al dunque perché questo è come dire la fase introduttiva del mio intervento spero di stare nei tempi passo a prendere in mano gli obiettivi strategici lascio trascuro per il momento il piano regolatore comunale perché lo riprendo dopo parto con il piano della mobilità sostenibile dal mio punto di vista non so se l'aveva rilevato anche il collega Gianelli non può essere un piano strategico la mobilità sostenibile perché in questo luogo in questa nostra città la quale voglio bene non possiamo partire dal piano della mobilità sapendo che la città è vuota è piena di case sfitte di case vecchie è piena di queste robe qua è come partire dall'altra parte del problema per arrivare nel verso contrario quindi è un obiettivo strategico ma non proprio strategico secondo i criteri di logicità di razionalità insomma pur sempre un elemento da considerare e da discutere piano energetico smog e piano acustico ma piano energetico sul piano energetico non è un ragionamento che deve fare il comune di Pordenone quindi non può essere strategico il comune di Pordenone perché il piano energetico riguarda il consumo di energia da parte delle aziende che in questo momento non ci sono allora non può essere legato il piano energetico alla caldaia di quell'edificio o al pannello solare di quell'altro edificio non è questo almeno per la città Capoluogo non può essere questo l'avrei visto una riflessione sul piano energetico proiettata come dire a più alto livello ecco quindi un piano strategico anche questo diminuito della sua come dire importanza l'idico messo in sicurezza dei territori anche qua voglio dire trascuriamo perché insomma anche questo qua è un piano strategico ma i danni che abbiamo fatto finora non noi ma tutti quelli che ci hanno preceduto sono sotto e noi abbiamo come dire siamo arrivati per mettere delle toppe delle belle toppe insomma ma sempre delle toppe quindi non abbiamo come dire stravolto questa questa fase dell'organizzazione della città allora io veramente sono in imbarazzo oggi perché mi chiedo di fronte a questo a questo a questo ultimo atto politico insomma perché alla fine è il vostro ultimo atto politico cosa potrei condividere cosa su che cosa astenermi su che cosa manifestare la contrarietà e io sono sicuro che insomma finito questo passaggio poi gli altri passaggi che faremo saranno tutti atti diciamo sì politici ma in previsione di chi gestirà la città insomma quindi con questo si conclude questa questa amministrazione conclude il suo mandato e conclude il suo mandato con una serie di punti di domanda che ha rilevato se non ricordo male il collega Loperfido su alcune cose che erano state dichiarate facenti parte del programma ma che non sono mai state realizzate allora mi viene in mente citando la strategicità degli obiettivi no che quelli strategici veri li aveva in mente il sindaco quando si era immaginato che a Pordenone sarebbe nato un ufficio Google se non ricordo male era ed era una cosa che mi affascinava ma proprio mi affascinava perché ritenevo veramente questo un elemento strategico perché la promozione della banda larga è un elemento strategico di questa nostra città che anche come il silenziatore probabilmente trattiene i giovani se noi abbiamo il coraggio di creare lavoro per questi che se ne vanno ed era un elemento di strategicità che però non si è concretizzato i numeri di fiera sono importanti hanno dato modo di vedere che tanta gente frequenta ma la fiera di Pordenone non può limitarsi a fare bimbo in città e qui non voglio fare critiche a nessun consiglio di amministrazione a nessuna presidenza ma dico come rilancio la fiera deve essere secondo me il luogo dove vengono ospitate le aziende cinesi le aziende tailandesi le aziende che possono le aziende che possono vedere constatare che qui da noi si fanno prodotti interessanti che noi abbiamo l'insegno che abbiamo che la storia ci riconosce e che vorremmo metterle a frutta insomma perché per creare nuove opportunità di lavoro perché di questo è questo quello che serve ma che noi continuiamo a a a fingere insomma o a trascurare la mia formazione la mia cultura mi hanno sempre tenuto lontano dal potere fine a se stesso mi sono sempre rifiutato di accettare il consenso per una causa che fosse diretta ai cittadini il potere per decidere non per apparire questo è sempre stato il mio modello il potere per decidere lo conferma la mia esperienza in politica di questi 20 anni di puro servizio alla città non ho mai scelto il potere ho sempre cercato di avvicinare di farmi avvicinare da chi mi stimolava culturalmente chi aveva delle iniziative chi aveva il coraggio di discostarsi dai luoghi comuni ho sempre cercato chi mi ha aiutato culturalmente nella maturazione per l'esercizio di una funzione politica innovativa e lungimirante non nascondo che oggi dico questo con una certa amarezza perché constato che sono passati più di 4 anni signor sindaco un tempo dal vostro insediamento un tempo che è stato un tempo privo di dialogo nonostante i nostri numerosi tentativi di apertura un'apertura priva esente da richieste ma solo volta a stimolare ma anche a essere stimolato essere stimolati abbiamo tentato di costruire un percorso che ci facesse incontrare sulle urgenze della città abbiamo lanciato numerosi segnali in questo senso ma non abbiamo come ho detto per i modi torri scontri in questo senso abbiamo chiesto il vostro coraggio di agire anche rischiando qualche consenso per tentare di non essere travolti da questa dura realtà che ci si palesa oggi davanti abbiamo chiesto il vostro coraggio e messo a disposizione anche il nostro coraggio per anticipare almeno nelle intenzioni l'evento di una crisi che percepivamo chiara ma che nessuno ha preso in considerazione o almeno non è stata presa in considerazione come si sarebbe dovuto o almeno voi questa amministrazione non ci ha creduto molto insomma no no le cose si risolveranno in realtà poi abbiamo capito anche voi l'avete capita però è un po' troppo in ritardo ecco con questo non è che voglio dire che è causa dell'amministrazione di Pordenone che è tutto causa no assolutamente i problemi sono mondiali sono più grandi però noi non abbiamo avuto questa capacità di affrontarli nonostante i segnali noi riteniamo che oggi non si genereranno nuove iniziative immaginando di procurare nuove risorse da dove le procuriamo nuove risorse non ci sono risorse in più per nuove imprese quello che si dovrà fare oggi è legato al dover mettere mano alle proposte anche gloriose della città per riallocare in capitoli più urgenti le spese da destinare per nuove opportunità e nuove come idee di lavoro di opportunità di conoscenza insomma di sviluppo non è un'impresa facile perché non è facile immaginare che cosa ci riserverà il futuro a breve no già ce ne abbiamo una ma faccio alcuni esempi il cinema muto Pordenone legge il teatro senza buttare acqua col bambino eh assolutamente ma la città ha bisogno in questo momento più di cose nuove che di quelle vecchie ecco voglio fissare questo concetto cioè eh faccio per spiegarmi i finanziamenti che vengono dati al cinema muto che ha creato consenso per la città di Pordenone al cinema muto ma viva Dio potranno anche essere rivisti rispetto a necessità di promozione per i giovani di nuove no di nuove di nuove di nuove tecnologie di nuova realtà di nuove di nuove imprenditoria sto sto facendo anche un po' come dire no delle delle analisi anche azardate ma questo è è che mi viene no ecco poi passo al al primo obiettivo che avevo detto che avrei richiamato il piano regolatore comunale signor sindaco se non ricordo male però potrei sbagliarmi lei aveva anche annunciato le sue dimissioni se non sarebbe riuscito a metterlo ma questo ancora un paio di anni fa un due o tre anni fa se non ricordo male può essere che io mi sbagli credo lei aversi detto se non ce la faccio mi dimetto adesso però signor sindaco le trovo prima voce sui piani strategici allora io o non ho capito niente in questi anni di attività o c'è qualche cosa che non va perché mi domando ma siete sicuri veramente di voler proporre il piano regolatore alla fine del vostro mandato se io trovo una scusi se mi permetto una roba suicida cioè un'amministrazione finisce il proprio mandato prima di finire il mandato presenta il nuovo piano regolatore ma siamo partiti da dove di solito però può darsi che io mi sbagli e che il modello di gestione della politica nuovo sia cambiato ma quello che ricordavo io era che si fa la proposta della modifica del nuovo piano regolatore i primi mesi dell'amministrazione e poi il resto dell'amministrazione i restanti 4 anni e mezzo dovevano servire per la discussione e il dibattito perché scusi se le vengono a modificare il suo bel pezzetto di terreno improvvisamente lei non è che mi voterà se io mi proponessi il sindaco anche parlando strategicamente da un punto di vista strategico allora dico questa è una richiesta che vi faccio lasciate stare il piano regolatore avete fatto un sacco di incontri avete fatto diversi dibattiti non 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 abilitatelo lasciatelo lì per chi arriverà poi perché correrete rischio di farvelo bossare di chi arriva dopo il piano regolatore a meno che non siate sicuri di restare voi in sella che allora questo mi rimetto alla sono un prevegente per cui insomma devo concludere devo concludere mi consente a caso ormai poi riducco il tempo abbiamo 5 minuti anche per il tempo di dichiarazione di voto dopo quanti? 5 minuti ne uso altri 2 ok? grazie dunque io mi trovo a constatare oggi un completo isolamento della città un importante isolamento della città ci sono funzioni di assessorati che sono spariti dalla scena qualcuno se ne è accorto e non faccio nomi né cognomi ognuno poi faccia le sue riflessioni allora queste cose dobbiamo dircele queste cose qua perché se no continuiamo a fare il gioco delle nostre parti voi fate finta che vada tutto bene noi per forza di cose dobbiamo sempre fare il pugno ma potremmo anche un giorno riconoscere che invece qualche osservazione che viene da sta parte poteva anche essere presa in considerazione via Dio ecco io non credo che voglio dire non riesco a immaginare che cosa sarà il futuro ma nessuno di noi però faccio solo questo annuncio dico che non concordiamo con la continuità di questo modello di amministrazione saremo pronti a sostenere chi si impegnerà in un cambiamento radicale del governo della città non accetteremo un ulteriore avvitamento su se stessa della città di Pordenone ma siamo ma resteremo disponibili alla collaborazione con chi si impegnerà a creare nuova linfa politica per il governo futuro della città ho finito chiedo scusa grazie 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 ti volti addirittura grazie per l'attenzione non credo sarà così non credo sarà così importante e come dire di alto livello il mio intervento inizio da una come dire da questioni preliminari nel senso che devo dire presidente io mi devo scusare perché non ho potuto partecipare a due conferenze di capigruppo dove si è stabilito che si mantenevano i tempi ordinari delle delibere e non si raddoppiavano allora io su questo aspetto qua dico la verità non sono d'accordo ma non posso dire nulla perché non c'ero non ero presente la conferenza dei capigruppo lo ha deliberato io però non sono d'accordo su questo aspetto e perché c'è una continua deroga al regolamento e perché in altre volte sono stata d'accordo ma questo secondo me è un bilancio qualcuno ha detto di passaggio qualcuno ha detto in divenire qualcuno ha detto insomma è comunque tutto vero è comunque un bilancio secondo me importante perché è il bilancio che volge al termine di questo mandato come dire consigliare poi ce ne sarà un altro il prossimo anno ma non lo so come saranno le cose giustamente l'assessore fa così perché ha in mente che cosa si dovrà fare per fare il bilancio nuovo chiamiamolo così per praticità inoltre devo dire e questa cosa l'avevo già detta anche in passato che quando si esamina è diventata una consuetudine qui da noi il fatto di esaminare la proposta di bilancio lo schema di bilancio complessivo assieme a tutta una serie di deliberazioni che fanno riferimento alcune alcune sono necessarie qui il piano delle alienazioni e così via però la parte relativa alla tassazione che diventa perdonatemi non so per voi ma per me sempre più complicata anzi complicatissima e io ammetto la mia ignoranza in questo aspetto difficile da trattare da approfondire assieme a tutte le questioni del bilancio e infine un'altra questione devo sollevare preliminarmente che oggi c'è sostanzialmente una festa in qualche modo per la nostra città perché credo che il cinquantesimo i festeggiamenti del cinquantesimo del policlinico siano una cosa importante quella è una casa di cura importante per la nostra città che ha dato molto alla nostra città e a me personalmente di fatto io poi ad una certa ora me ne andrò avrebbe fatto piacere e mi farà piacere partecipare a questo tipo di come dire di ricordo di celebrazione detto questo passo alle questioni relative al bilancio allora insomma qui come dicevo prima siamo arrivati un po' alla fine quasi alla fine c'è ancora un anno davanti e abbiamo un bilancio di previsione alcune cose sono già state dette ma insomma le ripeterò abbiamo un bilancio scritto che pareggia ho letto la relazione dei revisori naturalmente è tutto a posto dal punto di vista tecnico e ci mancherebbe altro ed è un bilancio contabile ma non è colpa vostra non è colpa vostra non è colpa vostra perché perché chi da un po' di tempo ci governa e faccio un passo indietro e vado al 2011 nel 2011 di colpo la nostra vita è stata permeata da una nuova parola che si chiamava spread di colpo tutti siamo stati come dire eruditi in questo ambito io ancora adesso faccio fatica se mi calo nelle dinamiche europee a capire fino in fondo di che cosa si tratta perché quando si tratta di semplificare di dire la differenza bene ma quando si tratta di entrare fino in fondo e capire che cosa significa è abbastanza complicato basta andare in banca sì una parte anche questo è vero ma io però lo volevo calare nella io però questo lo volevo calare nella vi stavo difendendo adesso lei assessore mi fa arrabbiare e mi tocca non difendervi più non difendervi più allora no dicevo che da quella volta dal 2011 vi dico alcune cose che non sono strettamente legate a questo bilancio poi mi prendo il mio tempo voi potete anche criticarmi come dire mi interessa abbastanza poco nel senso che ci tengo a dire questa cosa perché perché da allora è partita secondo me una linea di pazzia che si è riversata da parte dei governi che si sono succeduti a cominciare da Monti per continuare con Letta e per finire adesso con questo genio di Renzi che ogni due per tre ci viene a dire che le riforme salveranno il paese sarà anche vero sta di fatto che per il momento le riforme hanno messo in ginocchio gli enti locali patti di stabilità risparmi e hanno messo in ginocchio quelli virtuosi non hanno messo in ginocchio quelli che hanno sempre fatto gli spendaccioni hanno messo in ginocchio quelli virtuosi e allora io su questa partita non sono d'accordo non sono d'accordo per il comune di Pordenone non sono d'accordo per la regione Friuli-Venezia-Giulia che è una regione parzialmente spendacciona ma ce ne sono di molto più spendaccione allora dicevo che quello che voi vi trovate a fare non è colpa vostra direttamente ma è colpa di qualcun altro questi signori però hanno preso una strada pericolosissima perché noi eravamo convinti almeno io ero convinta che le conquiste che hanno fatto coloro che sono venuti prima di noi i nostri predecessori e una conquista importantissima è quella dell'espressione delle proprie opinioni attraverso il voto forse è una cosa importante e invece qui che cosa sta succedendo progressivamente allora via il Senato benissimo via le province benissimo e adesso spodestati anche i consigli comunali e i sindaci che con questa genialata delle UT perché questa è una vera genialata cosa succede? succede che succederà che il sindaco si candida fa il suo programma elettorale pone intorno a sé una maggioranza i cittadini lo ascoltano rispetto a quelli che saranno i suoi programmi e poi si troverà ad andare a confrontarsi con gli altri dove se è vero che una testa è un voto a casa sua qualcun altro deciderà che bisogna aumentare o no le tasse lei è fortunato assessore perché ancora non è entrato lei è fortunata e se non sarà così io sarò molto ma molto contenta per entrare e dire alcune cose riferite e per riagganciarmi a quello che non è tutta colpa vostra ma quelli che governano però non sono miei vado a pagina 6 di questo splendido bilancio di previsione che l'assessore ci ha gentilmente fornito e spiegato e allora risottolineo di nuovo non è colpa vostra vedo che nel periodo buio quando governavano quelli che avevano un'inchiesta un giorno dietro l'altro un giorno sì e l'altro anche quando l'Italia stava precipitando e quelli che sono venuti dopo l'hanno salvata leggo che in quell'anno lì le entrate tributarie per il nostro comune erano 20 milioni 842 mila euro e vado a vedere caro presidente e caro signor sindaco che adesso ne prevediamo 31 milioni 852 ripeto di nuovo perché poi non voglio sentirmi dire che voi le dovete dare allo stato ma sono più 11 milioni e in termini assoluti questi geni che ci stanno governando da allora fino adesso hanno aumentato la pressione fiscale perché i numeri si scrivono del 34,5% questo è un dato perché la matematica è fatta così non la tiri di qua e di là puoi dire che il museo funziona va bene sono entrati ma la matematica è fatta così e se poi andiamo a vedere il titolo secondo delle entrate le entrate derivanti da trasferimenti correnti dello stato e della regione vediamo anche lì che nel 2011 i trasferimenti compresa quella cattivissima regione che governava allora erano 53 milioni e mezzo di euro tutti compresi magari c'era più stato non lo so ma poi sulla regione ho stampato uno specchietto interessante che spero di trovare eccolo qua così poi dirò e allora rispetto ad oggi sono sempre quegli 11 milioni di differenza perché sono 42 milioni e mezzo adesso con un meno 20% allora credo che questi dati siano significativi di che cosa tutto il resto va tutto bene un museo in più uno in meno il problema delle immondizie da risolvere insomma le piste ciclabili da asfaltare c'è di tutto e di più non ha non ha importanza ma su questa partita non mi soffermo mi sono soffermata su questo aspetto di carattere come dire economico generale perché credo che dia l'indicatore di che cosa sta succedendo e di che e di dove stiamo andando e del fatto che a fare il sindaco ci vuole un pelo così ecco bene così per voi uomini così per voi uomini poi come ben sa collega frequentando io un ambiente prettamente maschile come dire mi sono un po mi sono un po omologata allora io devo rinnovare come dire alcune questioni che ho trovato all'interno del bilancio e che condivido e contrariamente ad alcune posizioni del mio collega di gruppo che probabilmente poi dirà la sua io condivido gli investimenti che verranno fatti su PISUS lo scorso anno ho presentato un ordine del giorno perché il comune si dotasse di una figura ho visto 40.000 euro non so se sono destinati 47 non so se sono destinati a fare questa cosa qua ma io ho insistito rispetto al fatto che il comune si dotasse di una persona che seguisse specificatamente questi bandi e vi dico perché perché se non ci sono soldi dallo Stato dalla Regione se quello che arriva se si riporta tutto al centro come durante l'impero romano quando non c'erano più soldi si prendeva dalla periferia allora non ce ne daranno più vediamo se riusciamo in qualche modo a prenderli da quella parte e da quella parte credo di non dire una stupidaggine nel dire che serve qualcuno che si dedichi a questo i fondi fanno riferimento caro Assessore alla cultura Europa creativa occupazione e solidarietà sociale programma dell'Unione Europea per l'occupazione e l'innovazione sociale social change and innovation cittadinanza Europa per i cittadini ambiente life plus azione per l'ambiente e il clima mobilità giovani democrazia e diritti Copernicus nuove tecnologie di tutto di più non sono non sono questi appannaggio delle regioni sono appannaggio degli enti locali vedo che mi fa di sì quindi io sono contenta sono contenta poi dopo insomma io lo dico lo ribadisco lo torno a dire perché credo veramente che questa sia l'unica fonte di finanziamento che possa avere una qualche speranza dove trarre perché vedo che qui i dati li abbiamo visti prima le percentuali del meno 20% li abbiamo visti prima e quindi se vogliamo dare una speranza alla nostra città credo che dovremmo partire come dire passare da quella parte ho sentito durante il dibattito una serie di questioni che non riprenderò naturalmente perché non è compito mio però guardate io non ho visto la riduzione dell'indebitamento ho visto insomma tutta una serie di azioni che sono state fatte giocoforza rispetto anche a quello che abbiamo detto prima ci dobbiamo seriamente sinceramente vedere nel momento in cui andremo a fare il consuntivo e vedremo quel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi nella speranza di non avere particolari sorprese e vedo che qualche cosa probabilmente salterà fuori da lì e lo dico perché in passato questa cosa in positivo benissimo è stato e questo è stato un passaggio positivo vice sindaco anche quando lo fece la regione qualche anno fa scatturi un tesoretto benissimo se qua sarà così saremmo tutti contenti vede presidente che avevo ragione io io devo presentare ancora le emendamenti non credo di aver perso tempo e presentare le emendamenti gli ordini del giorno cosa facciamo cosa facciamo non lo so presenta a lei gli ordini del giorno o li presenta qualche altro no li presento io gli ordini del giorno perché sono la prima firmataria però lei deve illustrarli perché lo prevede il regolamento perciò deve farlo almeno al secondo intervento a questo punto e lo farò durante il secondo intervento allora chiudo chiudo però mi lasci ancora un minuto per chiudere il l'argomentazione al di là di quello che è stato detto questa città secondo me ha perso una serie di grandi occasioni adesso ne tiro fuori una che di solito tira sempre fuori il mio collega dal mass no ma non so se prima l'ha detto durante l'ospedale forse allora guardate sinceramente io ve lo dico ma come dire dalla posizione a quale mi trovo oggi potrei come dire far finta anche di niente i tempi saranno quelli che saranno avevamo un progetto pronto e questa amministrazione questo sindaco ha deciso di non firmare l'accordo di programma andremo al 2021 2023 con un ospedale vuoto mancano 50 milioni di euro per le tecnologie interne e quindi per farlo andremo al 2025 un'occasione persa e infine e queste sono le occasioni vere di sviluppo e di lavoro per il territorio un'ultima chiosa la faccio sui trasferimenti regionali date un'occhiata a quella tabellina che sta sul sito della regione guardate che progressivamente stiamo perdendo terreno ogni anno a colpi di 3-4 milioni di euro chiamate il santo che avete in paradiso chiamate il santo che avete in paradiso perché lo scorso anno su un tesoretto extragettito perché fortunatamente qui da noi c'è qualcuno che paga delle tasse come dire straordinariamente alte su 242 milioni di euro qui è arrivato quello che è arrivato dall'altra parte non va bene perché questa provincia e questo comune ha già pagato quello che doveva pagare grazie grazie consigliere consigliere del ben prego grazie anch'io aderisco alle osservazioni di Mara Picin quando dice che almeno sul bilancio i tempi devono essere quelli di regolamento semmai concordiamo di aggiungerli non di restringerli ma io comunque mi autolimito nel tempo che mi sono prefigurato e coglievo l'occasione di portare un contributo a questo dibattito perché non sia solo ritualità o formale perché è chiamato il consiglio comunale ad approvare anche la relazione previsionale e programmatica forse per deformazione professionale l'ho letta con l'apprezzamento di quelli che l'hanno scritto però siccome questo è una filosofia di cosa penso io amministrazione della macchina amministrativa ritengo doveroso fare due o tre osservazioni nella speranza che ci sia ancora il tempo che chi può chi può faccia qualcosa allora parto da pagina 156 quando si parla dei servizi legali e mi trovo scritto che i numerosi pareri resi su richiesta di vari settori hanno determinato la diminuzione del contenzioso perfetto si proseguirà pertanto nell'espressione di tali pareri orali quando mai una pubblica amministrazione si fa pareri legali sul sentito o udito il funzionario che deve adottare il provvedimento dirà udito illegale penso proprio che la formalità dica che quei pareri debbano essere scritti o almeno non scrivere orali su quello che è scritto a pagina 156 dall'altra parte vedo e ha tutta la mia approvazione che c'è un progressivo aumento di gestione improprio delle vertenze legali sulla pagina 156 e questo è grosso modo l'ordine di grandezza del 90% per l'anno 2015 si prevede che questo sia il 100% per dire da vecchio amministratore penso che questo sia un obiettivo A non raggiungibile B inopportuno perché ci possono anche essere richieste di pareri particolari che possono dire che il nostro è un ottimo ufficio legale se per esempio arriva dal 90% al 95% della gestione improprio ma se scrivo sul nostro piano annuale che deve arrivare al 100% al 100% quasi quasi metto in difficoltà quelli che hanno la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi io riterrei che già da 90% al 95% sia un bel indicatore lasciando apposta questo spazio per gli altri dopodiché possiamo anche andare su altre pagine perché in qualche modo io penso che questo sia un'amministrazione dico aperta sul piano del rispetto delle persone ed anche capace di essere sufficientemente pragmatica nel stabilire cosa succede allora a pagina 147 vedo che l'incidenza del personale dirigente sul totale di dipendenti passa più o meno da 1.6 a 1.8 io direi che questo potrebbe sembrare una strada sbagliata di incrementare allora sapendo che riduco per pensionamento non dirigenti questo è una variazione di coefficiente per cui io scriverei meglio come coefficiente inferiore a 2 e in questo modo avrei raggiunto degli obiettivi di qualità visto che si ragiona in termini di indicatori quello che invece mi lascia molto 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 perplesso è al punto 8 di pagina 147 dove si scrive Sonia ascolta rilevazione mensile delle assenze dei dipendenti ed eventuali correlati procedimenti disciplinari quando mai faccio questa correlazione fra assenze allora io lo chiamo assenteismo se vuoi ma non confondiamo con le assenze per infermità o per altri aspetti di legge e forse è inopportuno che una giunta di questo colore perché non è in colore ha un colore che questa giunta metta insieme anziché divise questi due aspetti che sono importanti a me andava bene il rilievo mensile delle assenze punto a capo punto in virgola il 9 anche vedere eventualmente se ci sono procedimenti disciplinari altrimenti questa è una nota di inqualoquismo che non mi aspetto da un'amministrazione come questa andando a ritroso ma sempre per dare un contributo costruttivo vedo a pagina 116 una città accogliente e sicura che numero all'unico involti in corsi educazione stradale abbiamo avuto nell'anno 2014 una previsione di 800 all'unni frequentanti un'adesione di 3.300 4 volte tanto e io penso che questa strada di coinvolgere gli alunni in corsi educazione stradale sia assolutamente positiva se ho previsto 800 e ho fatto 3.300 mi chiedo perché nel 2015 riscrivo 800 vuol dire che se io riscrivo 800 non do un giudizio positivo su quelli che hanno fatto questi corsi importanti per dare l'educazione stradale quindi quando scriviamo questa cosa mi pare che sia necessario riportare anche questo metti 1.600 1.800 801 ma l'importante che ci sia che questo è una strada che questa amministrazione vuol dire dopodiché sorvolo sul fatto che la penultima frase si scrive che ci sarà un forte legame fra la nostra polizia urbana e la polizia di stato per contrastare alcuni atti di delinquenza quando magari io lo scriverei più volentieri con le forze dell'ordine anziché solo polizia di stato ma magari insieme a questi reati ci metterei un po' anche quelli del territorio ed ambientali che sicuramente del quale abbiamo bisogno andiamo avanti ancora in realtà indietro perché sono a pagina 98 ma sono molto puntuale perché le osservazioni devono essere costruttive se hanno senso e guardo negli occhi guardo negli occhi il sindaco l'assessore Rubino Romor dal santo se mi guardi dal santo grazie che incrociamo le dita perché a pagina del 98 dice previsioni 19 2014 no consuntivo 2014 numero degli over 65 12.694 scusami scusami previsione 2015 12.694 domanda chi mancherà faremo esportazione di anziani allora il dottor Romor con molta attenzione e competenza ha detto che ci sarà uno sviluppo allora se mettiamo dei numeri anziché dire che gli over 65 è meglio occuparli da picqui no se gli over 65 sicuramente diamo a loro una previsione di crescita se non altro per ottimismo di quelle persone che ho nominato prima inoltre fra poco fra poco inoltre leggo che uno degli impegni qualificanti dell'amministrazione sarà il consolidamento del lavoro di immersione e il trattamento delle situazioni di isolamento eccetera e su questa numerosità la mette positivamente sullo stesso numero dell'anno 2014 ma io mi aspetterei anche che questi numeri crescessero perché vuol dire che metteremo in piedi qualche opera di prevenzione di ricerca per andare a caccia di quello che magari emergerà fra alcuni mesi ma se riesco a farlo emergere prima o a intercettarlo probabilmente quella persona avrà più risposta ai propri diritti non sui propri bisogni quindi anche questo sul piano dell'indicazione di rotta qualche numero in più lo metterei non è l'ana caprina ma se io devo qualificare un'amministrazione comunale sul sociale ti dico che faccio alcune cose in più per trovare situazioni alle quali io mi vanto di poter dare o fare una proposta e questo era per dire una serie di elementi banali però leggendo la relazione programmatica vediamo che ci sono anche quasi delle differenze interpretative di orientamento diciamo politico allora io raggiorno come molti hanno detto questo nell'anno 2016 si rivota e nell'anno 2016 sarà indifferente come si voterà o non si voterà il programma perché per allora sarà ragionevole vedere se ci sono aggregazioni io auspico di stessa dimensione coloritura di questa maggioranza che oggi governa bene la regione e nel quale mi riconosco completamente quindi se nell'ambito di queste visioni ci possono essere o si dicono qua delle diverse interpretazioni politiche allora all'inizio di questa relazione programmatica vedo un po' che c'è una descrizione di scenario e su questo scenario visto che è le mie cose e lo vedo un po' sul piano sociosanitario ovviamente non condivido l'idea di rimanere fermi al pezzo senza dire nulla quando l'ospedale sarà in via Montreal 24 e io mi trovo un progetto di cittadella che aveva senso quando l'ospedale era in comina alta forse oggi ha bisogno di essere ripensato io sono uno di quelli che sostiene fortemente che quando vedo l'ospedale di Pordenone vedere il padiglione A e il padiglione B mi sento a casa è parte della mia identità è una serie di edifici che hanno passato il dramma del 1976 quindi secondo me il comune potrebbe nei confronti dell'azienda sanitaria barra regione dire manteniamo i contributi che abbiamo ripensiamo l'utilizzo di queste aree di questi volumi per dare una risposta che sia integrata e allora per dire questo è uno degli elementi sul quale lo scenario che è scritto qua è lo scenario nel quale non mi ritrovo ma non per scelte politiche ma per necessità di ripuntualizzare un elemento importante a seguito della decisione corretta ovviamente perché mi conosce e sa che da anni è la mia posizione non per opportunismi quella di mantenere l'ospedale in zona ospedale poi c'è un altro elemento che secondo me è importante alla giunta ma in particolare al collega Romor io apprezzo molto lo sforzo di pensare alle case di riposo RSA di come metterle insieme però io mi aspetterei che noi guardassimo un po' più in là della contingenza attuale fra breve avremo una conformazione comunque di un ambito sociosanitario e questo ambito non avrà solo pordenone substituenti ma pensiamo a ciò che è oggi in piedi a Roveredo ciò che è oggi in piedi a Cordenons quali possono essere i bisogni della nostra conurbazione se qualcuno dice anche Zopola verrà da noi la casa di riposo di Castions validamente è uno che può dare un contributo allora vediamo fra poco quale potrebbe essere la risposta migliore da dare agli elementi della cronicità da assistere in struttura per questo io vedo meglio che questo adesso serva come elemento di studio come sperimentazione come provare come fare standard ma che diventi una realizzazione dove quando è il tempo se poi per dirla tutta perché già si è detto noi pensassimo a recuperare l'area del salotto buono di Pordenone mi va anche bene che questo diventi volumi a disposizione di iniziative sociali altre e gli anziani non autosufficienti dell'Umberto I possono essere adeguatamente ospitati in un altro luogo tutti sanno che per me è padiglione A o padiglione B ma per dire trovare in un posto dove ci sia questa facilitazione non della cittadella ma della città e dei servizi della salute se vuoi il paese della salute perché si creano questi legami forti che possono essere sentiti ora in questo tempo spero di aver anche dato una una motivazione un giudizio su quello che abbiamo fatto e spero che sia interpretato come un contributo ma anche un contributo che se dobbiamo fare una strada insieme non sia un contributo che si risolve chi alza la mano e chi non alza la mano Grazie Consigliere del Ben Consigliere Salvador prego Grazie Presidente così non c'entra assolutamente nulla però lo stimolo del Consigliere del Ben non riesce a controllarlo io spero davvero che quel padiglione A e padiglione B non rimangano in piedi veramente perché non eravamo d'accordo sull'ospedale in via Montreal abbiamo perso questa partita politica abbiamo chiuso anche la polemica politica perché pensavamo che fosse più importante proseguire sul percorso dell'ospedale nuovo dei contenuti che ci fossero dentro sulle competenze però che anche il padiglione A e il padiglione B non stiano in piedi proprio no quello non ce la proprio faccio neanche vedere quell'immagine di vedere quella parte di quel quartiere completamente cementificati sarebbero i primissimi e unici elementi di abbattimento di questa città di cose che francamente lo dico senza paura non sono belle non sono belle e non sono neanche voglio dire tecnicamente sostenibili tenerli in piedi abbiamo voluto fare un ospedale nuovo perché quelle due non andavano bene adesso stiamo anche pensando di tenere in piedi il padiglione A padiglione B vi prego quello veramente no quello proprio non riuscirei a farmelo passare nel cervello chiudo e apro il dibattito su quanto riguarda invece il bilancio di previsione allora avevo posto alcune declinazioni per quanto riguardava i meriti che io trovo in questo bilancio e nell'attività di questa amministrazione però credo che siano stati abbastanza bene e sufficientemente appieno sviscerati dagli amici della mia maggioranza e quindi alcune considerazioni generiche sul bilancio di previsione che gli enti comunali vanno a affrontare ma lo voglio fare per porre in evidenza i meriti di questa amministrazione e mi spiego è vero potrebbe esserci il rischio che i bilanci di previsione come dice il consigliere Pedicini possano diventare dei riti stanchi perché quello che io ho notato è che negli ultimi anni dal 2011 soprattutto insomma da quando la crisi economica si è fatta sentire anche in termini contabili all'interno dei nostri enti locali e noi abbiamo dato la nostra parte come comuni di Pordenone abbiamo abbattuto il nostro indebitamento abbiamo rallentato la nostra spesa corrente siamo stati credo uno dei comuni più virtuosi per quanto riguarda il contenimento della spesa ma non solo a livello territoriale pordenonese o in termini regionali ma anche in termini se vogliamo dare una prospettiva a Triveneta sicuramente uno dei nostri comuni è quello stato uno dei più virtuosi in assoluto anche con una certa anche se sempre in termini contabili con una certa buona dose di fantasia in senso positivo è vero però è vero però che la paura che il bilancio di previsione possa diventare un rito stanco non deriva sicuramente dalla mancanza di fantasia di questa amministrazione ma tutto ciò che esternamente gli si pone di fronte come condizione e parlo parlo leggendo le righe dell'intervista che il presidente dell'ANSI Piero Fassino ha rilasciato poco meno di una settimana fa Fassino il presidente Fassino fa evidenzia come nella polemica col premio ministro Renzi evidenzia come dal 2011 ad oggi i decreti che determinano poi le regole contabili degli enti locali siano stati modificati 64 volte cioè noi per 64 volte abbiamo visto modificato le regole che determinano quel pacco di cose lì allora qualcuno mi può dire con 64 modifiche come caspita l'assessore Mazzaro il sindaco Claudio Pedrotti possono programmare programmare a casa mia significa fare politica allora se questo l'andazzo e il presidente dell'ANSI l'ha sottolineato proprio quando gli stavano prospettando ulteriori tagli agli enti locali ha detto fermi tutti perché abbiamo dato veramente troppo se non sbaglio ha indicato anche una cifra intorno ai 17 miliardi che ha inciso credo su 18 miliardi e che ha inciso sul 2,5% sulla riduzione del debito pubblico e il 7, qualcosa per quanto riguarda la spesa pubblica quindi in risorio il contributo faticoso dei comuni evidentemente i centri di costo sono da un'altra parte sostiene Fassino e io dico giustamente anche no però questo ci ha fatto perdere ci ha fatto perdere chiaramente nella nostra capacità di debitarsi con la nostra capacità anche di avere un'autonomia finanziaria perché anche quello un po' perché ci hanno fatto fare gli stessi ottenuti in posta il decisore centrale ha utilizzato i comuni e in questo non ricordo chi dell'opposizione forse Dalmas l'aveva fatto notare e ha ragione in questa cosa qua che è un andazzo che sta prendendo pieghe a prescindere dal colore politico di chi governa e chi non governa allora questo a me preoccupa come amministratore rocale perché la dimensione per me ideale della politica quella che è più vicina alle aziende più vicina ai cittadini è il comune e quindi dovrebbe essere valorizzato siamo noi che siamo la spina dorsale di questo paese bene inoltre inoltre la la cosa che più appunto oltre al contenimento della spesa che ha penalizzato paradossalmente anche i comuni più virtuosi è questo grado di indefinitezza questo grado di indefinitezza che chiaramente ogni anno pone gli amministratori locali nell'incapacità di noi non siamo stati anche ad esempio in questo perché il bilancio di previsione comunque l'abbiamo provato credo dell'anno scorso fino a marzo anche l'anno scorso sì quindi quando qualcuno a me chiedeva gli amici consiglieri di altri comuni come caspita facevamo ad approvarlo e quindi è questo tipo di andazzo che me preoccupa è questo tipo di andazzo perché se togliamo i comuni la capacità di fare politica e di programmare mi chiedo cosa rimane ai comuni allora a questo punto a questo punto ci obbligano se non possiamo fare politica e non possiamo programmare obbligano gli amministratori locali i sindaci che ripeto sono quelli eletti del territorio a essere dei ragionieri dei contabili ma non è quello che noi chiediamo agli amministratori noi chiediamo di fare delle scelte agli amministratori gli uffici fanno la parte contabile noi siamo quelli delle scelte ma dobbiamo essere messi in condizione come gli amministratori locali e voi come Giunta e Pedrotti come sindaco di poter programmare fare politica allora tra l'altro in questa apro un'altra parentesi in questa polemica rientra secondo me anzi in questo ragionamento rientra anche quella polemica che sta nascendo scusate se mi permetto però è il mio partito comunque a livello nazionale di riferimento dentro il PD quella polemica che vede la nostra presidente Seracchiani opposta ad alcuni altri presidenti di regione che vedono di non buon occhio Toscana sì grazie Giulia Toscana e di altre regioni il fastidio verso le regioni a strutto speciale con la motivazione che alcune regioni a strutto speciale non virtuose non lo sono state le altre ma la nostra lo è stata quindi è sempre questo timore di svuotare il contenuto il significato della politica in nome di un qualche virtuosismo contabile che non ci appartiene nel senso ci appartiene perché lo abbiamo già nelle nostre corde quindi ritorno anche un po' a un vecchio dibattito a un vecchio dibattito non vecchio in realtà lo scorso consiglio comunale credo che fosse la consigliera Cardin che sosteneva dal timore di perdere l'importanza della politica in questo e cosa succede che tentiamo di svuotare tutti i territori e gli enti locali della capacità di fare politica riversando la possibilità di fare questo solo ai livelli più centrali io credo invece che ha ragione sempre il presidente dell'Anci Fassino che noi dovremmo trovare un rilancio dei nostri territori attraverso la possibilità di avere un'autonomia finanziaria e un'autonomia di gestione lui addirittura parla di autonomia mentale dei comuni cioè la capacità di organizzarsi e decidere lo Stato deve darci i macro obiettivi noi dobbiamo perseguire quell'obiettivo nel modo in cui noi riteniamo migliore per la nostra comunità primo termine di paura che i bilanci di previsione possano diventare diritti stanchi l'altra paura anche se meno forte perché è più vicina al nostro grado di decisione è anche la riforma degli enti locali che stiamo per affrontare noi abbiamo come dire questa situazione in cui a livello nazionale c'è ancora un' situazione in cui la certezza di questa autonomia per i territori degli enti locali non è ancora anzi c'è un ripristino del centralismo io trovo però anche la riforma degli enti locali che ripetiamo noi nella misura in cui non si parli di uti unica e di 5 uti 3 uti che siano ci trova d'accordo e la perimentrazione e il senso dell'uti unica che noi non ci trova d'accordo nella soluzione proposta dalla giunta regionale però l'impianto le motivazioni credo che siano fanno parte delle nostre stesse scelte anzi possiamo tranquillamente dire che almeno questa giunta regionale ha preso in mano la materia l'altra forse se ne era dimenticato in qualche cassetto dell'ex presidente tondo come tanti altri cassetti mai aperti compreso anche tutte le riforme che devono essere affrontate quando la crisi si stava facendo detto questo però la paura è che con la creazione delle uti si tenda che ripeto è un ente di secondo grado di secondo livello di secondo grado non è pensabile che la programmazione la politica si faccia in un ente di secondo livello non trovo giusto che sia è giusto che ora si pensi in maniera molto attenta a come le uti verranno costruite e so che lei sarà uno dei registi di questo passaggio insieme al sindaco Claudio Pedrotti è vero però che la riforma il vero senso della riforma non è le uti e la condivisione soltanto dell'impianto contabile e dei servizi che sono da tutelare in questa prima fase di start up ma è certamente la capacità di trovare una visione politica in un ampio raggio che non fa più parte dei nostri confini quindi non vedo altra soluzione che è un processo di fusione ragionato perché il pericolo che sta già accadendo in questi territori pericolo è che il tema delle fusioni parta a random come si dice a caso e questo è il termine lisontino stanno avvenendo più comitati di fusioni più diverse ed era lì il valore dell'uti unica era lì che quella istituzione poteva governare il processo di fusione che è l'unico vero elemento di riforma di questa legge numero 26 regionale e quindi la paura che se noi ci fermiamo soltanto alla costituzione e alla formazione dei servizi e della situazione contabile delle uti si perda tutto il processo politico e programmatico dei comuni perché il sindaco Claudio Pedrotti che viene eletto e il sindaco di Roveredo non voglio che la politica poi si debba fare a un livello più farmaceutico con il contagoccia in un momento compromissorio con tutti gli altri sindaci per me è importante il mandato diretto se il sindaco viene eletto dal suo cittadino deve avere la possibilità di dire io questa cosa la faccio perché so che ho in gestione io questa cosa non voglio che i bilanci di previsione diventino un rito spento per questo motivo perché la riforma non si compia in tutto il suo processo e perché il decisore centrale statale vuole svuotare la politica ai territori io non voglio questo tipo di meccanismo e allora io credo che da qua come diceva il consigliere del Ben da qua a un anno abbiamo le elezioni comunali non è importante tanto per le elezioni comunali è importante perché abbiamo questi due processi di trasformazione dobbiamo lottare per un'autonomia gestionale finanziaria per gli enti locali dobbiamo gestire la partita della riforma degli enti locali nel migliore nel miglior modo e nel modo più completo possibile e quindi questa maggioranza credo abbia non debba come dire assecondare quella scia che porta la parte politica a non poter più avere idee non aver più proposte perché tanto non possiamo più decidere noi perché è tragica questa cosa se noi scendiamo dentro questa corrente è finita ma io credo che noi come amministrazione voi e noi come maggioranza dobbiamo sostenere invece la capacità di questo modo di fare politica della proposta politica gli spazi ci sono l'amministrazione ha tutte le competenze per poterlo fare abbiamo un anno di tempo come maggioranza per lavorare in questa direzione perché noi dobbiamo diventare il riferimento del territorio perché sono sicuro che una volta dentro all'Utie è Pordenone che deciderà le proposte politiche non voglio pensare che noi ci fermeremo soltanto alla gestione dei servizi sindaco e assessore mazzer non possiamo fare questo dobbiamo incentivare la proposta politica lo potremmo fare sicuramente abbiamo moltissimi argomenti che sono stati sollecitati che possono portare innovazione nella proposta politica io penso che l'ambiente possa diventare addirittura un volano di questo territorio per quanto riguarda la parte economica io penso che la cultura sia un degli indici che ci connoterà più di tutti gli altri territori perché questa città lo ha dimostrato in questi anni anche di difficoltà finanziarie qualcuno ha sottolineato i meriti dell'assessore Cataruzza perché l'assessore Cataruzza so che pensa quando gli dicono la cultura non si mangia la cultura non produce reddito perché so che l'assessore Cataruzza dice anche attenzione la cultura non è solo esclusivamente produzione di prodotto interno lordo produce un valore che è impalpabile che è quello della formazione di una comunità e di una formazione di un cittadino quella non è un numero quantificabile quello è un servizio che noi diamo come quando dai la borsa della spesa a uno che non ha un lavoro non ha la possibilità di mangiare noi dobbiamo dare un servizio culturale di quel genere e noi avremo un ruolo come Pordenone all'interno di un territorio di fare questo e sulle politiche sociali politiche giovanili qualcuno ha citato il fatto che noi stiamo invecchiando basta prendere i libretti quelle delle politiche abitative della provincia che hanno tra l'altro un bellissimo lavoro e si vede come gli ultra 65 anni stanno esplodendo noi cosa vogliamo fare vogliamo assecondare questo processo io spero di no dobbiamo tutelare quella fascia ma non dobbiamo assecondare questo processo dobbiamo tutelare quella fascia ma assecondare un ringiovanimento di questa città e lo possiamo attraverso la proposta sulle politiche sociali e sulle politiche cittadine abbiamo molte proposte a poter fare da qua un anno come maggioranza questa amministrazione a mio avviso ha lavorato molto bene e questo bilancio di previsione testimonia il lavoro che ha fatto in un momento difficilissimo che nessun'altra amministrazione negli anni precedenti in questa città ha dovuto affrontare grazie grazie consigliere Salvador consigliere Piccinato prego grazie presidente ringrazio il collega Salvador per l'ultimo accenno che ha fatto sulla cultura condivido nel merito le parole nel senso che la cultura è sì impalpabile però è quella che garantisce la formazione e il futuro della nostra società certo però non con la cultura che troppi musei fanno a Pordenone perché con quello davvero non si costruisce niente dispiace aver sentito troppi interventi che non hanno parlato nel merito dei fatti concreti di questo bilancio allora veniamo un po' a quelli che sono i fatti concreti perché ci sono quasi 5 milioni di euro in meno in questo bilancio di servizi per i cittadini è una cifra enorme non siamo Milano non siamo Roma qui sono 5 milioni di servizi rubati ai cittadini in nome dello Stato centratore quello cattivo che però guarda caso aumenta il debito aumenta le spese e continua a tassare leggevo oggi sul giornale 11 miliardi di euro di tasse quando Renzi vende fumo 11 miliardi di euro di tasse e tagliamo noi domandiamoci alzate la testa voi che siete dello stesso partito chiedetevi dove vanno quei soldi perché non vanno nella riduzione del debito non vanno per i servizi dei cittadini domandatevelo allora parto con un altro dato che è quello sull'extragettito dell'Imu che è presente che è un milione e mezzo anche quest'anno di soldi che non dovevamo pagare ma che invece pagheremo perché c'è stata una negligenza nella nella strutturazione dei conti e ancora per questo è invotabile questo bilancio questa previsione di bilancio eppure siete del PD governate tutto in questo momento ma vi dirò di più questo bilancio è invotabile anche perché taglia in un momento del genere di 173 mila euro la sicurezza per tutti i cittadini è una vergogna è uno scandalo non garantire la sicurezza base significa distruggere tutto il resto delle attività anche quelle commerciali perché la gente si ha paura rimane a casa è peggiore la situazione ci sono poi meno servizi scolastici meno 330 mila euro ci sono meno 120 mila euro sui nidi dei bambini ovviamente ci sono gli asini nidi ci sono 38 mila euro in meno sulle politiche giovanili ci sono tagli sugli anziani inquantificabili ci sono tagli sullo sport di centinaia di migliaia di euro tagli al commercio tagli al turismo e tagli previsti ancora in aumento nei prossimi anni in tutti i settori e non ci sono quasi più investimenti strutturali previsti che ci permettano di guardare il futuro con la testa alta anzi ci state davvero togliendo il futuro e anche per quanto riguarda le attività commerciali i parcheggi costi altissimi di Pordenone che neanche Roma ha ci sono quasi un milione di euro che i cittadini pagano per parcheggiare e di cui 90.000 poi non vengono praticamente neanche riscossi perché non si sa non si riesce a tirarli su per quanto riguarda ancora invece il settore dei rifiuti ma non c'era l'assessore Conficoni che era venuto a dirci poco tempo fa che l'ecopiazzola era assolutamente sufficiente per svolgere il servizio e oggi ci viene a dire che va aumentata tanto più che avevamo appena fatto un accordo con Roveredo in piano per praticamente mandare i nostri cittadini a Roveredo e quella era sufficiente mandiamo i cittadini a Roveredo ma l'ampliamo a me sembra una presa davvero in giro dei cittadini presa per i fondelli ovviamente per non parlare poi dei PISUS io permettetemi ce l'ho veramente a morte con questo spreco di soldi perché sono 7 milioni di euro dei cittadini che vengono spesi in maniera che per me è indegna perché sono 230 mila euro per un centro turistico informativo a Parco Querini che dista 300 metri dalla sede di turismo FVG che nel monumento così a a Bozzonello nel Palazzo Badini costato 10 milioni di euro lo ricordo poi abbiamo un museo multimediale di 215 mila euro che non so in tutto i musei ci garantiscono entrate c'è scritto nelle carte per 52 mila euro l'anno forse con quello multimediale arriviamo a 52 mila euro virgola uno quindi in boh mille anni forse rimontiamo la spesa per non parlare dei costi di mantenimento poi abbiamo 450 mila euro nel marketing economico per l'offerta turistica e per l'attività commerciale peccato che siano mance una tantum che non prevedono praticamente nulla di strutturale e anche quello che era stato fatto con la come si chiamava la card del commercio è una cosa che non si è nemmeno più palpata nella situazione indegno 2 milioni per le nuove piste ciclabili quando quelle attuali non sono attualmente in grado di svolgere bene il loro servizio e tante volte non sono neanche perfettamente pulite non hanno le strade a posto non hanno il manto sistemato e non attraggono ciclisti poi abbiamo 3 milioni di euro che comprendono il costo della banda larga della fibra ottica una follia perché abbiamo l'LTE che costa molto meno ed è molto più veloce e noi insistiamo a spaccare le strade per mettere dentro una tecnologia vecchia più costosa delle altre e andiamo avanti in questa strada i perterriti va bene poi abbiamo ancora un book shop che ancora non ho ben capito che cosa sia ironicamente ovviamente ma ci costa 65 mila euro abbiamo un sito web è scritto sempre nelle carte e social media perché sì non vorrei dal costo di 215 mila euro per me è un insulto ai cittadini e all'onorabilità della città si insiste poi su questi fondi europei io non riesco a trovare l'utilità di creare ulteriori burocrazie che significano tasse per i cittadini per andare a riprenderci i nostri soldi per me è una follia e ci costa 47 mila euro questa cosa qua e tutti a dire bene andiamo a prenderci i nostri soldi spagando in più e regalandoli spesso anche agli altri perché non finiscono mai a noi poi abbiamo il piano urbano della mobilità sostenibile abbiamo in questo piano ci sono 520 mila euro di interventi per la moderazione del traffico non si poteva spendere un po' di meno e ripartirli in capitoli più utili no evidentemente no ci sono costi veramente eccezionali per le aree verdi 20 mila 30 mila 50 mila ci sono capitoli ovunque sulle aree verdi non sono riuscito neanche a contarle non possiamo davvero limitarci su quello che Pordenone è già completamente verde e andare veramente a mettere quei soldi dove servono dove servono non dove non servono perché uno non va ad ammirare il fiorellino quando non arriva a fine del mese e quando tagliamo come ho detto prima i servizi essenziali per gli anziani per gli asili nido e tutto il resto che serve o sovratassiamo i cittadini quindi rendiamoci conto facciamo delle scelte di campo e non così perché noi siamo l'amministrazione bella ma quindi dobbiamo avere i fiorellini oppure qui spiegatemi io forse sono ignorante ma due microfoni al costo di 2000 euro non so per me sembrano un po' tantini ma peggio ancora riusciamo a fare con 10 monitor 22 pollici che ci costano la bellezza di 250 euro l'uno quando io vado domani mattina al supermercato e li compro a 100 euro l'uno per me questo è uno spreco oppure ancora di comprare 6 mobile desktop perché faceva schifo scrivere computer portatili al costo di 1700 euro l'uno neanche le Ferrari costano così oppure 3000 euro per 10 sedie 300 euro l'una forse si poteva risparmiare anche lì non lo so io chiedo ma forse non sono informato sui prezzi delle sedie le ho comprate l'altro giorno di bella 60 euro l'una mi sbaglierò torniamo un attimo al piano della mobilità urbana sostenibile il libro dei sogni dove si va a 30 all'ora forse perché servono ancora multe e quindi è un ottimo strumento per multare i cittadini perché a 30 euro si a 30 all'ora si scende dalla macchina si spinge e si va più veloci a me sembrano dati a caso quando sempre nel Pums leggo l'intenzione di togliere dal traffico del ring il 15% non si sa come io non l'ho capito perché le strategie messe in atto non mi convincono e probabilmente non convincono neanche voi perché ho visto un po' di difficoltà nell'enunciarle poi ho visto che vabbè qua abbiamo un 42 mila euro di costo medio per dipendente che per me è altissimo e non me ne capacito ma poi andiamo ancora avanti le tariffe degli asili leggo nella vostra relazione che si aspetta il nuovo regolamento regionale di aiuti e tariffe per l'agevolazione e le nuove normative ISEE cioè ancora si fa il grosso errore di non incentivare tutti a fare figli perché tutti devono fare figli non solo quello che è povero che 9 su 10 è extracomunitario e quindi prende i fondi e gli italiani non fanno più figli quindi diamo la possibilità a tutti di far figli perché anche il figlio del ricco serve se il ricco fa 5 figli meglio divide anche i propri redditi in 5 persone invece che mantenerne una con un unico reddito elevatissimo patrimonio scusate e qui per quanto riguarda sempre i figli negli asili eccetera i costi sono altissimi e vedo che negli anni scrivete sempre nelle vostre belle carte ci saranno 100 posti in meno per i bambini e ci saranno ancora tagli nei fondi un 7% all'anno circa a me pare veramente indegno poi c'è un nuovo ispettore ambientale assunto dalla gea perché è più importante fare le multe a quello che sbaglia a mettere la cartina piuttosto che andare a prendere i delinquenti che spuntano come funghi a Porvenone che la gente non li denuncia neanche più perché ormai sono all'ordine del giorno baby gang stupri assassini il delirio cioè il delirio poi abbiamo poi abbiamo sempre sui rifiuti una previsione di raccolta in calo di anno in anno forse perché evidentemente anche voi vi rendete conto che la crisi sta mordendo e forse Renzi non ha così ragione poi abbiamo l'accoglienza per 15 persone temporaneamente nel prefabbricato di Via Piave che ospiterà anche una decina di associazioni ovviamente di immigrati gratis possibile importiamo disperati ed esportiamo laureati ma ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo oppure siamo così ideologizzati e andiamo avanti sempre a quella ma una cosa ancora nel bilancio dico calano gli incidenti e le violazioni stradali ma i soldi preventivati negli anni rimangono invariati incredibile neanche col gioco delle tre carte si riusciva a fare una cosa del genere ma come avete fatto i conti e come hanno fatto anche a scriverli poi sulle circoscrizioni ho già domandato prima non avete risposte non sapete non si sa boh poi andiamo ancora avanti non c'è in questo piano non c'è non c'è non c'è non c'è progettualità non c'è progettualità non ci sono idee c'è solo la gestione ordinario è fatta male però ci sono anche idee che contrastano con quello che voi avete detto fatto prodigato vi siete svenati per poterle ostacolare perché c'è l'idea di fare un project financing nella gestione del comparto dell'ambito cimiteriale eppure prima sembrava il demonio adesso invece va bene abbiamo perso un ospedale fatto bene per questa roba qua e adesso mi dite che nel cimitero va bene però se lo facevate voi era sbagliato e di più si investe per autodistruggerci perché ovviamente leggo che nella scheda programmatica c'è la volontà di fare la rassegna multiculturale di dialogo creativo e poi vado a vedere i dati sugli iscritti i bambini iscritti alle scuole materne e c'è il 30% di stranieri nelle primarie invece il 24% li integriamo oppure li manteniamo multiculturali perché le strade sono opposte e i cittadini questo devono capirlo ma anche voi soprattutto ultime due cose la prefettura è un punto focale nel bilancio perché nelle pose nelle pieghe delle carte si legge anche nella revisione contabile che è un'entrata stabile e garantisce 215 mila euro l'anno al bilancio comunale però Alfano non risponde sulla tutela o meno di questo è certo ho capito ma se non risponde poi la perdiamo sono 215 mila euro che non sono più stabili deve concludere consigliere concludo semplicemente dicendo che evidentemente per sistemare le questioni che ho enunciato concludo dicendo che toccherà la Lega il prossimo anno a sistemare le cose grazie consigliere allora scusate allora silenzio scusate ascoltate come deliberato dalla commissione capirupo sospendiamo per 10 minuti esatti raccomando caldamente tutti i consiglieri fra 10 minuti esatti riprendiamo i lavori l'avete deliberato voi in commissione capirupo bene possiamo ricominciare chiedo se c'è il numero legale sì c'è il numero legale bene do la parola al consigliere Piva prego consigliere ecco grazie presidente per me diciamo che è abbastanza facile complimentarmi per quello che è l'operato che è stato l'operato dell'assessore Mazza nella compilazione e nella presentazione di questo bilancio preventivo è facile perché si denota molto bene sia la professionalità che la responsabilità nel compilare nella stesura di questo bilancio in definitiva perché è stato molto preciso responsabile perché ha tenuto conto di quelle che sono le esigenze della città e dei cittadini per cui questo è veramente lodevole perché viviamo in una città come Pordenone che tutto sommato in una crisi in cui stiamo vivendo credo che questo sistema questo modo di operare sia veramente da lodare in definitiva ecco poi quello che voglio dire io voglio rispondere un po' al collega Pasut che prima ha fatto il suo intervento impostando un po' una protesta sul discorso lavoro ai giovani ma bisogna tenere presente una cosa che in questi anni stiamo vivendo una rivoluzione terribile per quello che è il mondo di giovani e del lavoro c'è una globalizzazione che sta veramente galoppando e quindi i giovani non possono più aspettarsi il lavoro che gli venga presentato lì se tuostante devono praticamente acuire un po' anche il loro ingegno e girare e migrare andare nei paesi come fanno gli altri che vengono a noi la crisi economica europea e anche mondiale e stiamo vedendo che tutti i giovani si stanno muovendo quindi dire che i nostri laureati vanno all'estero ma nel contempo arriveranno anche laureati dall'estero per cui per me è una diciamo che è un punto molto importante questo tipo di scambio di giovani chiaramente con la crisi non sarà molto diciamo sentito però la strada è questa in definitiva dovremmo abituarci a vedere i nostri giovani e migrare come riceverli questo per quanto riguardava diciamo l'intervento di Pasol poi invece per la città di Pordenone considerato che sono stati delle lamentere per quanto riguarda la rumorosità io credo che su questo aspetto dare la possibilità a diciamo gli esercenti o qualche organizzatore che in cento città dia modo di creare attimo di convegno di richiamo per i giovani chiaramente nelle modalità giuste non sforare gli orari per musica e compagnia credo sia un'iniziativa molto interessante che dovrebbe la città di Pordenone veramente in questo modo fa vivere il centro fa vivere la città che normalmente di sera non è che sia proprio così se poi ci sono delle lamentere da parte di cittadini insomma qualcuno dovrà pur soffrire però l'importante è che la città possa vivere in definitiva poi ho sentito diciamo degli apprezzamenti non troppo positivi per quanto riguarda la cultura e la sicurezza per quanto riguarda la sicurezza parlo prima di sicurezza il fatto che è avvenuto pochi giorni fa un paio di settimane fa qui a Pordenone che diciamo è un atto veramente grosso che ha creato uno scalpore però noi dobbiamo considerare che Pordenone è una città piccola e città come questa diciamo facendo esempio l'Italia ce ne sono poche perché noi abbiamo diciamo anche un'isola abbastanza felice per quanto riguarda è chiaro che la criminalità è ovunque ma da noi è molto limitata non è sentita cioè è comunque ben controllata per cui non credo che mi spaventassi come ho sentito dire da una parte dell'opposizione che la sicurezza sta stravolgendo e sta mettendo la città in mano alla criminalità questa è una pura dichiarazione elettorale e basta per quanto riguarda la cultura qua mi sono preso alcuni dati noi dobbiamo pensare dobbiamo pensare che quello che sta facendo Pordenone mettendo in causa l'assessore l'assessore Cataruzza cioè considerato diciamo l'importo con la cifra che ha a disposizione ha fatto un lavoro meraviglioso cioè se noi andiamo a vedere tutto quello che è stato fatto le mostre dedicate a Tonino Guerra Armando Pizzinato a Colin ad Andrea a Luigi Vettore a Vigio Guidi che poi ho sentito l'altro giorno che Sgarbi vuole un quadro di Guida portare a Milano mi pare a una mostra che presenta lui cioè questa è una cosa importante voglio dire è ovvio che situazioni di questo genere creano dei disagi di spesa perché insomma riuscire a ottenere dei risultati positivi e così ben visti e la visibilità di tutte queste manifestazioni nella città di Polignano sono molto chiare molto evidente e non solo nella nostra zona ma a livello nazionale e dobbiamo tenere presente che l'assessore Cataruzza ha fatto veramente miracoli per portare la città con il suo piccolo diciamo gruppo di paese lo definiamo una piccola cittadina però le manifestazioni che ci si che si trovano in questa città sono importanti e bisogna darne merito l'assessore che ha lavorato in una maniera veramente notevole per quanto riguarda i costi io vedo che tra costi fissi e diciamo e costi di gestione delle manifestazioni siamo veramente bene nel senso abbiamo speso poco e abbiamo dato tanto per cui per me la cultura in questa città sta dando forse bisognerà pubblicizzarla un po' di più per dare più respiro più visibilità però sta facendo dei lavori notevoli e io sono convinto che questo si può fare magari con una campagna un pochettino magari spendendo qualcosa però far conoscere tutte le manifestazioni che noi facciamo un po' a tutto il mondo all'Italia in maniera tale da poter attrarre turisti e questo crea comunque un incremento di quello che è poi il giro della città insomma ecco sono convinto che al di là di quello che diciamo possa uscire da alcune parti della concorrenza dobbiamo veramente confermare e dire che questa amministrazione sta lavorando in una maniera professionale direi quindi degna di rispetto e di conferma per quello che è il loro compito normale quotidiano ecco io ho finito grazie grazie consigliere Piva consigliere Chiaradia prego dimentico volevo suggerire considerato prima l'intervento perché la pausa mi ha un po' bloccato questo ecco volevo consigliare chiedere al consiglio al sindaco di poter inviare il consigliere Piscinato a Roma che magari lì riesce a risolvere determinati problemi che qui non riusciamo a risolvere in definitiva deve chiedere grazie consigliere Chiaradia prego grazie presidente sì anch'io naturalmente mi concentrerò su quella che sono le diciamo le misure economiche che hanno coinvolto naturalmente la cultura anche se ci troviamo a discutere di bilancio questa sera e a dare anche un'approvazione a quelle che sono le scelte fatte appunto in campo culturale scelte che sono molto ridotte perché chiaramente ridotte sono le risorse economiche risorse che per quanto riguarda i musei vengono assorbite quasi esclusivamente dai costi fissi delle strutture museali in particolare ci sono i costi del personale delle utenze per esempio dei musei qua mi rivolgo anche il consigliere Pedicini che parlava di questa esternalizzazione dei musei chiaramente il personale e le utenze sono costi incomprimibili in quanto non si possono non pagare i dipendenti o non pagare la luce eccetera e le cose insomma che mandano avanti che possono mantenere aperte le strutture quindi le spese fisse che rimangono comunque ci sarebbero bisognerebbe comunque pagarle anche se attuasse appunto questa esternalizzazione dei musei che appunto è auspicata dal consigliere Pedicini i costi riguardanti le strutture e quelli legati al personale tecnico e scientifico sono denari che comunque verrebbero spesi dall'amministrazione e che si sovrapporrebbero all'attività eventualmente esternalizzata quindi sarebbe un ulteriore spreco di denaro pubblico naturalmente anche di risorse di energie di risorse umane preziose naturalmente quindi duplicare il servizio che viene fornito dall'amministrazione sarebbe appunto assolutamente antieconomico ma direi assurdo insomma quindi questa esternalizzazione non produrrebbe quell'effettivo risparmio che appunto il consigliere Pedicini consiglia o vede nonostante comunque questa mancanza di denaro che coinvolge bene o male tutte le città tutti i comuni in questo periodo si constata un buon successo delle mostre allestite da Pordenone perché le presenze sono sicuramente parlano insomma abbastanza chiaro 15.000 presenze per Mittica quasi 5.000 per la mostra su Arribertoia Vettori e Guidi che appunto è ancora in corso e proseguirà anche nei prossimi mesi quindi non è ancora chiusa questa mostra non abbiamo appunto i dati finali ma è comunque sempre frequentata anche grazie ai percorsi guidati quindi questo è dovuto all'attenta scelta fatta dall'amministrazione riguardo le tematiche proposte di solito cioè quello che sceglie appunto l'assessore sono autori locali che lasciano comunque il segno nel panorama nazionale o internazionale nel caso di Bertoia quindi è dovuto a questo ma è dovuto anche al coinvolgimento di sponsor che forniscono dei contributi ma soprattutto di sponsor che forniscono del materiale di aziende che hanno appunto fornito i materiali per la realizzazione delle mostre stesse cito una su tutte la collaborazione con la CNOL per la mostra di Arribertoia che è sicuramente la strada anche abbastanza innovativa per cercare di far bene in un momento di crisi economica non so se tutti sanno che appunto per questa mostra la CNOL ha fornito del materiale per un valore di 30.000 euro che ora rimane naturalmente immobilio di pregio di design che ora rimane insomma la città è usufruibile dai cittadini quindi direi che non si parla di moneta sonante ma avere del materiale prestigio insomma nelle strutture comunali è comunque qualcosa di interessante e ricordo anche che questa mostra tra l'altro è itinerante ecco scusate non mi viene la parola e quindi proseguirà Milano New York e Parigi quindi porterà il nome di Pordenone anche in giro per il mondo quindi anche quello che è pensato per il prossimo futuro segue questa linea quindi autori locali da riscoprire valorizzare insieme a questa collaborazione effettiva con aziende sponsor e quindi che esaltino certamente l'artista o l'autore ma anche le capacità imprenditoriali di un territorio che esaltino la voglia di saper fare l'interpendenza dei pordenonesi la creatività delle aziende e una collettività che insieme celebra le proprie capacità quindi questo secondo me è un punto molto importante che risulta ancora più importante proprio perché dà risalto all'ambito territoriale alla città allargata un territorio ampio variegato che coinvolge naturalmente non solo i cittadini di Pordenona ma appunto un ambito verso il quale naturalmente stiamo cercando di andare quindi la cultura non è solo musei lo sa bene l'assessore Cataruzza che deve dividere le risorse economiche appunto con gli eventi estivi e anche con la biblioteca e di questo vorrei parlare della biblioteca che è anche ultimamente poi il vero pilastro della diffusione della cultura della condivisione dello scambio culturale frequentatissima da giovani meno giovani da persone che abitano a Pordenone ma anche io ho molti studenti che vengono anche da altri paesi per studiare a Pordenone quindi trovo che sia sempre importante sottolineare questo discorso di fulcro di centralità all'interno di un territorio che non è solo quello comunale quindi un grazie speciale e qui mi collego poi anche un altro un altro argomento che mi è molto caro va anche ai volontari che mantengono viva le biblioteche circoscrizionali che sono molto attive insomma con gli orari anche ridotti però comunque forniscono un servizio importante soprattutto per dare un aiuto ai ragazzi degli elementari i bambini più piccoli aiutano a fare i compiti e grazie appunto anche all'associazione Amici della Biblioteca che volontariamente opera per proteggere il patrimonio librario per il mantenimento del patrimonio e per la diffusione della cultura quindi non posso che dare il mio applauso e sostegno all'amministrazione che sempre ha visto lontano appunto con lungimiranza dando la possibilità ai cittadini volenterosi di spendersi gratuitamente per la collettività e per la cultura anche i musei vantano questo tipo di associazione di associazioni che operano gratuitamente per il progresso culturale delle istituzioni ma dei cittadini perché sì l'istituzione si avvantaggia ma naturalmente tutto questo va a vantaggio poi della cittadinanza quindi le associazioni che gravitano attorno ai musei sono gli amici della cultura agli amici di parco che forniscono appunto servizi di visite guidate di eventi collaterali alle mostre che portano naturalmente le persone al museo ai musei quindi Pordenone tra i molti primati anche quello dell'associazionismo culturale che generosamente lavora per la città e senza secondi fini questo ci tengo a sottolinearlo non ci sono fini diciamo altri mi associo a quello che aveva già detto appunto Elio Rossetti che appunto pone l'accento sul volontariato e sull'importanza di una comunità al servizio dell'amministrazione quindi alla fine poi al servizio della comunità stessa quindi Assessore appoggita le associazioni nate per supportare l'attività culturale in città sì dalla biblioteca ai musei e sono un'insostituibile risorsa in questo periodo di tagli e che molte città non possono vantare proprio perché è un diciamo un puntiglio del Pordenonesi darsi da fare in sostanza quindi concludo il fiume con lei Assessore per una cultura dei Pordenonesi fatta naturalmente con le risorse disponibili dignitose sì niente di eclatante come si è già visto risorse sostenibili e però una cultura fatta insieme ai Pordenonesi che sempre dimostrano di voler essere presenti nei momenti che contano dimostrando coesione e partecipazione una cultura che racconta la gente piccola e grandi personalità che senza clamore emergono e si fanno apprezzare una cultura che non racconta solo autori ma una realtà complessa e una città coesa i legami che ci tengono insieme i rapporti sociali di un intero territorio grazie grazie consigliere Chiradia consigliere Daniello prego vedremo di farci sentire nonostante le campane grazie presidente bene siamo arrivati al al bilancio previsionale e alla relazione previsionale programmatica che cos'è il bilancio allora a me beh è un bilancio quasi uguale all'anno scorso devo dire e come ho già detto l'anno scorso sono stati bravi funzionari e tecnici che l'hanno redatto hanno incasellato tutto e hanno stilato un bilancio in pareggio chiaramente come la legge chiede sono stati tagliati i finanziamenti quindi il bilancio ha solo recepito questo mi è stato insegnato quando sono appena era entrata in politica che il bilancio è la carta d'identità dell'amministrazione e questa che carta d'identità è è una carta d'identità di persone che accettano meramente ciò che è il responsabile cioè il governo ha tagliato finanziamenti agli enti locali è un bilancio che blocca che blocca tutto altro che fantasie e speranze per questo poi viene vissuto dal di fuori dalla gente come una città bloccata una città blindata da non poter osare nulla di nuovo e direi io direi che è un bilancio di rassegnazione quasi non di rigore speriamo che alcune partite economiche da parte del governo siano sbloccate ma comunque tra pressione fiscale generale e mancanza di entrata siamo a questo bilancio stillato senza ossigeno è un bilancio senza indirizzo grandi indirizzi politici esiste il bilancio di genere non esiste un bilancio di genere finanziato con scelte da sviluppare il bilancio di genere è da portare con finanziamenti è da provare con finanziamenti altrimenti non va avanti non è sostenibile e qui ci sarebbe molto da dire anche in città come Pordenone purtroppo ci sono avvenuti casi e cose non molto piacevoli in questi ultimi mesi non esistono grandi investimenti su energie rinnovabili quindi ho sentito anche nell'ultima commissione dall'assessore Romor che il Casa Serena costa molto la fonte calore però non si investe lì come mai fatelo c'è meno spreco dovevate cablare tutte le scuole ancora dopo 4 anni non sono state fatte bisogna investire sulla banda larga le farmacie 4 delle nostre introiettano tanto quanto una di Azzano Decimo non c'è assessorato che non abbia tagliato sono in difficoltà ma non perché ci sono state grandi scelte folli penso alla scuola l'assessore ha provato a mettere a quadro tutte le cose per un tempo scuola più prolungato eccetera ma ancora non abbiamo sistemato nulla su quanto le persone che lavorano lì e sulle loro modalità lavorative se risolvessimo alcuni nodi fondamentali di questo punto probabilmente potremmo o daremmo lavoro anche a ragazzi e ragazze giovani non i 3.000 euro che mi aveva promesso l'anno scorso per valorizzare via San Vito non sono stati messi in piedi per dare una il corso di inglese non sono stati neanche pensati e ripensati e l'ordine del giorno presentato da me e dalla PC va su quest'ordine sabato ci siamo trovati in piazza casualmente e casualmente parlando con le persone chiedono fondi per la ristrutturazione delle scuole perché manca la mano d'opera le opere anche di prima utilità penso solo all'istituto comprensivo di Rorai Capuccini e non è solo perché per pensare all'istituto delle medie di Torre non è un altro grande incubo penso ma non è la prima volta non c'è una valorizzazione di quelle scuole che stanno perdendo alunni e quindi va fatto un sostegno insieme con le dirigenti e un ripensamento proprio su questa su questa linea ma comunque se non ci sono fondi non è che si possano fare grandi cose Assessore Mazzer io dico che pur applaudendo all'assessore Cattauruzza per quello che è riuscito a mantenere e a portare avanti a Pordenone nella cultura si può fare di più ma anche qui ci vogliono soldi è stato bravo sì abbiamo sentito adesso la consigliera Orsola che era dia ma se ci fossero soldi e investimenti la cultura oggi darebbe da mangiare a qualcun altro e farebbe bene alla città alla città di Pordenone investire in cultura io sono sicuro che lei è d'accordo con me porterebbe solo che aria nuova a questa città e sicuramente non ci si può assolutamente affidare solo al volontariato perché se è un costume affidare alcune cose al volontariato non è corretto da parte dell'ente pubblico l'ente locale prendere e chiedere l'intervento delle associazioni di volontariato questi possono associarsi ad altri interventi che sono d'obbligo da parte del comune così come penso le politiche giovanili sempre all'assessore alla cultura non si possono fare miracoli certamente se non si hanno soldi però non basta una delibera sullo psicologo di strada o a scuola per supportare e dare sostegno alle politiche giovanili c'è ben altro da fare e su cui lavorare quindi sono d'accordo anche che i giovani non hanno spazi non hanno posti su cui ritrovarsi ed altro benvengano tutte le ricerche per dare sostegno alla loro crescita e anche quindi allo sport soprattutto perché potrebbe essere un ambiente sano però ci vogliono anche qui denari città accogliente Nicola devo assolutamente dire è bellissimo sono bellissime le aiuole fiorite ma non possono essere solo in centro città cioè ci vuole un'attenzione a tutti i rioni dalla sfalciatura dell'erba no e anche qui sicuramente oltre a Mazze sarei d'accordo anche tu che molte volte si tralascia si tralasciano alcuni spazi dei rioni vicini anche vicini al centro allora leggo ho letto stamattina sul giornale che il sindaco vuole aprire un tavolo perché ci si lamenta per i rumori dei gonfiabili no allora sono circa due anni che dico che non serve un tavolo estemporaneo serve una vicino a Rmoda c'era qualcuno che si lamentava per i rumori sono intervenute la polizia municipale eccetera ma allora serve un tavolo di chiarimento no serve un tavolo di partecipazione una una costruzione di un cioè costruire un modello no in cui i cittadini partecipano attivamente decidono collaborano e corresponsabilmente si portano avanti delle decisioni perché tutti hanno a cuore un obiettivo quindi si va incontro e alla parte che si lamenta perché ci sono i rumori ci sono le bottiglie le lattine per terra eccetera e agli altri perché è giusto anche dar spazio ai ragazzini ai gonfiabili per l'amore di Dio insomma questa fa parte anche di un aspetto ludico che alla nostra città è riconosciuto allora sono d'accordo anche con Freschi dobbiamo fare un passo avanti tutti assieme perché dal 2011 dice Freschi è cambiato il mondo certo però ognuno ha ruoli e responsabilità diverse e quindi se è vero che è cambiato il mondo allora non si dica che alla città non possiamo seguire e aiutarci a raggiungere obiettivi comuni e per portare a casa questi obiettivi comuni non servono solo belle parole quindi serve coerenza rispetto anche ai programmi scritti prima del 2011 se non ce la facciamo si dica effettivamente allora fin qua siamo arrivati perché avevamo questo fin dopo non possiamo più andare oltre ma lo si dica apertamente senza credere di essere puntati è una chiara omissione delle cose che si sono riuscite ad avere con questi finanziamenti con questi soldi in tasca rendere partecipi anche i cittadini di quello che si è potuto fare di quello che non si è potuto fare credo sia a vantaggio della chiarezza e della coerenza che è stata scritta sui programmi concludo dicendo che è chiaro che ci sono molti punti interrogativi su questa relazione su questo bilancio di previsione però credo che l'assessore Mazzer debba dire con molta sincerità cosa ha tagliato e con quali sforzi tutti gli assessorati hanno partecipato a questo taglio del finanziamenti perché è vero che non avete ritoccato alcune tariffe però levando servizi è come aver aumentato qualcos'altro perché se la gente li paga poi questi servizi più cari di quello che li aveva prima è chiaro che c'è c'è qualcosa di stonato su quelle sulle affermazioni io concludo qua e poi mi servo per di dire la secondo una cosa l'ordine del giorno poi verrà presentato dalla collega Piccin ma era questo il succo del discorso che ci vogliono gli interventi sugli edifici scolastici grazie consigliere Daniello consigliere Ribetti grazie presidente colleghi assessore Mazzer non ho moltissimo da dire su questo su questo suo bilancio primo perché non voglio ripetere quello che hanno detto molti dei colleghi che mi hanno preceduto e poi perché ritengo che veramente l'amministrazione questa volta abbia fatto un compitino proprio ino ino a mio modo di vedere mi sarei aspettato dico chiaramente anche perché forse diciamo siamo forse nell'ultimo bilancio pieno ma secondo me questa può essere una delle motivazioni sul perché avete fatto un compitino ino mi sarei aspettato qualcosa di più pregnante qualcosa di più importante la carenza di risorse a mio modo di vedere non può essere una giustificazione o almeno non può giustificare in toto quello che è un bilancio a mio modo di vedere abbastanza povero un dato importante però ce lo mette lei stesso sulle slide io all'inizio in quest'aula più di una volta soprattutto negli anni scorsi quando ad amministrare la regione era una compagine centrodestra ho sentito strapparvi le vesti urlare strepitare la regione ci tratta male la regione non ci trasferisce risorse francamente dalle slide che lei stesso ci ha presentato qua vediamo che forse l'ultimo anno in cui di soldi ne sono arrivati era quando c'era il centrodestra perché dopo è stato un calo vertiginoso delle risorse e mi sembra particolarmente strana questa cosa se si tiene presente che non solo che la regione è amministrata da una giunta del vostro stesso colore ma che uno degli esponenti di spicco di quella giunta il vicepresidente è chi ha amministrato questa città per dieci anni vede già chi mi ha anticipato nell'intervento ha ricordato a mio modo a mio modo di vedere ha fatto bene a ricordare la questione dell'ospedale questione dell'ospedale che c'era anche ultimamente sui giornali perché finalmente iniziamo a parlare di tempi e credo che questa amministrazione se quelle notizie che sono apparse sui giornali troveranno conferma beh ha poco di cui andare fiera perché non tanto dal punto di vista prettamente temporale che lascia i pordenonesi e tutta la provincia o chiamatela come volete l'unione territoriale che vi siete inventati come volete chiamarla perché l'ospedale di Pordenone è l'ospedale della città per tanti anni senza una sanità di livello ma con dei costi molto maggiori si parla adesso di insieme di 200 milioni di euro senza contare dei macchinari all'interno il collega Piccinato che mi ha anticipato ricordava prima quello che secondo me dovrebbe essere qualcosa che vi dovrebbe far vergognare al centro-sinistra pordenonese per una battaglia politica per una battaglia politica non ha esitato un secondo a mettere a disposizione dei propri concittadini una sanità di serie B da qua ad altri dieci anni la ricordava Piccinato voglio citarlo il project financing mi ricordo ancora le dichiarazioni degli esponenti della vostra maggioranza che in quest'aula dicevano non si potrà mai costruire il project financing nonostante il PD di Udine dicessero le cose contrarie e abbia costruito un ospedale in project financing a Udine beh ma adesso ce lo mettete all'interno del bilancio il project financing quando vorranno intervenire io credo che uno strumento io credo che uno strumento perché la critica era rivolta allo strumento se viene criticato prescinde dai valori non mi si può venire a dire fin quando si tratta di 2-3 milioni allora lo faccio project financing se no no perché in quest'aula è stato detto Presidente in quest'aula in quest'aula c'è stato detto che il project financing era il peggiore dei mali c'è stato ricordato l'ospedale di Mestre ecco allora vede Assessore vede Assessore perché dico che è qualcosa che vi dovrebbe far vergognare perché si può parlare di tutto si può fare quello che si vuole soprattutto in politica però io credo che su certi su certi argomenti su certi aspetti come quello della salute dei propri concittadini bisognerebbe essere chiari un'amministrazione secondo me non può comportarsi in questa maniera come avete fatto voi e chiudo l'inciso perché questo è un inciso che ci tenevo a fare perché credo che ognuno possa evidenziare quello che ritiene l'altro voi potrete dire quello che volete voi ce l'avete detto quando è venuto Zanelli in quest'aula a presentare l'ospedale è stato detto che era il male assoluto il sindaco ha fatto una scelta politica ben determinata e precisa non è andato a firmare un accordo di programma quando c'era la penna sul tavolo con un foglio c'erano dei soldi stanziati avrebbero portato risorse quello lavoro occupazione un ospedale nuovo per i pordenonesi no un'altra cosa si continua a leggere sul giornale dell'amianto abbattono padiglioni si trovano a mianto ma lei se la ricorda a dicembre quando in quest'aula ci siamo trovati con l'ultimo consiglio comunale prima della sospensione che per un errore vostro dopo otto anni che si parlava di ospedale ci avete convocato d'urgenza che vi eravate dimenticati una cosa e io ho detto quando si parlava della relazione geologica ma scusate ma qui abbiamo un geologo che si è espresso dicendo che dall'odore della terra dall'odore perché non aveva avuto il tempo di fare le analisi sembra che non ci siano grosse preoccupazioni di inquinamento io dissi e se poi buttiamo giù i padiglioni e scopriamo che c'è amianto i costi saranno gli stessi saranno maggiori non si sa ci avete fatto approvare una cosa dopo otto anni che pensate dell'ospedale e ancora non sappiamo se quella cosa ci avete fatto votare anzi che vi siete votati perché noi non l'abbiamo votata quella porcheria con quei costi la preventivati saranno quelli o saranno maggiorati questo per farla fretta allora vedersi vede perché dico che avete fatto un bilancino perché non avete avuto ancora una volta la volontà di parlare chiaro ai nostri con cittadini adesso io un'analisi l'ho anche fatta approfondita potrei anche adesso inizio a discuterla ma la voglia è poca perché quando l'altra parte si ha a che fare con un'amministrazione che non recepisce ma non dico dalla maggioranza non credo che siamo tutti ottusi pretestuosi eccetera credo che qualche testa vedo vedo l'architettura chiedo scusa stavo già parlando come piccinato pensavo già le prossime elezioni chiedo scusa noi dell'opposizione possiamo essere più o meno folcloristici ma credo che tra tante teste un minimo qualche idea ogni tanto riusciamo a tirarla fuori eppure non c'è mai stata una volta una volta che l'amministrazione che lei rappresenta perché adesso oltre ad essere assessore bilancio dice sindaco perché in assenza del sindaco la rappresenta lei ma è una volta che abbiate detto ma va sai che quei quattro sciocchini dell'opposizione stavolta qualcosa di giusto l'ha detto la recepiamo niente comunque ciò detto veniamo a analizzare un altro aspetto che ci tengo a evidenziarle si è parlato di cultura noi ogni anno quando siamo in quest'aula gli analizziamo le carte e parliamo della cultura c'è chi si alza dai banchi della maggioranza e difende a spada tratta le bellissime mostre o come ha definito qualche mio collega mostriciattole che sono state fatte a Pordenone e dai banchi dell'opposizione chi più chi meno magari le critica qualcuno le appoggia anche l'intervento della collega della consigliera Daniello prima è stato mi sembra abbastanza favorevole a mio modo di vedere io ho sempre detto e continuerò a ripeterlo non è mia però l'ho detto ma non è mia non mi prendo paternità perché è bellina come battuta ma non è mia ecco voglio dire io continuerò a dire la cultura è importante ci sono momenti in cui si può spingere tanto sulla cultura ci sono momenti in cui magari bisogna spingere di meno sulla cultura però perché secondo me le priorità sono altre però quello che mi lascia perplesso mi lascia perplesso di questo bilancio è continuare a vedere come purtroppo trovino conferma le lamentele che sono state alzate dai banchi di questa opposizione già negli anni scorsi riguardo non tanto la cultura in sé per sé ma il costo di quelli che sono le strutture culturali io ho visto nel suo bilancio assessore mi sembra che sia una riduzione minima di 30.000 euro forse sulla gestione delle strutture culturali rispetto dei valori che magari si riducono in maniera più importante in altri settori allora io dico io dico scusi c'era proprio bisogno di tutte queste strutture la città di Pordenone negli anni lei mi dice ma stiamo discutendo un bilancio preventivo 2015 perché mi viene a parlare di queste cose passate perché noi queste cose ve le abbiamo dette anno per anno volta per volta io mi ricordo quando avete fatto Palazzo Cevolin quando avete fatto la struttura orrenda al Parco Galvani che c'è un cubo di cemento buttato lì in mezzo a un verde mi ricordo il ballo della scrivania come si chiama che avete fatto gli spazi laggiù in fondo che poi allora io ve lo dico per l'ennesima volta le strutture culturali tutto quello che voi chiamate strutture culturali erano necessarie i costi di queste strutture che sono costi inevitabili siamo sicuri che non si potevano limitare se quelle risorse non potevano essere impegnate in maniera diversa vede il collegio dei revisori perché un plauso vi va fatto un plauso e il collegio dei revisori che è rappresentato da un ottimo professionista anche gli altri ma qua c'è il presidente quindi vedo il presidente vi sottolinea un aspetto dice amministrazione sei stata bravissima perché hai ridotto l'indebitamento se noi andiamo a leggere c'è un capitolo apposito sull'indebitamento ma la parte finale dice proprio preliminarmente il collegio l'organo di revisione sottolinea positivamente la notevole riduzione dell'indebitamento che influisce positivamente sull'equilibrio economico e finanziario chiaramente e sui totali dell'equilibrio finale ciò consentirà questa parte importante di conseguire spazi per effettuare nuovi investimenti senza indebitamento oppure ridurre il carico fiscale sui cittadini o il prezzo dei servizi e qui e qui viene la diversa faccia della medaglia perché io preferirei dalla mia amministrazione magari una minore riduzione dell'indebitamento però il fornire servizi ai cittadini perché l'amministrazione è qui per fornire servizi non per farsi bella mostra per idee campate in aria che hanno poco ritorno sui cittadini lo ricordava prima Piccinato 50.000 euro quanto ricordiamo dalle mostre cosiddetto 52.000 euro quanto ci costano ah però siamo una città culturalmente avanzata culturalmente scusi assessore con la coda di persone che sono che battono cassa gente che non arriva a fine mese gente che non sa dove come pagare l'affitto posso dirle una cosa ma sa cosa me ne frega a me che abbiamo una città culturalmente avanzata poco o niente anzi più niente che poco allora vede questo ci deve far capire cos'è la politica la politica è la locazione delle risorse disponibili la vostra amministrazione decide che prioritario un cubo di cemento al parco Galvani o continuare a spendere centinaia di migliaia di euro per poter dire che viene x y non a farci la mostra portiamo a casa 50.000 euro l'anno possiamo fare bella mostra possiamo dire che siamo avanzati abbiamo Pordenone legge dove continua il pubblico a mettere risorse perché i privati ne mettono poche perché se fosse lo dico un'altra volta l'ho detto molte volte ma lo ripeto quando qualcosa attira veramente il privato ci vuole entrare se Pordenone legge fosse quella miniera d'oro che ci venite a raccontare il privato si tufferebbe non saremo qua noi ogni volta a buttare soldi ecco quindi poi un altro aspetto ma questo ve lo dico ogni anno però quest'anno vedo che ve l'han detto anche i revisori voi siete voi un'amministrazione di centro-sinistra non dovrei farvi io questi ragionamenti ma mi spiegate perché continuate a dire sull'addizionale IRPEF che resta ferma da anni allo 0,2 siamo bravissimi a me va bene lo 0,2 ma io ritengo che sia una questione sia molto più equo prevedere un addizionale che sia come fanno in altri comuni magari con i debiti scheglioni con i debiti fasce con le debite fasce di esenzione che sia progressiva credo che sia più equo o no e lei il comunista non sono io mazza quindi dovrebbe farmelo lei era una battuta dovrebbe mettere ma lei chi più ha è giusto che paghi in base agli scaglioni e sono gli stessi e sono gli stessi revisori che ve lo dicono a pagina 33 che ve lo suggeriscono non dicono dicono semplicemente a pagina 33 il tributo resta confermato allo 0,2 il gettito previsto è un milione e cinque e cinquanta e anche qua e anche qua avrei qualcosa da dire sulla vostra relazione programmatica perché ci dite siamo in un momento di contrazione di risorse giusto? quindi la ragione ci dà meno soldi la giustifichiamo così però continuiamo a prevedere costante l'entrata dell'addizionale quindi i redditi dei pordenonesi che ci pagano l'addizionale non subiscono la contrazione restano costanti sempre non ritiene che ci sia un controsenso in quello che dice Assessore no no ma chiaramente ma io dopo non posso rispondere io lo dico adesso ecco però vi dicono i vostri vi dicono i stessi revisori dicono tra parentesi guarda che l'articolo 1 ha ripristinato la possibilità di incrementare fino a 08 è possibile differenziare l'addizionale in base al reddito con l'obbligo però di utilizzare gli stessi scaglioni IRPEF che sono quelli che vanno a connotare il nostro sistema tributario improntato ai principi costituzionali di eguaglianza capacità contributiva tutti quelli che conosciamo o dovremmo conoscere quindi io posso anche apprendere anche questa è una scelta politica decidete che tutti i cittadini pagano uguali tutti i porderonesi pagano la stessa maniera indipendentemente dalla propria capacità contributiva anche questa è una scelta va fatta poi deve concludere il consigliere sì tanto poi posso anche secondo intervento giusto un ultimo un ultimo passaggio me lo toccarlo velocemente è sulle è sulle partecipate no abbiamo fatto un bilancio un consiglio comunale il 30 di marzo dove già allora avevo detto che il tempo era galantuomo se si ricorda il mio intervento perché avevo ricordato come noi da anni vi chiediamo da questa dai banchi di queste opposizioni vi chiediamo che cosa di avere il bilancio delle partecipate per fare quella specie di bilancio consolidato di gruppo che adesso la legge li impone e giustamente dissi il tempo è galantuomo adesso mi tocca ripeterlo perché quando in quell'intervento quando in quell'intervento ricordai il costo dei parcheggi a Pordenone e torniamo al discorso dei servizi di cosa deve dare un'amministrazione ai suoi cittadini o a chi viene in città a usufruire dei servizi deve concludere il consigliere arrivo l'ultimo ragionamento veloce sono stato interrotto però e concludo veramente dico ancora una volta il tempo è galantuomo perché qualche giorno dopo sui giornali io allora dissi i parcheggi di Pordenone sono più cari di quelli di Udina che di quelli del centro di Roma beh qualche giorno dopo sui giornali c'era quella notizia quindi concludo veramente concludo veramente assessore il bilancio non mi è piaciuto è stato un bilancio povero a mio modo di vedere l'unica cosa positiva per secondi revisori del debitamento io l'avrei visto in maniera avrei preferito qualche debito in più e dopo nel secondo intervento parlerò di una cosa che mi sta a cuore che l'ho detto già più di una volta sulla struttura dei giudici di pace grazie grazie consigliere Ibbetti bene dichiaro chiuso il primo intervento passiamo direttamente al secondo prego consigliere Pedicini sono cinque minuti intervengo non tanto per quanto abbiamo già detto ma penso che meriti una risposta la consigliere Chiaradia che mi ha degnato di metà del suo intervento per dire che avevo eh no guardi ero qui presente e attento dicendomi quasi che ho detto delle sciocchezze che quindi dovrei stare attento a fare delle affermazioni come quella di esternalizzare i musei perché il costo che abbiamo di un milione e cento è dato principalmente dal personale questa è la favoletta che si racconta allora io penso che una consigliera attenta come la Chiaradia una professoressa una e poi penso che insegni anche matematica se non sbaglio che dovrà italiano ecco allora con i numeri pensavo matematica invece italiano allora capisco che lei i numeri non sia non vada tanto d'accordo perché prendersi la briga di andare a vedere il bilancio come purtroppo ci tocca fare anche a noi si sarebbe accorta che i dati non sono quelli che ha dato lei ma quelli che ho dato io allora no no lei ha detto che è principalmente il milione e cento è il personale e allora se vi andate a vedere i dati scoprite che il personale incide per trecento trentadue mila euro ci aggiungiamo anche i contributi e andiamo a quattrocento trentunmila euro questo da bilancio è il costo del personale per i musei allora poi ci sono le utenze non solo le entrate dei musei i musei quanto incassano compresi tutte le attività sono 13 mila euro una sciocchezza però c'è un bel contributo regionale di 643 mila euro allora vede che quando io dicevo che si può esternalizzare mettendo a gara 700 mila euro non stavo dicendo delle sciocchezze ma era dato su dati che mi ero andato a prendere dal bilancio quindi potete sono scritti nel bilancio assessore allora o scrivete dei dati diversi oppure sono sì va bene ma il personale è il personale cioè i conti del personale allora abbiamo dei conti diversi io li ho letti dal bilancio che avete presentato voi alla voce personale sono 332 mila euro alla voce contributi per il personale sono 98 mila euro per totale di 431 mila euro non ci sono altre voci su questo allora insisto e continuo a dire questo però quando non si vuole cambiare non si cambia quando si vuole continuare a pensare che va bene tutto come sta andando si rimane fermi così mi meraviglio che siano dei giovani a dire questo che anzi dovrebbero essere propositivi a cambiare ed essere anzi loro il motore della spinta e forse comincerei a dire per quanto riguarda le attività culturali non è che cos'è che non vi va bene per quanto riguarda le attività culturali che è stato detto anch'io scoddivido che la cifra non è che sia eccessiva sono 675 mila euro per le attività culturali le strutture culturali perché è stato anche accennato ne assorbono ben 517 mila euro che non è poca cosa e se vedete in proporzione per un totale di un milione e duecentomila euro circa che in realtà non è poca cosa perché la proporzione fra le strutture culturali e le attività culturali sono quasi 50% allora io su una cosa non sono forse non l'ha detto nel modo migliore ma non sono proprio d'accordo col mio collega Ribetti quando dice che la cultura in questo momento possiamo farne anche a meno invece a mio avviso dobbiamo quello che stiamo sbagliando caro Francesco se posso permettermi in questo momento è di non vedere la cultura effettivamente come elemento di sviluppo anche in un momento di crisi però bisognerebbe avere il coraggio di cominciare a dire e qui ci sei andato vicino su alcune affermazioni che dobbiamo pensare a un'imprenditoria culturale questa città è matura nel momento in cui la base è stata già data negli anni e si è investito molto oggi possiamo pensare che economicamente la cultura può darci un ritorno a questa nostra comunità e io sono convinto che attraverso la cultura ci può essere anche un ritorno perché tu hai citato Pordenone legge riguardando facendo il paragone con Mantua effettivamente Mantua la gestione che è una gestione privata dell'iniziativa il 90% presento nel bilancio è su internet se non sbaglio sono 360 mila euro quello che viene presentato dichiarano il 90% di entrate private e solo il 10% di entrate pubbliche ma ci sarebbero tante altre iniziative anche le mostre che vengono fatte in città ci sono delle belle mostre io non è che sto dicendo che non siano delle belle mostre però a livello di pubblico di promozione non danno quei risultati che tutti ci si può sperare forse bisogna pensare anche su questo a fare delle mostre che ci possano dare un introito perché l'introito che noi abbiamo è ben poca cosa in questo momento e allora concludo dicendo semplicemente volevo chiarire che le affermazioni che vengono fatte non sono fatte a Vanvera ma sono fatte sui dati detti all'interno del vostro bilancio e anzi un'imprenditoria culturale e concludo pensando che buona l'iniziativa con il polo tecnologico per quanto riguarda il polo young all'interno di Villa Cataneo io spero che si arrivi a chiudere questo accordo perché effettivamente ci potrebbe essere una potenzialità quella è la strada giusta pensare a un'imprenditoria culturale mettendo a disposizione delle strutture che possono servire per questo però bisogna farlo mi dicono che ancora ferma e non so perché la convenzione l'accordo quello che dovete fare ecco bene su quello vi incoraggio invece di andare avanti grazie grazie consigliere consigliere piccinato grazie presidente gli ultimi interventi infatti mi hanno un po' fatto pensare ad alcune cose ed effettivamente il collega Pedicini ha assolutamente ragione quando dice che bisogna attivare un'imprenditoria culturale che la cultura non deve essere solo uno strumento di dispensa di mance ma deve essere uno strumento di crescita sociale su questo credo di essere anche un po' insomma un minimo che provo in cui di persona provo a fare qualcosa perché come qualcuno c'era insomma ho presentato di recente il mio secondo libro ho realizzato la sala piena e già con la vendita ho già rimontato tutti i costi sto iniziando a guadagnare qualcosina un minimo ma insomma col tempo pian piano riesco a vendere insomma i libri che ho prodotto e questo senza avere alle spalle nessuno senza avere una casa editrice perché qua sono tutte di sinistra senza avere eppure 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 e quindi davvero il modello dal mio punto di vista deve essere quello di andare in un'ottica di cambiamento e non deve essere la cultura una mancia cioè la cultura deve dare terreno su cui far crescere le persone non qualcosa così giusto perché io ricordo qualche mai un mese fa di essere entrato in possesso casualmente di un volantino di Villa Manin attualmente a Villa Manin e così faccio anche pubblicità a Villa Manin perché insomma lì fanno cultura c'è l'avanguardia russa l'esposizione insomma della pittura c'è ancora sì assolutamente e quella è una mostra assolutamente interessantissima cosa che qua io qui abbiamo sì vabbè insomma quanto è costata ma quanto interesse scatena quanta cultura crea quanto cioè ci sono investimenti che investimenti che ritornano e poi il bilancio l'avete visto voi quanto ritornano gli investimenti che fate e io credo che alla fine sia meglio investire bene che investire poco è male poi al di là dell'ozium come chiamavano i latini cioè lo studio vado un attimo e rispondo all'amico Piva dicendogli che ben volentieri andrei a fare l'ambasciatore a Roma anche se è comunista però vedi insomma l'ambasciatore quindi di uno stato estero ma torno un attimo a dire a parlare di quello che c'è nelle pieghe del bilancio così le ultime due cose poi veramente chiudo nel capitolo del disastro sociale perché insomma sono dati che vanno elencati dove io sto ancora aspettando la risposta che avete dato a un'italianissima signora che non avete dato a un'italianissima signora di 67 anni che ha chiesto aiuto ma che evidentemente non è stata degna non è stata ritenuta degna di essere trattata come un immigrato clandestino dove si dice che gli italiani che hanno chiesto aiuto nel disagio sociale sono 588 rappresentando questi sono i dati che ricaviamo da altre fonti l'84,5% della popolazione mentre gli stranieri hanno chiesto l'aiuto e ottenuto sono in 714 mentre rappresentano la popolazione del 15,5% gli ultimi dati giusto per capire le risorse che il PD anche a livello nazionale vuole con tutti i suoi esponenti eccetera eccetera si parla di una differenza del 662% una cifra abnorme che dovrebbe completamente ribaltare quelle che sono le vostre concezioni di aiuto sociale perché un conto è aiuto un conto è parassitismo ecco quindi lì mi fermo qua poi l'ultima cosa veramente è quella che tra le altre cose giusto per aumentare insomma le ampie motivazioni che ho già dato per cui questo bilancio merita di essere profondamente bocciato è che a pagina 15 della relazione dei revisori contabili voglio proprio leggere c'è scritto che l'ente dovrebbe dovrebbe aver rispettato i vincoli di equilibrio cioè se non sono sicuri i revisori di sicuro non sono sicuro io sul vostro bilancio grazie grazie consigliere consigliere Piccini prego sì Piccini Veneto di origine grazie presidente brevemente per concludere un po' il ragionamento di prima e presentare i documenti che insomma illustrare un po' i documenti presentati allora parto con l'emendamento al quale si aggiunge anche la firma del consigliere Ribetti che non era presente prima comunque questo emendamento fa riferimento come ben si comprende dalla stringata premessa alla questione sicurezza e installazione delle telecamere nel nostro territorio allora io si illustra da sé in pratica perché sostanzialmente se andiamo a pagina 6 del bilancio vediamo che ci sono delle variazioni in diminuzione di 16.900 euro io li ho sostanzialmente rimessi anche perché questo mi dispiace ma lo devo aggiungere il collega prima ha parlato di campagna elettorale fatta sulle questioni della sicurezza allora pregherei perché credo che qui tutti quanti noi soprattutto dell'opposizione abbiamo mantenuto un profilo al di là della richiesta di informazioni delle interrogazioni un profilo assolutamente inesistente rispetto alla tragedia giustamente inesistente rispetto alla tragedia che è accaduta nella nostra città allora io che volentieri ascolto sempre gli interventi di tutti non mi è piaciuto sentir dire che chi qui si preoccupa di sicurezza fa campagna elettorale non è così perché la nostra città purtroppo ha vissuto alcune situazioni critiche tragiche non lo so comunque le situazioni ci sono e non le possiamo nascondere nessuno di noi ha mai detto che è colpa di qualcuno si è verificata una situazione spiacevole e mi risponderete in altra sede rispetto a quella telecamera però lo spirito di questo emendamento va in questi termini proseguo e dico che gli ordini del giorno che non sono emendamenti ma che sono sostanzialmente dichiarazioni di intento vedete voi come le volete valutare quello relativo ai contributi per l'edilizia scolastica già lo ha illustrato la collega Daniello e le cose sono andate esattamente in quel modo e quindi c'è una richiesta pressante da parte della città l'ordine del giorno riassume questa richiesta fatta alla regione che coinvolge 24 interventi e questo ordine del giorno credo che non faccia nulla di male nel dire che ci si deve attivare in tutti i modi per riuscire a portare a casa almeno una parte di quei contributi l'ordine del giorno numero due è anche questa una sorta di dichiarazione di intenti e di pungolamento ma di questa cosa l'assessore già ne ha dato conto e credo insomma che essere presenti e sul pezzo quando si liberano spazi finanziari sia nelle nostre corde come amministrazione e come città e il terzo ordine del giorno fa riferimento ad una discussione che recentemente abbiamo portato è stata portata dalla maggioranza all'attenzione di questo consiglio comunale fa riferimento alle partecipate allora in linea con quanto io avevo detto durante quell'intervento ho presentato un ordine del giorno che vada in quella direzione ovvero nella riduzione del 20% delle indennità degli amministratori delle partecipate per la parte eccedente i 24 mila euro così ho messo il limite più basso rispetto a quello che stava in quella tabella un inciso su questo aspetto che ho scoperto così vedendo anche cercando di esaminare l'aspetto delle partecipate di questa razionalizzazione dovuta per legge in regione dove ad un certo punto l'assessore regionale ci dice che non solo le partecipate ma anche le partecipate delle partecipate sarebbero in qualche modo dovute rientrare in questa in questa revisione allora probabilmente io non ho approfondito bene e mi è sfuggito qualche passaggio chiedevo all'assessore se noi questa cosa l'abbiamo fatta in quella sede grazie grazie consigliere consigliere ribetti prego sì allora continuo l'intervento che prima ho interrotto per carenza di tempo e lo continuo lì da dove l'avevo interrotto ovvero dall'analisi che avevo che stavo facendo su quelli che erano le priorità che secondo che mio modo di vedere deve dare un'amministrazione anche in termini di servizi e mi tocca continuare richiamando ancora una volta mi scuserà il collega Taurianna il la relazione del collegio dei revisori che per come la interpreto io vi sta dicendo proprio questo perché se noi andiamo a leggere la pagina 22 e adesso poi dico in che ambito l'avevo già accennato la chiusura per quanto riguarda Piazza della Motta l'ex biblioteca se noi guardiamo pagina 22 della relazione dei revisori loro stessi vi dicono ricordato che l'articolo 128 del 163 del 2006 considera comunque prioritari lavori di manutenzione recupero completamento lavori progetti esecutivi approvati eccetera interventi finanziamenti anche privato il collegio considerata la difficoltà in particolare nel breve medio periodo a reperire risorse a destinare a spese di investimento raccomanda che l'individuazione degli interventi venga effettuata con un lavoro di identificazione e quantificazione dei bisogni che tenga presente il complesso delle funzioni istituzionali dell'ente individuando le priorità nell'ambito delle risorse disponibili cosa vi vuole dire questo assessore il collegio dei revisori secondo me per come lo leggo io vi vuole dire proprio quello che stavo dicendo io prima soprattutto quando risorse non ce ne sono e l'amministrazione deve andare a scegliere dove investire l'amministrazione dovrebbe capire quelli che sono i compiti allora vede io feci un'interrogazione nel 2010 a fine 2010 quella famosa quando chiedevo a che punto è cosa ne facciamo nella biblioteca di Piazza della Motta perché non ci mettiamo giudici di pace e allora dissi anche l'ufficio notifiche perché era lì e lei candidamente mi rispose dobbiamo metterci le tre scuole di musica private perché quelli eravamo in una campagna in un periodo preelettorale forse quelle tre scuole di musica private dovevano andare lì tre scuole che non sono più andate un edificio desolatamente che resta vuoto nel 2010 eravamo in un periodo un po' diverso da quello attuale credo che anche i vincoli del patto di stabilità fossero diversi ecco allora allora assessore lei che sedeva già in quella giunta ritiene che è stato un buon amministratore mi risponderà dopo è stato un amministratore che è stato a servizio dei cittadini o è stato un amministratore che forse non ha fatto tanto gli interessi dei cittadini non voglio dire non sto dicendo che ha fatto gli interessi di altri sia ben chiaro non sto dicendo quello però lei oggi che voto darebbe a questa sua scelta e allora e allora io adesso le dico trovarmi trovarmi 500.000 euro non stanziati per il 2015 per l'ufficio dei giudici di pace ma stanziati nel 2016 della serie non è un problema che mi riguarda neanche per il 2015 io glielo chiedo nuovo lei crede che sia una scelta anche questa buona anche perché agli atti c'è una mia seconda interrogazione sempre sugli uffici del giudice di pace uffici del giudice di pace che sono in condizioni precarie di poco ecco allora vede i cicli che tornano delle volte ecco su cui secondo me ci dovrebbero essere maggiori spiegazioni più cheare da parte dell'amministrazione il collega Pedicini che non è uscito mi dispiace vabbè io dirò dopo secondo me è stato un attimo è stato un attimo disattento il collega Pedicini prima perché grazie a Dio che c'è ancora la streaming e una videoregistrazione io ho esordito dicendo la cultura è importante sospendiamo io ho esordito dicendo la cultura è importante ma ci sono periodi in cui lo hai di più e periodi in cui lo hai di meno nessuno dice che la cultura non lo sia io dico semplicemente che in questo momento le risorse a mio modo di vedere dovrebbero essere allocate in maniera diversa perché tutti quanti abbiamo sotto mano e sott'occhio il ritorno di quella che è l'offerta culturale allora se questa è imprenditoria culturale c'è qualcosa che non torna perché un imprenditore che spende un milione per portare a casa 50 mila euro sarebbe in tribunale dopo 5 minuti quindi poi vogliamo discutere che la cultura fa crescere la cultura e modalità di interazione con gli altri la cultura possiamo dire quello che vogliamo ma dell'aria fritta ne parliamo quando abbiamo i soldi e la pancia piena quando diamo da mangiare i nostri concittadini quando creiamo ricchezza allora abbiamo soldi da investire in cultura vado velocemente a parlare della sicurezza io ho già fatto la domanda quando l'assessore mazzer ci fece la presentazione del bilancio se si ricorda chiedo attenzione vedo nel capitolo della sicurezza che manca qualcosa io ho firmato con l'interrogazione sulle telecamere sia anche l'ordine del giorno sia l'interrogazione che è stata fatta sia l'interrogazione che è stata fatta a suo tempo che l'ordine del giorno che adesso ha detto la collega PC l'ho firmata perché si ricorda quel bel finanziamento regionale che era stato che era arrivato dalla regione per finanziare la sicurezza ai privati io nell'ambito di quel dibattito quando lei ci venne in quest'aula a dire che l'amministrazione comunale di Pordenone aveva preso quei soldi e una parte di quei soldi al posto di usufruirla per le telecamere per gli strumenti di sicurezza si era pagata una spesa corrente che era l'illuminazione al Bronx io le dissi è sicuro l'assessore che quella è stata una buona scelta lei forse era l'assessore dei lavori pubblici quella volta e le disse ma intanto le telecamere le abbiamo già tante ci siamo pagati la passarella del Bronx con la luce ecco io credo e ancora una volta le chiedo che voto si dà per quella scelta senza voler strumentalizzare senza voler strumentalizzare magari magari avremmo avuto una telecamera vera al posto di una finta sto chiudendo Presidente vado velocissimo perché neanch'io neanch'io accetto neanch'io accetto le critiche no finito sto finendo neanch'io accetto le critiche perché le critiche sono state rivolte alle opposizioni di strumentalizzare la sicurezza non potremmo aver parlato di 3.000 cose Pordenone è stato oggetto dell'evasione del marocchino del tentato stupro a torre da parte di un altro è stato oggetto purtroppo di tanti episodi mai da quest'aula è stata levata una parola contro l'amministrazione concludo Assessore una battuta sempre con riferimento alla relazione dei revisori che ci dicono che ricordano i vincoli che ricordano i vincoli che avranno gli enti pubblici che partecipano in società a me ha fatto venire un dubbio lei ci ha fatto fare la corsa per approvare il bilancio per approvarlo prima del bilancio delle partecipate perché i revisori perché i revisori ci dicono che l'amministrazione riferisce l'amministrazione riferisce di non avere problemi di perdita grazie grazie eccoci Giannelli solo una domanda siccome abbiamo parlato fino adesso del momento topico topico si sente? com'è? ma perché perché non ci rimettete la pedanina ma che sono cazzate scusi sono bici scusi sono monate oddio non mi viene la parola sono stupidaggini presidente dove dove il sindaco stiamo parlando del bilancio del bilancio totico ci siamo fermo ci siamo infervorati soffriamo per questo comune e io chiedo chiedo dove penna bianca il sindaco eccolo eccolo il sindaco dai sindaco dici dove sei stato dai sindaco siamo tra amici ragazzi scusi il consigliere ha terminato? sì grazie beh il sindaco si è sentato mi aveva avvisato per portare i saluti ma era una curiosità 50 anni politica 50 anni politica bene non vedo nessun altro iscritto dichiaro chiuso eh il consigliere lo perfido sa che basterebbe iscriversi prego grazie presidente grazie presidente dunque sul bilancio allora tante cose sembra che queste cose questa amministrazione non ha potuto realizzarla perché ha avuto 4 anni di sfortuna per cui ogni volta che iniziava a fare qualcosa sicuramente iniziava il peggior clima che ci fosse e tutte le le tempeste tempeste equatoriali e ogni volta che iniziava un'opera c'era sempre qualcosa da rivedere e ogni volta che questa amministrazione decideva decideva di iniziare di iniziare un progetto poi c'era sempre qualche problemino beh adesso voglio portare eh in quest'aula un esempio in cui veramente stiamo raggiungendo una situazione imbarazzante e e qua non ci sono più scuse signor vice sindaco l'autostazione l'autostazione nella seduta precedente del bilancio lei disse tutto quanto a posto adesso ci avete nella stessa persona il presidente della provincia e il sindaco e non siete stati ancora in grado di mettere in piedi un progetto per incassare questi famosi soldi del pedaggio questa volta di chi è la colpa? è di Tondo è di Berlusconi è dell'invasione delle cavallette o ogni tanto un po' di responsabilità qualcuno se l'assume noi stiamo perdendo soldi a causa di una incapacità che questa amministrazione non è in grado di individuare noi abbiamo 300.000 euro che era l'importo che aveva detto che molto brevemente avremmo incassato 300.000 euro l'anno mai detto 300.000 euro vedo che iniziamo a rivedere un po' i dati allora forse non era la provincia di Ciriani che era così cattivina quando si andava a vedere quanto doveva essere l'importo del pedaggio comunque detto questo detto questo ormai ormai governate tutto e nonostante governate tutto siete incapaci di incassare i soldi che il comune di Pordenone spetta incassare questa è la dimostrazione di una incapacità che non siete in grado di individuare e questa è una grave mancanza politica perché quei soldi possono essere utili per i cittadini di Pordenone e quindi non ci sono più scuse assessore è un anno che è andata avanti con questa storia prima era colpa dell'ufficio della provincia e poi era colpa dell'interpretazione dell'ufficio della provincia adesso avete tutto in mano e ancora questi soldi non abbiamo visti e non avete ancora niente in mano perché si possa iniziare ad incassare questi soldi ma d'altronde questo è l'esempio del fatto che l'incapacità alla fine dimostra come come ho detto prima non siete stati in grado di realizzare niente almeno una cosa una cosa fate fate in modo che Pordenone diventi accogliente per le giovani coppie perché non è possibile che i giovani pordenonesi vadano fuori dalla città di Pordenone perché i giovani pordenonesi vedono che l'appartamento costa 200 euro metro quadro a Porcia a Cordenons a Roveredo a San Quirino e se ne vanno fuori ad abitare ma questa non è una politica lungimirante perché poi non ci sarà più chi paga le tasse a Pordenone e se non lo capite voi spero che prima o poi cambi l'amministrazione politica per far sì che i giovani a Pordenone possano rimanere avere le proprie famiglie godersi questa bellissima città pagare le tasse a Pordenone e magari anche iniziare ad avere la possibilità di stanziare un'azienda qua in città di Pordenone da quando siete al governo voi non c'è assolutamente una crescita imprenditoriale ed era uno dei vostri obiettivi che non siete stati in grado di mettere in pratica grazie grazie Cucelo Pertido dichiaro chiuso il secondo intervento pertanto do la parola adesso all'amministrazione l'assessore Mazzer che avrà qualcosa da dire credo grazie presidente io cercherò di essere molto breve perché il tentativo è quello di chiudere entro le dieci e mezza quindi cercherò di riassumere le risposte quelle che ovviamente si possono riassumere perché ogni tanto le opinioni sono diverse rimangono diverse ed è giusto che sia così per quel che riguarda il consigliere Giannelli le funiature non appartengono più come 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 patrimonio al comune adesso c'è il famoso atto o cato come è che decide sulle funiature quindi non è noi non possiamo più mettere risorse per ampliare le funiature deve fare il cato PISUS vabbè io rispondo così veloce così come gli argini gli argini li abbiamo fatti sulla base di quello che diceva la regione perché ne ha competenza insomma non è che ce li siamo inventati lì lavoriamo in delega investimenti per le fibre ottiche voi avete letto gli investimenti di 500 mila euro che sono in fondo però sopra c'è la voce sul PISUS che parla proprio di investimenti complessivi di opere stradali e anche di fibre ottiche quindi siccome però erano insieme non si potevano disgiungere precisamente quindi le abbiamo lasciate alla voce opere stradali e fibre ottiche e sotto fibre ottiche sulle rotatorie non strategiche va bene è un'opinione sulla discarica ovviamente abbiamo deciso di chiuderla perché è un costo che dobbiamo ancora sostenere di manutenzione per come si chiama il percolato e quindi chiuderla significa ridurre quei costi quindi fare un investimento per ridurre dei costi di parte corrente del bilancio sulle questioni invece del bilancio questa è la Bibbia noi lo approviamo ed è la Bibbia per tutto l'anno era la permessa che abbiamo fatto all'inizio noi abbiamo deciso di chiudere il bilancio non è che il bilancio si chiude da solo sono bravi i nostri tecnici anche perché abbiamo dovuto lavorare con l'armonizzazione è giusto abbiamo dovuto lavorare anche con variazioni legislative continue però guardate che il tecnico ci dice bene le richieste dei settori sono questi le entrate sono questi c'è un disavanzo dove tagliamo e qua è la politica che decide è la politica che lo mette in equilibrio il bilancio si prende la responsabilità di dire dove tagliamo e cerca di non farlo in maniera semplice dicendo tagliamo un po' a tutti perché questo significa mettere in difficoltà poi l'erogazione dei servizi noi abbiamo dovuto farlo mantenendo i servizi facendo dei sacrifici ma mantenendo i servizi sul coraggio delle scelte non vedo pericini ma per esempio teniamo conto anche dei suggerimenti che ci sono stati non tutti sono praticabili subito ad esempio sulle farmacie è in corso una riforma sulle farmacie che è stata fatta a livello nazionale adesso ci sono i proprietari di farmacie che possono averne più di 4 significa che anche da noi domani ci saranno le catene ecco valutiamo dal punto di vista del bene per la nostra comunità quanto è giusto tenerne quanto è giusto magari alienarne quanto è giusto magari gestirli in maniera diversa ma è una valutazione che si farà uno dei compiti del PEC assegnato al direttore delle farmacie è proprio di fare una valutazione di qual è la soluzione migliore per la nostra comunità io dico semplicemente una cosa se noi abbiamo una farmacia all'interno di una struttura pubblica come la cittadella salute io credo che quella deve rimanere pubblica c'è una differenza tra le farmacie private e le farmacie pubbliche quelle private lavorano anche su budget che lì forniscono le case farmaceutiche quindi spingono certi prodotti piuttosto che altri ecco quando un utente va in una farmacia comunale non ha non ha questo tipo di spinte il farmacista ti dà quello che secondo lui è il farmaco migliore e anche al costo più basso e questa è una garanzia tante volte per i nostri concittadini insomma che se vanno nelle farmacie comunali è anche per questo certo bisogna cercare di farli in maniera che abbiano una resa maggiore ma anche questo tipo di indirizzo sociale deve essere mantenuto vado avanti veloce ecco anche lì su Emanuele Roperfido il consigliere Roperfido dice avete tagliato fondi della cultura abbiamo tagliato fondi da tutte le parti ma se aspettavamo che arrivassero i trasferimenti regionali saremo ancora nell'approvare l'intero bilancio e dovremmo aspettare tanto noi ci siamo in qualche maniera adeguati a quello che è la distribuzione dei decimini che fa la regione e abbiamo scelto quindi di fare un primo bilancio che non è la Bibbia perché ripeto io mi attendo sui trasferimenti che non so chi lo diceva mi sono fatto fare l'elenco dei trasferimenti siamo passati da 15 milioni del 2010 a 15 milioni nel 2011 nel 2012 14 milioni e mezzo nel 2013 12 milioni e 6 nel 2014 14 milioni e 2 e 3 nel 2015 12 milioni e 4 45 se ci mettiamo il milione e 8 che abbiamo peso in assestamento di fatto confermeremo l'entrata dello scorso anno dal punto di vista dei trasferimenti regionali poi è chiaro insomma uno dice ma dovremmo darne di più Pordenone si merita di più i criteri dovrebbero essere diversi sono d'accordo per quel che riguarda invece mi pare che più di qualcuno ha parlato dei giudici di pace credo che ci sia un accordo tra noi e i giudici di pace per dare una sistemazione seppur parziale ma con un intervento comunque di 70 mila euro quindi non un intervento da poco per quel che riguarda l'attuale sede è un intervento che viene fatto durante l'anno l'abbiamo concordato con i giudici di pace sono d'accordo con noi e quindi è un intervento per mantenere lì in questo momento efficiente la struttura è chiaro che la questione dell'investimento sulla ex biblioteca è un investimento che coinvolge i problemi del più del patto della stabilità noi abbiamo più problemi non a reperire risorse ma quanto a spenderle perché abbiamo il blocco adesso al tempo quando io le ho risposto non c'era neanche una richiesta ufficiale da parte del tribunale insomma di fare questo è venuta dopo la richiesta e noi cerchiamo in qualche maniera anche di assecondarla credo che l'impegno sia per se il patto di stabilità ci dà la possibilità di metterli ripeto non è un problema tanto dell'investimento quanto delle aperture del patto e su questo tengo presente che c'è un ordine del giorno che ci invita a chiedere risorse verticali sul patto lo faremo puntualmente come l'abbiamo fatto anche l'anno scorso fino a novembre abbiamo chiesto soldi fino a novembre proprio all'ultimo perché dovevamo spenderli entro l'anno quindi proprio per agire in extremis sul fine dell'anno quindi 70.000 euro consigliere Martino sono di investimento per l'attuale struttura tra l'altro abbiamo agito anche sul trasferimento degli archivi abbiamo fatto un po' di sistemazioni adesso serve questo investimento ulteriore per sistemare un'aula sotto per fare dei lavori che interessano proprio il decoro dell'edificio che è rimasto mezzo vuoto nel momento che abbiamo trasferito l'ufficiale giudiziario nell'altra sede messa a disposizione dalla regione insomma quindi lì abbiamo dovuto fare più interventi di decoro di manutenzione ordinaria e anche straordinaria se non siamo virtuosi è meglio io credo che perché gli altri che non sono virtuosi godono di più l'ho semplificata al massimo comportatevi male anche voi perché tanto non ci premiano io credo che noi dobbiamo comportarci sempre bene in ogni caso sta agli altri riconoscere che ci siamo comportati bene e non noi comportandoci male comportarci come anche chi si comporta male non sono esempi da seguire quelli lì è vero che le entrate tributarie sono passate da 20 a 31 io vi ricordo che in quel periodo i provvedimenti di Monti li votavano tutti in Parlamento sapete all'inizio quando si è votato forse la Lega non li ha votati forse la Lega non li ha votati ma tutti gli altri dell'emisfero che c'era in Parlamento ha votato quei provvedimenti che diceva tassiamo la prima casa era il modo per tentare di riavere la fiducia dei mercati internazionali poi ognuno ha le proprie opinioni anche su questo per i fondi europei è vero che abbiamo istituito questo nuovo ufficio sono 28 i progetti europei che abbiamo presentato fino adesso con partner anche stranieri Università di Milano Torino cioè comuni grandissimi quindi 28 l'assessore Rubino ne può dare testimonianza quindi anche lì abbiamo fatto la nostra parte speriamo che abbia un ritorno perché ancora non l'abbiamo visto però noi contiamo che ci sia un ritorno i 47 mila euro sono lo spostamento del personale che lavorava da altre parti per costituire un ufficio quindi non è un costo in più abbiamo spostato risorse costituito un ufficio che ha fatto fino adesso 28 progetti europei speriamo bene perché pagano anche il personale quindi speriamo bene su questo raccolgo anche tutte le osservazioni che ha presentato il consigliere del Ben e proveremo a fare tutte le modifiche sulla relazione che sono compatibili con l'approvazione di stasera per correggere magari qualche errore che abbiamo fatto che è di natura materiale sui pareri orali significa che ci sono le conferenze di servizi dove c'è un confronto fra chi ha il problema e chi è l'esperto avvocati e in questo caso non è che ci fa tanta burocrazia pareri iscritti si cerca di fare le conferenze di servizi per evitare anche aggravi burocratici e anche sulla questione sulla questione delle assenze è chiaro che un monitoraggio sull'assenza non significa contestualmente un avvio di procedimento disciplinare noi abbiamo un dato sulle assenze per malattia che credo che sia uno dei più bassi nel trivelito insomma da quello che mi è stato detto e quello che abbiamo anche pubblicato quindi non credo che sia un problema delle nostre risorse umane fare delle assenze non motivate è chiaro che se ci fossero i comportamenti non virtuosi è evidente che dobbiamo anche perseguirli perché è un obbligo che ci impone anche il legislatore un piccinato che mi dice di rinunciare ai progetti europei ai progetti PISUS io credo che no 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 è vero però ormai che ci sono questi qua che abbiamo vinto un bando che dà delle possibilità di investimento in infrastrutture ma che dà anche dei contributi ai privati per rivitalizzare il centro io credo che questi li dobbiamo usare insomma quindi probabilmente avrà anche degli aspetti non tutti virtuosi positivi ma il bando noi siamo arrivati secondi vorremmo averne il beneficio secondi dopo Tarvisio mi sembra terzi terzi perdono mi pare Tarvisio Tarvisio Trieste Pordenone quindi insomma non male consigliere Daniello fate investimenti è chiaro che noi risorse ne abbiamo tagliate tante vi dicevo noi ci aspettiamo che con l'avanzo dell'amministrazione qualcosa riusciamo e quindi con il consuntivo 2014 qualcosa riusciamo ad avere in più ma soprattutto ci attendiamo che sulla distribuzione dei decimini che viene fatta sulle risorse dello scorso anno da parte della regione e sui decimini di quest'anno riusciamo ad avere quelle risorse che ci permettono di mettere in sicurezza tutto quello che è tirato un pochettino e nello stesso tempo anche di investire magari in maniera oculata le risorse in più che verranno cioè la base di partenza questo bilancio non si esaurisce qua quando ci saranno le risorse che ci vengono trasferite e sicuramente ci vengono trasferite avremo motivo per discutere su dove allocare al meglio queste risorse senza rioccuparci di nuovo di tutto quanto quindi una discussione molto più mirata ma noi l'abbiamo chiesto a dicembre se ce lo anticipava non ce l'hanno anticipato siamo andati avanti e lo stesso e siamo andati avanti con un limite che ci siamo dati come maggioranza tutti d'accordo non possiamo più chiedere ulteriori tributi ai cittadini di Pordenone questo era il vincolo che avevamo noi siamo partiti da lì dobbiamo quadrare il bilancio senza chiedere ulteriori sacrifici ai pordenonesi siamo riusciti anche a fare una leggera diminuzione sulla pressione fiscale perché certo facendo dei tagli facendo dei sacrifici non dei tagli lineari ma dei tagli mirati e aspettando come dice il consigliere Dalmas il tesoretto che arrivi per no ma sull'ISEE sull'ISEE le dico solo una cosa noi sull'ISEE abbiamo delle soglie se l'ISEE ci dice che risparmiamo tanti soldi possiamo anche alzare la soglia al limite insomma cercheremo di adeguarci a seconda dell'ISEE non dipende da noi ma la soglia dipende da noi quindi possiamo anche lì far entrare far partecipi più persone una partecipi di più persone semplicemente alzando la soglia che l'ISEE abbassa nel calcolo che fa tenendo conto di altre risorse che una volta non venivano denunciate telecamere credo che non sia sufficiente semplicemente investire in telecamere le telecamere devono essere poi gestite gestite bene noi ne abbiamo 50 sulle strade vorremmo gestire bene quelle 50 non possiamo averne 150 gestirle male è meglio fare un investimento che ci consente poi una corretta e puntuale gestione voi pensate che semplicemente nei parcheggi sotterranei nei parcheggi in struttura noi gestiti da GSM e gestiti bene ci sono 230 telecamere circa 230 telecamere quelle non sono le telecamere che costano 3.000 euro come quelle che abbiamo sulle strade sono telecamere che costano 300 euro ma ne abbiamo 230 ecco se c'è una struttura che con un polisportivo dove il privato vuole gestire le telecamere possiamo anche metterle ma se il privato la società sportiva non ha questo tipo di vocazione non riesce a gestirli è inutile mettere telecamere le telecamere si investono dove c'è un ritorno nel senso dove c'è un controllo sulla gestione una manutenzione continua e la possibilità che funzionino bene noi ripeto ne abbiamo 200 sui parcheggi 50 di quelle che costano 3.000 euro l'una e manteniamo quelle insomma le manteniamo al meglio 52 io a rotondo per quel che riguarda il consigliere Ribetti la questione del contributo dato dall'assessore regionale come si chiamava non mi ricordo più mi sfuggi sì sulla sicurezza di Trieste cioè l'assessore regionale ecco noi avevamo messo a disposizione su un bando queste risorse perché ci fossero privati che facessero domanda noi abbiamo esaurito quelle domande lì sono rimaste delle risorse e cosa abbiamo fatto le abbiamo utilizzate diversamente perché i privati più di quello non avevano chiesto sì sì è certo che è così certo che è così io ricordo questo io ricordo questo dopo sul fatto che si illumini qualcosa che era percepito come insicuro come la stradina che corre dietro il carcere o il parco Querini o altre vie è stata una scelta fatta consapevolmente in questo consiglio comunale si può essere d'accordo o meno forse qualcuno avrebbe preferito più telecamere noi abbiamo fatto una scelta un po' di telecamere sì e l'altra parte forse era meglio anche rendere più percepiti più sicuri certi percorsi che venivano fatti soprattutto da persone da signore o magari da persone più deboli diciamo e che sentivano che attraversare quella parte di strada lì all'oscuro non era così sicuro e abbiamo fatto una scelta e andava sempre nello stesso nello stesso indirizzo della sicurezza insomma in qualche maniera non più tardi di poco tempo fa qualcuno ci aveva rimproverato che abbiamo illuminato poco il parcheggio di fronte al Lido insomma che è illuminato ma voi dite è illuminato poco bisogna illuminarlo di più ecco capisce dopo a seconda degli avvenimenti è chiaro che si tira più un po' di più da una parte un po' di più dall'altra abbiamo fatto una scelta ce ne assumiamo anche la responsabilità di averla fatta credo di aver risposto un po' a tutti non agli elogi che ci fanno assolutamente piacere credo che gli emendamenti ecco sugli emendamenti l'emendamento delle telecamere i 16.000 voi togliete 16.000 euro che sono 16.000 euro impegnati per le riviste della biblioteca e quindi è una cosa che per noi allora tra l'altro l'investimento che si fa l'investimento che si sa non è parte corrente del bilancio è titolo secondo e credo che già con l'avanzo sicuramente riusciamo a mettere questi soldi quindi non possiamo approvare il vostro emendamento ma l'impegno è che con come vuolette se lo trasforma noi lo accettiamo perché è un'indicazione che accettiamo lo facciamo nostro allora c'è un emendamento che dice 16.000 euro in meno di spese che vanno per acquisti della biblioteca che sono già impegnati di fatto perché sono proprio all'osso quelle risorse lì quindi questo emendamento lo bocciamo lo trasformiamo in un ordine del giorno che ci invita in titolo secondo in avanzo di amministrazione a utilizzare delle risorse di avanzo di amministrazione va bene perfetto giustamente poi se se lo trasforma in questo questo lo lo trasformano loro in vuoi fare una raccomandazione va beh facciamo una raccomandazione che è più semplice adesso questo lo ritira lo ritira e lo trasforma in raccomandazione può diventare l'ordine del giorno ma se lo facciamo no se lo facciamo nostro non lo votiamo neanche va bene la stessa cosa facciamo per l'indirizzo con il quale si impegna la giunta a mettere in atto tutte le azioni volte ad accedere a spazi finanziari verticali regionali di cui la delibera della giunta regionale 646 del 10 aprile 2015 è una nostra convenienza lo facciamo senz'altro nostro noi andremo lì a battere i pugni per chiedere maggior spazi possibili per quest'anno perché ne abbiamo la possibilità di poi come a tre i pugni sul serio con educazione ma sempre sul serio e così come l'impegno la giunta a farsi passi attiva per sola regione per risultare beneficiaria di contributi per l'edilizia scolastica assolutamente un invito che raccogliamo positivamente per quel che riguarda l'ultimo emendamento che è quello sulla riduzione del 20% dell'indenità degli amministratori delle partecipate al comune di Pordenone per la parte cedente ai 24.000 euro noi facciamo la riduzione come dice la legge dice per 20% per chi fattura oltre il 90% all'amministrazione comunale a questo diamo seguito perché questa è la legge altro no quindi alla legge noi diamo seguito il meno 20% verrà ci concretiserà con una riduzione soltanto per le partecipate che fatturano almeno il 90% all'amministrazione comunale su questa ne abbiamo diritto su altre no cioè come fa un amministratore è la legge la legge si applica ad avere un'identità di 20% questo lo dobbiamo così come lo respingiamo però questo lo respingiamo gli altri abbiamo accolti perché non fanno bene due e uno in raccomandazione si ho trasformato in raccomandazione si dichiarazione di voto dai via ok adesso votiamo allora siamo alla scusate la deliberazione la proposta di deliberazione numero 4 2015 approvazione delle modifiche regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale iu allora dichiarazioni dichiarazioni di voto prego consigliere si delibera per delibera consigliere Giannelli assessore dove assessore sono scusi consigliere è pacifico è una storia ma si ma l'abbiamo sempre fatto è pacifico se uno vuole fare un unico intervento per tutta la deliberazione lo può fare ok prego complimenti all'assessore mazza della sua struttura lei ci ha messo proprio impegno è bravo è veramente bravo ci ha messo impegno allora questa è una storiella noi ci immaginiamo una famiglia il papà stanco anziano sono venuti a mancare ben due stipendi i costi fissi sono sempre gli stessi le tasse sono aumentate quindi il papà decide meno spese ragazzi niente più la governante la nuova casa ve la scordate ma neanche l'ampliamento neanche l'ampliamento la nuova macchina non se ne parla nemmeno e la paghetta ai ragazzi saltate anche la paghetta stop anche alla badante signori miei ogni sera c'è questa cena a casa col papà con i capelli bianchi stanco e sti figli tristi 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 c'è da mangiare c'è anche la televisione accesa ma sono tristi succede che il nonno viene mandato in ospizio dei tre figli Nico decide di andare via scappa era un tecnico informatico aveva grandi idee e va via Franco comincia a drogarsi Aldo il terzo figlio cade in depressione signori la situazione diventa e ogni sera a cena sono lì ma sti tre ragazzi non esistono più i due figli rimasti perché uno se ne è andato via è andato in America i due figli rimasti e il nonno con la mamma decidono di mandare via il papà ciao il papà che pure sembra un bel uomo bianco di capelli sempre ben vestito eccetera viene cacciato signori Pordinone si aspettava qualcos'altro da voi quindi voteremo contro sì va bene lo deve dire lui se vuol dirlo lo dice consigliere Pasut prego grazie presidente brevissimo telegrafico confermo il buon lavoro svolto dall'assessore dagli uffici tutto quanto però il mio voto della lista che rappresento sarà un voto contrario e la bocciatura sarà una bocciatura politica non voglio che sia precisa questa cosa cioè noi bocciamo non rileviamo margini dentro i quali politicamente si possa accettare una roba di questo genere avete fatto un buon lavoro ma politicamente non siamo d'accordo per cui voteremo contrario a questo bilancio grazie prego consigliere Tomasello chiaramente il giudizio del mio gruppo il giudizio da parte del mio gruppo sicuramente è un giudizio positivo io volevo fare nient'altro che esaminare ciò che si era rilevato forse questa sera e che ormai tutti i gruppi hanno riconosciuto cioè che in questi ultimi anni c'è stato appunto questo trend di diminuzione dei trasferimenti statali e regionali che hanno penalizzato l'ente l'ente comune e i comuni questi enti che sono quelli più vicini ai cittadini e alle loro esigenze hanno perso la possibilità di decidere indirizzare lo sviluppo dei propri territori io l'auspicio e l'augurio che voglio fare con questa dichiarazione di voto è che questa tendenza muti e che la politica riprende i suoi spazi anche all'interno dei comuni e quindi mi vorrei ricollegare a quello anche che aveva detto il consigliere Salvador con riferimento anche alla riforma sui denti locali che è stata fatta dalla regione Friuli-Venezia-Giulia adesso nei prossimi mesi ne vedremo l'attuazione io sono anche un po' sono anche un po' preoccupato perché non riesco a capire che ruolo va il comune all'interno di questo nuovo organismo di questo ente di questo ente secondario il mio tumore è quello che il comune perda quel potere politico che adesso quantomeno aspira ad avere e rischia appunto di perderlo poi definitivamente io ritengo che comunque la scelta fatta da questa amministrazione che ha avuto un'approvazione si può dire trasversale quella di portare avanti il discorso dell'Utunica rappresenta per me l'unico modo per dare attuazione e per dare quindi e dare la possibilità a questo territorio di farsi valere comunque poi vedremo in futuro esprimo volevo fare alcune osservazioni relativamente 30 secondi per quanto riguarda gli sperperi non ci sono sperperi in questo binancio vorrei riferirmi quanto detto il consigliere Piccinato che parla di sprechi quando si riferisce a soldi stanziati per il piano della mobilità o per il piano regolatore ci si riferisce che questi sono investimenti per attività che permettono di misurare la qualità della vita è pacifico che tagliare queste forme di investimenti queste spese significa immobilizzare l'attività istituzionale di questo di questo ente per quanto riguarda il consigliere Loperfido che ha fatto tutta una elencazione di quello che non è stato fatto io prima sono andato velocemente a vedere nel sito del comune e ho visto una pagina appunto del sito che riguarda appunto il controllo di gestione una pagina curata direttamente dal dottor Canal e mi sembra dove si evidenza quanto è stato fatto anche quello che lui dice che non è stato fatto ma è stato fatto poi sui PISUS ha già anticipato lei assessore il PISUS è stato definito dal consigliere piccinato un insulto così riporto quello ma indirettamente invece allora anche un insulto all'assessore Seganti che è stato colui quale l'ha proposto mi sembra nel 2011 un assessore della Lega della Lega io penso che invece il PISUS porterà dei benefici a questa città stiamo 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 applauso all'asseganti ecco come mi suggeriscono quindi concludo velocemente il voto del mio gruppo quindi sarà un voto favorevole per tutte le delibere poi per quanto riguarda gli emendamenti ci rimettiamo alla decisione che ha preso l'amministrazione grazie grazie consigliere Tomasello consigliere Piccini prego grazie presidente mi sembra di aver capito che i colleghi hanno fatto una dichiarazione unica e quindi anch'io prendo la parola adesso per la dichiarazione di voto unica anzi inizierei dall'aspetto quello relativo al discorso degli emendamenti anzi di un emendamento perché gli altri sono ordini del giorno ringrazio l'amministrazione per aver accolto gli ordini del giorno accetto il fatto di trasformare questo emendamento in ordine del giorno o raccomandazione nei termini che venga ripristinato l'importo che era stato stabilito o come dire anche di più rispetto a quello che sarà in relazione al ragionamento che abbiamo fatto prima e anche al numero delle telecamere che dovrebbe aumentare da 50 a 52 scritto qua eh avete dedicato una facciata alla sicurezza una anzi due facciate e mi dite anche che non è vero che da 50 allora metto ai voti questo emendamento e lo bocciate allora scusi no ma scusi no ma scusi perché io avevo già messo via tutto qua indicatori strategici numero telecamere di controllo del territorio attive 2012 13 12 consuntivo 2013 preventivo 2014 consuntivo 2014 50 preventivo 2015 52 bene grazie perfetto benissimo facciamo quella mobile bene allora di questo per quanto riguarda invece l'altro ordine del giorno che è quello relativo alla riduzione del 20% lo mettiamo non lo ritiro e lo metteremo ai voti poi insomma voi farete quello che ritenete opportuno allora in riferimento a quanto è stato detto per il bilancio da molti colleghi insomma sostanzialmente quello che è stato fatto è una un po' un copia e incolla rispetto a quello ed un proseguo rispetto a quello che è l'attività e le strategie che si è data a questa amministrazione e noi in continuità rispetto a quello che abbiamo fatto negli altri bilanci almeno per quanto mi riguarda non credo ci saranno dichiarazioni di formità da parte dei colleghi voteremo contrari tra i bilanci e la poesia ci sono tante cose in comune caro assessore la fantasia ma però ma però perché anche nei bilanci ci si può mettere fantasia ma però poi la fantasia era il potere dice Riccardo ma questo ma il compito però dell'amministrazione comunale al di là della fantasia è quello di calarsi nella realtà piuttosto dura che pervade tutte quante le nostre città e abbiamo detto prima perché a noi non sembra che questo sia accaduto e per questo motivo voteremo contro grazie grazie consigliere Picin consigliere Freschi prego grazie presidente è un'unica dichiarazione di voto il nostro voto sarà positivo per quanto riguarda tutte le delibere che sono state presentate so che il mio intervento è stato ripreso più volte oggi per quanto riguardava il discorso dei giovani volevo semplicemente sottolineare il fatto che il problema giovane non è il problema del comune di Pordenone il problema giovane è il problema paese ecco semplicemente perché qualcuno aveva preso un po' questa questa mia dichiarazione come dire ma il comune cosa fa ogni passaggio su questo argomento meriterebbe degli approfondimenti e non di poco conto noi facciamo la nostra parte per quel poco che ci compete ma soprattutto il mio obiettivo era quello che nelle nostre politiche mettessimo davanti questo tipo di problema nel momento in cui facciamo delle scelte per quanto riguarda il resto non mi pare io capisco l'opposizione della consigliere Picin che giustamente viene da un'altra formazione politica di opposizione per cui è chiaro che di fronte al bilancio che è uno strumento politico la posizione sia contraria ma ci tenevo a sottolineare e questo anche per il rispetto del lavoro che è stato fatto da parte della struttura e degli uffici che questo non è un bilancio fotocopia questo è un bilancio che è stato costruito come dicevo all'inizio in un momento particolarmente difficile della vita del paese e del comune è stato costruito con attenzione e con diciamo molta parsimonia i dati lo dimostrano e penso che di questo vada dato atto alla struttura e all'amministrazione per queste motivazioni come dicevo all'inizio il nostro voto sarà favorevole a tutte le delibere grazie grazie consigliere Freschi consigliere Bianchini prego grazie presidente dispiace che alcuni consiglieri non ci siano di opposizione perché magari qualche risposta a delle illazioni o delle numeri eletti male erano gradite anche da parte dell'amministrazione ma visto che sono andate via prima non vale la pena neanche riprenderle e ovviamente il fiume voterà a favore proprio per la stessa motivazione per cui il consigliere Pasut vota contro cioè è un bilancio fatto bene però lui vota contro noi voteremo a favore perché è fatto bene è ovvio che è fatto bene questo bilancio è ovvio che non ci sono voli pindarici e l'abbiamo capito negli interventi fatti dai consiglieri precedentemente è stato già ben evidenziato tutte le varie motivazioni io volevo soltanto rubare due minuti perché dispiace a noi del fiume che non viene messo l'accento su un emendamento invece molto importante che l'amministrazione ha fatto e ha portato venerdì in commissione oggi qui ed è l'emendamento quello dell'acquisto cosiddetto degli obblighi delle obbligazioni e cioè cerco di spiegarlo ovviamente non sono un tecnico quindi lo spiego come l'ho capito penso che l'ho capito abbastanza bene insomma noi abbiamo 25 milioni di euro che sono bloccati per il patto di stabilità cioè questa è la cosa che conosciamo da tempo non la solidità abbiamo 25 milioni di euro per fare il mondo a Pordenone e non possiamo utilizzarli ma l'idea ottima che è venuta sia dagli uffici dal segretario che dall'aggiunta è quello di utilizzare una parte di questi soldi e quindi penso di dare una notizia nuova anche all'opposizione che magari non è riuscito a cogliere questa cosa 5 milioni di euro di questi 25 milioni vengono messi per delle obbligazioni della banca e la banca si obbliga a dare questo plafond di soldi per prestiti delle piccole e medie imprese del territorio ecco io credo che questo solo per questo vada votato il bilancio cioè questa è un'azione molto concreta che con una semplice operazione l'amministrazione di Pordenone porta nel concreto una politica che in questi 4 anni e mezzo ha cercato di fare con tutte le difficoltà del tempo riuscire a mettere in movimento 5 milioni attraverso dei mutui agevolati con tassi agevolati e con una risposta veloce di richiesta entro 30 giorni da come lo letta io e credo che sia una delle cose più importanti che oggi andiamo a votare il bilancio ovviamente importante mettiamo la seconda cosa è questa e per quello che noi spieghiamo che l'amministrazione attraverso il suo sindaco e attraverso la banca si fa una conferenza stampa che veda ovviamente tutti noi a maggioranza e opposizione applaudire per questa idea coinvolgere poi le categorie perché la cosa difficile di questi ragionamenti infatti anche tra l'altro adesso non vedo il collega lo perfido ma la provincia ha fatto una cosa simile nel 2013 la difficoltà perché sono andato a informarmi è quella proprio di portare a conoscenza di questo le piccole e medie imprese perché comunque c'è le piccole e medie imprese sono ogni giorno impegnate nel mandare avanti la propria azienda e non vanno sicuramente a verificare cosa fa l'amministrazione perché hanno soprattutto in questo momento altro da pensare quindi è bene fare un passaggio con le categorie con le associazioni e portare a pubblicità di questa cosa in tempi brevi ovviamente visto che oggi lo votiamo no io non credo anzi sono convinto che anche per le nuove imprese e parlo di start up il credito sia fruibile perché questo perché mi sono informato che attraverso ovviamente confidi perché non potrà essere i vari confidi del territorio non potrà essere se non hanno le garanzie per prendere questi per attingere a questo plafond di euro possa essere invece una piccola goccia sicuramente ma un aiuto per anche quelle nuove imprese che hanno voglia di iniziare un'attività nel Pordenonese io credo invece che tutti quanti dovremmo sottolineare questa cosa anche sui giornali anche tra le nostre conoscenze territoriali no invece penso proprio di sì guardi bene grazie grazie arrivederci silenzio grazie consigliere ribetti prego buongiorno buongiorno no no buongiorno finalmente finalmente abbiamo trovato un motivo per cui si dovrebbe votare a favore di questo per cui si dovrebbe votare a favore di questo bilancio peccato peccato che questo emendamento francamente lo stavo leggendo e rigelgendo adesso che cercavo di capire dov'era 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 la cosa che tu hai detto che mi era sfuggita Bianchini e francamente non la trovo io vedo semplicemente che l'amministrazione mette in parte investimenti necessari di stanzare 5 milioni per deposito a frutto eccedenza di cassa autofinanziati con entrate corrispondenti per fortuna che il dottor Bianchini mi ha spiegato qualcosa di economia perché se no e tu dici che non servivano niente chiaramente poi dopo recuperiamo per fortuna che il professor dottor Bianchini mi ha spiegato qualcosa altrimenti non ci arrivavo e infatti dopo se mi fai avere anche la bollettina però ecco stavo dicendo assessore che a parte questo impegno generico e null'altro vedo scritto quindi non è uno strumento che si è inventato con tutto rispetto per l'assessore Mazzer mi sembra che venga anche dato atto che era stato fatto anche in precedenza da qualcun altro quindi meglio tardi che mai verrebbe da dire qualora qualora verrà fatto meglio tardi che mai ma non basta non basta questo vedi vede consigliere Bianchini lei forse è abituato alla pochezza dei bilanci che ha votato a favore fino adesso che quindi potrebbe sembrare una grande cosa ma io ritengo che le lacune e le pecche come ho evidenziato di questo bilancio come di quelli che l'hanno preceduto a cui lei ha dato un voto favorevole la fanno capire lunga di quant'è la sua preparazione in termini di contabilità pubblica io non sto offendendo è lei che ha offeso Bianchini si ricordi io non sto offendendo è lei che ha detto che non ne capisco niente di economia quindi e poi se vuole interloquire quando vuole Bianchini se mi fa finire invito i consiglieri a terminare la seduta in modo civile e pacifico visto che siamo arrivati fino alle 10 però è difficile per cortesia non interrompete il consigliere visto che quando io dico qualcosa i richiami me li prendo non interrompete il consigliere prego ecco comunque io ritengo ritengo che questo bilancio Assessore come ho detto prima ho cercato di evidenziare perché forse a differenza di qualcuno della maggioranza che parla giusto per parlare magari senza guardare i dati se qualcuno la cuore i pagli non mi sono riferito a lei ho parlato di qualcuno a maggioranza quindi ho cercato di spiegare le motivazioni per cui voto contro e per cui il mio gruppo voterà contro e motivazioni che non sono certo superate da qualcosa che per quanto positivo se verrà fatta ripeto perché allo Stato non sappiamo se verrà fatta perché un impegno dell'amministrazione è uno stanziamento non c'è un accordo preciso giusto? o mi correga se sbaglio abbiamo un pezzo di carta che ci dice che la banca ha accettato questa cosa non lo abbiamo di impegni ne sono piene le fosse ecco quindi questo tentativo questo impegno questo impegno l'amministrazione non può far altro che diciamo 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 che non c'è una riga allora non c'è ma non c'è d'altronde Franco scusate per cortesia e così si fa faccia la dichiarazione e così si la rante silenzio silenzio e così si la rante sentire Franco ci è venuto a rispondere c'è un impegno ma c'è corrispondenza ecco vi ha capito quanto qualcuno ha maggioranza di appeso al valore giuridico degli atti c'è corrispondenza va bene comunque comunque ci ho detto ci ho detto ribadisco silenzio ma non c'è stata affatto a vedere ci ho detto ribadisco per le motivazioni tutte che ho detto negli interventi il voto contrario del gruppo su questo bilancino su questo bilancino che ci è stato proposto grazie dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto bene passiamo alle votazioni chiedo un po' di silenzio per non confondere allora pongo in votazione la deliberazione avente seguente oggetto proposta numero 4 2015 approvazione delle modifiche regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione seguente presenti 33 votanti 32 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 8 astenuti nessuno la deliberazione è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è la seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 17 favorevoli 24 contrari 9 astenuti nessuno la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile bene mettiamo passiamo adesso alle votazioni per conteguare la proposta numero 5 2015 imposta municipale proprio anno 2015 aliquota e modalità di applicazione dichiaro aperte le dichiarazioni di voto nessuno iscritto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto passiamo le votazioni dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito della votazione è la seguente presenti 33 votanti 32 maggioranza 17 favorevoli 24 contrari 8 astenuti nessuno la deliberazione è stata approvata pongo ora i voti della immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito votazione è la seguente presenti 32 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 24 contrari 7 astenuti nessuno la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla proposta numero 6 2015 dichiarazioni di voto nessun iscritto pertanto passiamo alle votazioni allora mettiamo in votazione la proposta numero 6 2015 tributo sui servizi indivisibili tasi determinazione aliquote detrazioni per l'anno d'imposto 2015 dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favorevoli 24 contrari 8 astenuti nessuno la deliberazione è stata approvata pongo pongo i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito la votazione è seguente presenti 32 votanti 32 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 8 astenuti nessuno la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile passiamo passiamo ora alla proposta numero 7 2015 dichiarazione di voto nessuno iscritto perciò passiamo alla votazione proposta numero 7 2015 Tari 2015 approvazione relazione di accompagnamento e piano economico finanziario relative ai costi di gestione dei rifiuti per l'anno 2015 dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto legge a votazione seguente presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favorevoli 24 contrari 8 astenuti nessuno la deliberazione è stata approvata poniamo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 32 votanti 32 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 8 astenuti nessuno la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile passiamo ora alla proposta numero 8 2015 sull'approvazione tariffettari per l'anno 2015 dichiarazione di voto nessun iscritto passiamo votazione pongo in votazione la delibera la proposta numero 8 2015 approvazione tariffettari per l'anno 2015 dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito votazione seguente presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favorevoli 24 contrari 8 astenuti nessuno la deliberazione è stata approvata pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto l'esito votazione seguente presenti 32 votanti 32 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 8 astenuti nessuno la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile passiamo ora alla proposta numero 9 2015 non ci sono iscritti per le dichiarazioni pertanto pongo in votazione la proposta numero 9 2015 conferma correttivi per il calcolo dei tariffi tari per le categorie economiche 22 23 24 27 dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto non funziona metteremo a verbale legge la votazione seguente presenti 32 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 24 contrari 1 astenuti 6 la deliberazione è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 32 votanti 31 maggioranza 21 favorevole 24 contrari 1 astenuti 6 la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile proposta numero 10 2015 nessuno iscritto per le dichiarazioni pertanto passiamo all'operazione di voto allora poniamo in votazione la proposta numero 10 2015 piano delle allenazioni e valorizzazioni immobiliari e piano delle acquisizioni immobiliari per l'anno 2015 approvazione dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito l'esito della votazione è seguente presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favorevole 24 contrari 8 astenuti nessuno la deliberazione è stata approvata è stata dichiarata immediatamente eseguibile eseguibile bene passiamo ora alla proposta numero 11 2015 qui dobbiamo passiamo alla proposta numero 11 2015 dichiarazioni di voto non ne vedo pertanto passiamo alle votazioni allora poniamo prima in votazione non l'ordine del giorno numero 1 numero 2 perché sono stati accolti poniamo in votazione l'ordine del giorno numero 3 presentato dai scusate presentato dai consigli piccinato per son bene allora dichiaro aperte le operazioni di voto sull'ordine del giorno numero 3 dichiaro chiuso l'esito della votazione è il seguente presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favorevoli 7 contrari 24 astenuti 1 l'ordine del giorno è stato respinto questo è stato trasformato in raccomandazione pertanto passiamo adesso alla votazione della proposta numero 11 2015 approvazione dei bilanci di previsione annuale 2015 e pluriannale 2015 2017 della relazione previsionale programmatica 2015 2017 e del programma dei lavori pubblici annuale 2015 e triennale 2015 2017 così come emendata dall'amministrazione dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favorevoli 24 contrari 8 astenuti nessuno la deliberazione è stata approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 32 votanti 32 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 8 astenuti nessuno la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile faccio i complimenti alla segreteria per aver operato con questa precisione vista l'ora e il lavoro grazie bene signori abbiamo chiuso i lavori e dichiaro chiusi i lavori sono le 22 01 penso che la mezz'ora non la utilizziamo per interrogazioni verrete siete riconvocati al domicilio grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti